Aoooooo Ceristo? Sa sa prova? Prova sa... Uccidendo Come va? God save the queen Infatti perchè il king fa una finaccia Brumotti viene richiato dal principe Filippo Bene, bene ha fatto il principe Filippo A gonfiare Brumotti L'audio mi sovrasta infatti se sente Riassunto... No! No! Riassunto del mio video Eh, guarda! Lo sai? Allora Penso adesso è stato chiaro Quindi Domenica vediamo Demoslayer Martedì inizio Bloodborne Non è venerdì a sto punto Ma sa che parlo di... D'attacchi ai giganti Mi sa che si spoilera l'attacco ai giganti Grazie a cipolli... L'uno Per l'undersico mese È il momento di regalarti la mazzolfregno buffo Grazie Grazie Io sabbo Hashtag io sabbo Dopo io apro io sabbo Tutti così Che ricetta è detto a Roma il bordello No vabbè ma... Se avete il Prime a gratis Comunque Non... Se no tenetevi i soldi Io non sabbo Creveger Grazie a Crazy Alchem Di vedere 300 doppiato in Pesca Rissi Poi lo vedremo magari Adesso se vediamo il mio Che so quattro minuti di video Per cortesia Ho appena letto il volume 32 Eeeh De Berserk presumo Non lo so Chiami di nuovo caverna Può essere Gli mando gli audio Se mi risponde bene Mashe One Punch nel mondo di Harry Potter Non lo conosco Grazie agitatore di Boomer Pesante Te si ama grazie Ma perché non fa il Face Reveal? Perché Non ho una faccia Ho tre occhi e due nasi Eeeh Non mi vado ad essere additato Capito? Sono brutto Sono molto brutto Quindi non voglio che la gente mi guardi Perché non sono un animale Sono un uomo Sono un uomo Ciao Winter Grazie a Just Per il Prime The Fjaltman Mo' adesso lo andiamo a vedere What? What? Grazie a Shiro Bagu Reddit lo famo venerdì prossimo Draghi Venerdì prossimo Animali Fantastici 2 Arriverà entro l'anno Grazie mille il messaggio di martedì MARCO! Basta Marco Comprano è passato Ma non è che tutti i giorni Marco Eeeh Bebbi Un saluto Rimani Modesto Non umile Modesto Grazie a Kerikman Il quindicesimo mese Madonna stiamo a invecchiare Ok Stiamo a invecchiare insieme Ok Rickman Invecchieremo insieme Mamma mia E' una minaccia Per meglio di ho Per meglio di ho comprato il letto Il fuoietto di V per vendetta Sono contento Domani è interrogazione su Sparta Oh Adel Non ti serve studiare Oggi Buccio del culo Ma se sei tu 88 devi fare interrogazione Ma hai 30 anni Cucca Vabbè Si umili umiliati Nooo Nooo Mi sembra troppo Vabbè lo leviamo Filippo Dedimburg Dedimburger Dov'è? Non è questo Eccolo Ciao Filippo Ciao Roger Ma si vede là? Sì sì Perfetto Guarda è Crash Alive Crash Alive Così fa quando crashano Sta a crashare ragazzi F5 F5 Nooo 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 No non c'è l'uptime C'è la manetta 5 minuti che sto in live C'ho sete Allora ragazzi Allora ragazzi Io prima di partiremo Partiremo subito C'ho paura C'ho paura Però che mi sovraecito Se bevo una birra Oppure mi abbiocco Però ma voglio riposare Voglio stare con noi Voglio stare insieme A voi Non lo so Volevo bemmo il vino Che è rimasto dall'altra settimana Solo che il vino mi abbiocco No il vino bianco Però c'ho paura Pure che va male Il moscato d'asti Il vino che piace a Veronica Però ho meglio una birra Che dici? Una birretta Però io ho maniato poco Come sovraecito Diventa folle la questione eh Io ve lo dico Potrei esagerare Potrei cominciare a dire qualcosa Contro i banchi Chissà quella live lo sa Quindi Non Non capisci Lo so che c'è 300 Larba di un impero E voglio dire una cosa Io ho 2-3 frasi Ho tagliato del riassunto Porca puttana Una di quelle Grazie Expositus Per il primo prime Una di quelle era No non lo faccio L'alba di un impero Ce la devo lasciare Perché tutti a me chiede Ma è l'alba di un impero Ma Da quello che mi ricorda È una cagata mostruosa Inutile Grazie Daftnovast 10 pesi Madonna Quindi Può essere tutto in futuro Però non lo so Intanto bevo l'acquetta fresca Comunque Ciao Ennath Grazie Epri5 Fra ieri e oggi Ho rotto il telefono No La banca mi ha bloccato la carta A caso No Casini a lavoro Mi è esploso il pc per un virus Frate Ma io che ho fatto di male Che selva Dai prenditi una birretta Che cosi mi tiri su di morale Come è l'ultima volta Va bene Allora Bembriaco per te fratello Bembriaco per te Comunque allora Cioè Manda il telefono in assistenza Se puoi ancora Pure a me mi si è rotto recentemente Avevo pure detto Ho dovuto fare una live Con l'altro telefono Ha vinto il sigo Il mille per cento E' vero Una birretta fresca Che Allora Se c'è samsung apple In teoria dovrebbe essere gratis Oggi se guarda 300 C'è nel titolo Simone Simone E comunque Vabbè ne apro la birra Una è nei canna latina Ce ne ho tre Trecento Ne bevo una ogni Centomila iscritti No il vino Guarda il vino però è peccato Che va male Non mi va Simone Non mi devi Sto scherzando Simone Simone Mi fa incazzare Perché non capisci gli scherzi Simone Vado a prendere un bicchiere Bicchiere pulita No 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 Non bevo diretto dal coso Non lo so Non lo so Poi tanto faremo pure la pausa Giastitta ragazzi Mi piscio Ce ne ero in live No non bevo tutto No Dai Tutti che ti ami Simone Glassi come ti permetti Non lo so Già strittiamo insieme una pizzettina Un primo Non lo so Una pasta al pesto Questa live andrà più lunghe che sì Andiamo? Dai dai Sono passati dieci minuti Chi c'è c'è Chi non ci arriverà No che che sto a fare Ah devo andare a prima a vedere Allora Firefox Firefox No le max No tolgo bene Ma l'altra volta troppo carino Mi ha mannato Siccome mi ha ordinato le cine Mi ha mannato E' il nut Cinque abbonamenti E' il nut Ma ti sono successe le peggio cose Io lo so che muove bene E se uno dei top donatori Guarda Se puoi va bene Però Se no devi riparare il pc Devi fare tutto Grazie mille zio Grazie No tiro su col naso sempre Non è altro Porca troia Lo devo dire una volta Al mese So sempre raffreddato C'ho Fumo Quindi C'ho sempre il naso otturato Non faccio uso di sostanze Cristo E mo tiro su col naso Grazie a crumi Solo che con sto blu iate Si sente da paura Cazzo Tiro tutto su col naso Vanno d'affanculo tutti Basta fumare C'è di ragione Quindi mi accendono Si è detto Allora Si ricarico la live A meno che non dica Di dare fuoco a qualcosa Che non lo so Mi distorcio Mi distorcio Io devo essere forte Il mio bambino Mi sta chiedendo Di essere felice Lo capisci? Brava Naturalissima Ma come hai fatto Ma pure questo gesto Di ispirare Veramente Ma come ti è venuto Allora Guardiamo 300 Bravissima C'è si fai Hellboy Sarebbe contatta Veronica Facessi Hellboy Con Vile Che ne stavo a vedere un pezzettino Ho visto la prima metà con Veronica Poi ero stacco Mi sono bioccato Mannaggia a me Ma no per il film Ed è quello che ho capito E che lui è zunderino E' tanto zunderino E' il boy Zunder E' zunderbo Ci piace giocare al coccodrino Sul pavimento La lucertola Vile da turbosmart Valentino Allora Ci siamo Andiamo a vedere Questo video Che sta 612 mila views In 10 giorni 11 10 è qualcosa 11 alle 9 Ma è una cosa Veramente Boh Flex Non è flex C'è scritto qui Grazie a glassi Schippo i miei ads Sì ma pure voi Basta che parte la pubblicità Poi se ci sono 10 minuti di pubblicità Schippatela Porca puttana Grazie a lao Chi è? Sì lo guardo tutto Sì che sì Grazie a chi sei? Laolo Pimiti Per l'ottavo mese Sentivo malefisione E se abbono al tuo canale Beh l'ottavo mese Grazie Paolo Limiti Al contrario Grazie a Eug99 Madonna L'Eptra Nello 5 Ma Va bene Come Grazie 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 Alla Mad Doge Per il quarto mese Grazie mille Mo' vado eh Io sono qui Per pubblicità Mi pare giusto Oggi sono visto 10 minuti di possibilità Ah ok Vabbè Se sei andato al bagno Tu l'hai visto In tre giorni Va bene Adri Ce lo vediamo Tutto insieme Luca Grazie Per l'abbonamento A Fracchio Mon Fracchio Fracchio Mon Dai E tutte cose Mon Guardiamo il video Perché Perché no Me sta Allagga tutto Aspetta Che controllo Poi parto Col video Fidate Fammi vedere Che succede Insieme a noi C'è Fracchio Mon Eccoci Via Metto così Così Sotto c'è il titolo Vado eh Davvero Freebooters Guardi i video Di youtube Su twitch Si ma I miei Video I miei I miei Director's cut Adesso Vi spiegherò Tutti gli memi Tutto quello Che non avete visto Tutto quello Che intendevo Director's cut Come c'è nei dvd Porca troia Voi li comprate I dvd E lo mettete Il sottotitolo Il commento Del regista Non rompe Ecco Io gratis Quindi Non rompete il caso Ok 139 Venerdì prossimo Parlamo di out Va bene Oh Via Benvenuti I muoricini Miei Nello specialino Dei 300 Gruppetti Da mille Grazie galaxy Quinto mese Quello dei 200 Grazie Grazie a tutti Grazie che mi fate Campare Come nasce Questo Spera Dei 200 Grazie Grazie a tutti Grazie che mi fate Campare Campare Mi faccio vedere Il primo meme Che si vede Mi fate Campare Grazie a ciao mondo Per il primo prime Venerdì Come nasce Questo speciale Io mi stavo Cervelando Nasce qua Strike ci sei Perché volevo Fa tutte cose Magari uno speciale De san valentino Visto che non l'ho mai fatto O siccome stavo Uscì in altro One shot One shot De death note Ma non ho capito bene De che si tratta Ecco Allora L'ho capito Alla fine Non è uscito Niente Cioè Era una raccolta Di storie Già Già Esistevano Quindi Era una merda Grazie a Leon Wild Ti piace il League of Legends Dice Gioca nel 2012 Per san valentino Hai visto il fantasma Della muopera Che bello che era La gente mi ha pure scritto Nei commetti Ma come San valentino ad aprile Vabbè Questa è uscita ad aprile Ma non è che Vabbè Non è che volevo Farlo uscire ad aprile Quello di san valentino Comunque Andiamo avanti Ora Comunque pare che li facciano Per gli speciali miei Ma non dovete Sì una volta all'anno Devo fare quello Come l'altro anno Oppure Ciao strike Ci sei tu Perché può essere Che le farò Poi Arriva uno in chat Ecco te guarda Sul sito violaceo Uno di voi Uno dei 300 Mila Presumo Magari no Magari era solo passato in chat Magari non hai scritto Ma comunque Mi dice Stai a 300 mila Fai 300 E chiamolo Vi ricordate come è andata Vabbè Chi c'era Qui è nato tutto Questo video Incredibile Così E io A sto punto lo chiamo 300 K Con K Vabbè Testo Mamedesimo Scenografia Il vostro Vabbè Costumi Don Vito Iscrivetevi A Don Vito Pubblicità Guarda Le porche E fine Della storia Eccoci qua Li penso Molto bene Sti speciali Ponderatissimi Vai con i soldatini Del muore I soldatini Questo vogliono Questa è il logo loro C'è un logo per ogni Roba Questa dovrei portare su Twitch Grazie a Mamedesimo Per avermi dato la fiducia Morire Artro che i pa- Un saluto a Barbascura Che qua Veramente vogliono morire Ho messo Barbascura Sopra un panda Una cosa anche bella Epica Quando Andà morire Ma anche ammazzare Dualismi Che ci accompagneranno I dioscuri Dualismi Li vedremo dopo Schermo intero No così è più bello Dicite no? Vogliamo fare schermo intero Proprio? No schermo intero Però così Se vede il titolo Che dici? Così è un po' troppo Un po' troppo Fributata Non mi piace più così Mi piace più così Ma io schermo intero? Intero? Modellità teatro Infatti Come si fa la modellità teatro? Dove era la modellità teatro? C'era la modellità teatro Come si faceva? Ci sono già È questa Ci sono già Eh modellità teatro Ciao Paine Grazie per il ride No così che se vede pure il titolo Ebbene sì Signori Signore Signora Asterisk Oltre a comparare L'opera Ciao Sama Grazie per il ride Miura Martin Tutti con la M Cazzo Mi stavo a spaventare Muori Miura Martin Moormiller Rolling Quindi A posto Grazie che mi ami Miller Rolling Come si metta la dark mode Non sono Non È dang Ah ok Il fumetto Con questo film di Zack Snyder Del 2007 Perché alla fine Fumetto e film Sono molto simili Te lo dico subito Tranne che ogni tanto Zaccete Ci butta delle Fillerate totali Ma brutto Poi c'ho sta cosa che Poi c'ho avuto sta cosa che ogni volta che dicevo Zaccete Ci mettevo Zwing Zwing Brutte Tu dici almeno cose belle Brutte Senza senso Mo te dico Apro birra Tutto sto malloppone Ecco Proprio ASMR Barbero notice me Ho studiato Professore Anche perché Buona Zack Snyder Disse del film Che gli eventi Sono veritieri Al 90 Io non ho capito Allora Ma intende il fumetto Perché se no Non ha proprio un cazzo di senso Quello che dice Perché C'è fosse una cosa Storicamente esatta Ma una Quindi Ma una Due Ce staranno Ma altre dieci No Quindi Non ho capito Perché se C'è C'è Deve credere così Cioè Vabbè Da per cento Storicamente esatti No Zack No Dici rispetto al fumetto Ma perché devi di ste cose E lo dico subito Perché non so Un freebooter Le fonti Da cui ho preso Queste le ho dette già Mentre le facevo pure Il video Vi ricordate Sì Ve l'avevo già detto Sto libro La Tredoggi Sì Un po' di Wikipedia Ma poco poco E un Grazie Doverosissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissim Eomer, perché mi ha detto metti il pseudonomo Arianna Ucheddu Le sorelle casati Carlo Antonio Esposito Grazie a Maverick Per il Prime Eowyn, che non è Eowyn Kwaku, nomi credibili E Laura Bressan, grazie Che avevo fatto il post su Facebook Mi serviva Giotta in Greco E mi hanno risposto tutti questi Chi più chi meno, mi ha dato una mano Diciamo, quindi grazie Non frebuto, voglio Ah, qui è in peritura memoria Grazie a Flamia The Pirate Per il momento regalo Sì, stiamo a questo Sì, Bloodborne Martedì l'inizio E le pronunce di alcune parole Ultima primessina, poi se parte giuro Io l'ho scritto come me l'hanno dato Serecane Non mi faccio alterare Grazie per i due mesi Sempre piaciuto, legge libri, fumetti, manga Si è visto anche nel canale E anche la storia Qua metto le mani avanti Proprio La madre della mitologia Ma non sono un esperto La mitologia Ho messo la zia Della tata E un sacco di gente Sì, Firefox Perché non Streamlabs Non mi fa vedere Chrome più Non so perché Se dico qualche sfondone Correggetemi nei commenti Tipo a morti freebooter È sempre ben accetto nei commenti Anche se penso di essere stato attento Ho ricontrollato tutto Settordici mila volte Non sono uno Sì, lo so Il piano dei gente Mi frebuta su TikTok Lo so Sono anche un tiktoker A mia saputa Non dirò tutto 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 È un riassunto Anche se quando mai lo so stare Qua mi svelo Non sono mai stati riassunti Per un motivo Stiamo allo speciale di 300 mila Lo sai tu Lo so io Lo sa Dio Niso Insomma Questo è quello che ho capito io Per rimanere in tema Grecia Lecchiamo i libri A modo mio Ok Anfora in spalla E Saluta ciccio gamer Zai letto in spalla E let's go Let's go Titoli di testa 300 Mamma mia Che swag I te spiesi e te bani Ma non sei capito I te bani Inizia Diversamente dal fumetto Daglie subito proprio Vabbè non è importante Però nel fumetto Vediamo su Guarda sono proprio degli uomini Di Neandertal Porca troia Ma non è cattiveria Ok nel fumetto partono subito Marciano Te fanno subito vedere Che vanno in gire Subito gli spartani Marcia E qualcuno Che rimembra la storia Dalla matalaconia Con la selezione Accuratissima Come so fatti Grazie a Sergani Per il prime E' gracilino Ciao oxy factor Chi Que Allora Aspetta Qua sta manna avanti Come vedi sto rega Guga gu a lei Innanzitutto Il bambino dice Perché è educato E' gracilino Non ciao oxy fa Questa è Allora Questa è una delle cose Che ho chiesto La prima cosa è Volevo fare X factor Solo che con la X Grega I meme I meme I greci Faccio troppo ridi Allora L'ho chiesto E mi hanno detto due cose Allora puoi fare O lo xi Che è questa qua La lettera maiuscola E questa qua Sono tre linee così Oppure c'era il Chi Però per Xi factor Questa dovrebbe essere La versione più corretta Lo xi Chissà il greco Mi corregga Giusto Ho chiesto proprio C'ho avuto proprio I consigli Della gente seria Quindi Ok Però all'inizio Avevo messo Lo chi Factor Perché Ma non ho detto La X è così E infatti La battuta era Lo chi factor E lei dice Chi Sto regazzino Solo che poi Sono stato corretto Ce l'ho lasciato Però xi Chi Sto regazzino Ok Diretto scazzo All'orecchia Sventola Ho messo Tizio dei Malcolm in the middle Perché la verità È come Malcolm In the middle In tutte le cose Questa è una frase Gandhi l'ha detto La verità è come Malcolm In the middle La verità sta nel mezzo Bene Bene Sapirra mi fa male Sapirra mi sta facendo male Vado via Il prossimo Dai che sto a perdere il braccio Stranamente Sparta In futuro Si troverà davanti La gravissima Trono Strike Trono Quando c'è l'urlo Degli spartani Potevi mettere Grazie a De Capri Vitomesi Strike Ti sta prendendo Troppe libertà Già scegli Quello che io faccio Come video Ma falli tu I meme Ti do il canale Strike falli tu Ma non lo so Ma il meme è tuo Ma che ti fributo Ci ha pensato tu Fallo tu Strike Prendi troppe libertà Strike Strike Rupe Questo Questo è il meme Che vi è piaciuto tantissimo Che mi ha cominciato a spammare Rupe 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 Perfetto Devo fare il comando Rupe Esatto Biona Bannate Strike Basta Adesso Grazie a lui Ho fatto questo video Adesso tocca Cancellare tutte le prove Che è stato Strike A darmi l'idea Cancellate Strike Da faccio Della terra Comunque Andiamo avanti Sì ma crisi demografica Che ne segnerà Not Spartans Inizio della fine Le genti Si chiederanno Nei secoli a venire Come mai Come mai Pull Poveri bambini E' vero Che c'era una selezione Dei nati E se erano robusti Gli davano l'ok Eppure un lotto di terra Esatto Con schiavi loti Esatto Leiturghia teleia Ecco un'altra cosa Che mi sono fatto dire Servizio completo Leiturghia teleia Che vuol di servizio completo I meme colti I meme greci Non ho idea di quello Che io stia dicendo Ma infatti guarda Perché gli spartani Non dovevano coltivare Ma solo dedicarsi alla guerra Però quelli gracilini o deformi Non li tiravano Dentro al bosso Forse Questa è una leggenda metropolitana Però come in tutte le cose C'è chi dice si C'è chi dice no Magari i deformi Proprio Veramente Li buttavano Da una rupe Però Proprio quelli Che Però non è nemmeno vero Perché ci stanno Delle testimonianze Che dicono Che li lasciavano fuori Dalla città E qualcuno Se li voleva a PA Quindi Non è che li tiravano Questo faceva sempre parte Magari negli spartani Come dicevano Un giro Sempre per alimentare Il miraggio Capito Grazie a Swarley Più probabilmente Li abbandonavano Fuori dalla città Sì infatti Gli spartani Morto come i greggio Infatti Noi non seminiamo Cazzo Me l'hanno detto È presa dai spartani C'è troppa roba Non ho fatto il collegamento Non ci ho pensato Noi non seminiamo È palesemente Spartani Sicché Qualche poverello Se lo prendesse Ma ecco Leonida Da piccolo Angelo Non si scherza Più Questo Lo teniamo Ma i fossi pieni Dei ragazzini Non sono mai esistiti Grazie a Nico Pago Per due mesi Lavio Io l'ho studiato E sul libro C'è scritto Che li buttavano Io l'ho studiato E sul libro C'è scritto Che Questa cosa È discussa Se voi Adesso Mi fatelo del culo Vado a piacere Cioè Dove cazzo è il libro Te lo vado a leggere Più probabilmente Venivano abbandonati Però Te saluto Come il medesimo Che lui è il re No non mi calmo Lapi Come cazzo Ti permetti Di dirmi Di calmarmi Ma io ti vengo A cercare Lapi adesso Sei stato già Rintrasciato Dai miei hacker Lapi Sbarra le finestre Perché stanotte Verrò da te Sta cosa M'ha fatta Ammazzate E risate È proprio il re leone È il re leonida Io sono andato Puro a cerca Ma non ci credo Che nessuno Ha fatto il re leonida Nessuno ha fatto Il re leonida Perché in inglese È The Lion King Quindi non ha senso Ma in italiano Io ho cercato Nessuno ha fatto Ho fatto io Re Ma che è Il re leone È andato malissimo Il re leonida Porca Guarda che bella Guarda come ho fatta bene Che questa è palesemente La I Che ho già richiamato Solo che ci ho fatto La di man senaccorge Qua ho cercato Bellissima Sono molto fiero Però aspetta Me ne so accorto adesso Che editavo Frame di un teschio Sopra la capoccia Questo Mentre stavo a fare Le leonida Oppure stavo a fare Una scrittina Oppure non mi ricordo Un pezzo che ho messo dopo C'avevo il frame così Mi ha preso un corpo Ho fatto Ma che cazzo Stai a di Ma che Oppure l'ho messo in pausa Mentre scrivevo Ma guarda Questo è proprio Un frame Che lo devi proprio Più beccato Che altro Questo è proprio Il destino Un bucio De culo Grazie a Drami 98 Subliminalissimo Biona Spoiler Il fulmine Gli ha fatto un attack Cioè un attack Spoiler Dopodiché Non è che i fulmini Ti fanno vedere Attraverso La gente A meno che non ha preso Il ragazzino Cioè Subito con Lago che Lago che Quasi Oh questo Ho conoscito Il gabrone Io ho sentito De fama Su twitch Va abbastanza forte Sto ragazzino È identico Sto ragazzino È identico Cioè Cercate una foto Del gabrone Sto ragazzino È identico Mi piscio sotto È uguale Qualcuno che segue Così a me Che il gabrone Io vado a D Mai visto Vabbè Un ragazzino Che fai Così da ragazzetto Tutto a posto La più grande magagna Che i giovani Sparta Licio Dovevano affrontare La calvizia pregocissima No Il sopravvivere da 0 A 0,1 Ora Anni Anche Ma no Lago che La rigidissima Educazione Sparta Ma non era a goge Ma dissocio La pronuncia corretta È a goge Ok Quindi Interrogazione Sparta E nel film Dicono a goge Quindi Doppiatori O meglio Chi scrive la roba Per i doppiatori Ma almeno Non Cioè Chi ha tradotto Non sapeva Il greco palesemente Grazie a blue pixie Da gli escesi Il video bellissimo È un conto Che Se io non so il greco Ok Che faccio i video su youtube Ma Me lo sono andata A cercare Ma tu Che mi scrivi la roba A goge Non esiste Il suono Ge In greco Da quello che mi hanno detto Io non voglio pretendere Di sapere un cazzo Quindi Vabbè andiamo avanti M'aveva detto Che oggi menava Professore Ok Cosa vuol dire Sparta No Partimmo proprio dall'inizio La seminata Fa un po' ridere però Ma chi siamo L'omini verdura Aspè Fermi tutti Sta cosa ragazzi Quando ho letto sta cosa La seminata Sparta vuol dire La seminata Questo Cose simili Ma non c'è I Saiyan Veramente C'è il popolo guerriero Il Incazzosi Soli migliori Vegeta Proprio spartiato Goku Era un coglione Schiavetto Cioè Stamo Cioè Spartan Saiyan Secondo me Può essere Può essere benissimo Il popolo guerriero Cioè Guarda 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 Freezer Guarda Freezer Cioè Freezer E Serse Palese Guardalo Guarda Freezer Serse Cioè È lui Totale Guerriero Vegeta Spartiato Goku Ilota Guarda Se devo studiare la storia Beccati Il drag Sto divagare Sparta Dai La divulgazione seria Ce la posso fare Famosissima caratteristica Degli spartani Era quella di vivere In modo spartano Cominciano le carezzina E lo scudo Che vi piace RUMBE Ma è così Erano famosi Per il loro stile Di vita sobrio Laconico Stemio lui è sobrio Anche questo Viene da loro Dalla laconia Il territorio Dove è la città Questa è la Allora Vabbè Molto lo dico Assorgeva Sparta stava più o meno là Eh questo Sobrio E dedito alla guerra Ambulanza Sparta Il cerusico passava Mentre parlavo di Sparta Si parla del modo Di vivere spartano Mi pare giusto Perché l'ambulanza Servirebbe Alla fine Desta storia Come disse Isocrate Il cugino De Ippocrate Guarda lui è il cugino Lo vedi Lui erano cugini Questo è tutto vero Che però fece Gli studi classici Non è vero mai Isocrate La definì Più simile A un accampamento militare Che a una città Perché era unica Nel suo genere Sparta Pure per come era fatta Era la meglio Make Peloponneso Gret Gain Le altre città Fanno schifo Si va bene La Grecia antica Era così Sono molto fiero Di questa battuta Che è vera È vera Come la Toscana Tutte le città Si odiava Si odiava Cazzo la Grecia E la Toscana Ci hanno veramente Lo stesso spirito Tutte le città Si odiavano A vicenda Gietta mi ha detto No la Toscana Tutte odiano Pisa Ma non è vero Cioè Ognuna dice No quella Prato I cinesi Quell'altra Siena Vaffanculo Si odiano A vicenda C'è poco da fare Tutti odiano Pisa È vero Sono uniti Nell'odio Verso Pisa Però Si odiano Anche tra loro Livorno I fiorentini Quelli che Settano Gallo Vaffanculo Questo l'ho scoperto Con la pagina Toscana Al meme C'è sta tutta Una lore Della Toscana Veramente affascinante E la polis E guardi La polis La città Stato Spartana Più che Un agglomerato Cittadino Era un insieme Di quattro villaggi Questa era una cosa Vi ricordate Questa era una cosa Che mi aveva Confuso Tipo Due mesi Ma dove si fa Ne stiamo a parlare Grazie Oddio Chi sei Rex T33 Piano piano Eriamo all'anno Grazie Per i dieci mesi Dovresti sentire Quello che sti dicono Nell'alto Adige Vabbè Buonasera Alla diciottesima ondata Perché sta città Era fatta Da quattro villaggi Io non capivo Ma che vuol Di quattro villaggi Ma erano Sono quattro villaggi Ma Sparta Era fuori Dai quattro villaggi No Erano quattro villaggi Con le strade Con i collegamenti Però non è che era Una città Con il centro urbano Erano sti quattro villaggi Poi cinque Poi sei Vai Pitane Limne Mesoa E Cinosura Ma va confuso Amigle Ma era pitane Quella con i maggiori centri Di interesse Polizia e culturali Per esempio Per gli autori Del quinto secolo A C Salute Come Euripide E Pindaro Pindaro con dietro Volare Per i voli Pindarici Andiamo avanti Mi proprio La cultura Che entra in questo canale Sentiamo la cultura Andare a sparta Significava Citte Andare a pitane Io t'ho detto Tutto vero eh Tutto vero Da sta cosa Sì Sì La cultura Devasto tutto quello che è sacro Sì E questo ma un po' Diciamo Come posso di Chiarito le idee C'erano sti quattro villaggi Ma diciamo che Il villaggio Con più roba Era pitane Grazie a Francio Francio Schio Perché tu potresti Dì Vabbè erano tipo i quartieri Ma non Non erano proprio Quartieri Erano proprio Villaggi Separati Però Andate a studiare Qualcuno più esperto Ve lo spiegherà Io ho letto questo Ma ho fatto ridere Ma ho fatto ridere Sono fallato E devo fa' sta premessa De Sparta In generale Se no non mi capisci I meme sulla storia Sparta fu fondata Dai Dori L'esploratore Quando scesero Nel pelo conneso Insieme agli Eracliti Che te suggerisce La parola Una malattia brutta A cui servirebbe La parola Le moracliti Eracle Ercole Wow Ma non l'ha montato La Disney No Gli Eracliti I discendenti Perché la Grecia E' tutta questa Il pelo conneso E' solo questa zona qua No Fino a Corinto L'istmo di Corinto E tutta sta zona Il pelo conneso Era tutta roba De Sparta Almeno fino alle guerre Del pelo conneso Dove le città Gli faranno Sai che è un po' rotta Il cazzo Sparta Ma che davvero E si Bopopopopote Cottebbe Incazzatissima Eccetera Quindi questo è il pelo conneso Ragazzi Questa è la zona Infatti Atene sta fuori Al pelo conneso C'è altra roba Tebbe sta qua Stanno tutti fuori dai coglioni Ok Oh Pelo conneso Perché furono cacciati Da Oristeo Il famoso re di Micene E Tiri Vergogna Non frebutarmi le battute 12 fatiche Hai capito Fai fatiche ad Ercole E poi cacciai i discendenti Uno Questo è bellissimo Voi lo ricordate Il famoso re delle 12 fatiche È tutto collegato Che roba De poco tempo fare La diva Beh insomma Grazie a te la pezza Questo era affascinantissimo Il fatto che si collega Alla mitologia I re che tu conosci Questo è un re famoso E l'ho voluto dire Zuzzurellone proprio Ma poi Oio Sono tornati appunto Con l'amichetti Dori Tra il Mille E il Mille E cento Sono riuscito a trovare Mille e cento Detto dall'ingegner cane Signori Avanti Cristo E sbada bim E sbada bam Ecco Non so Non mi ricordo quali sia C'è qua Questi erano i loro natali Ma Hermione vorrà dire qualcosa Evidentemente Non sono così esperto L'immaginario collettivo Grazie a lei Unistudio per il Prime Sebbene Non sia vero Un cazzo Povero Schiato eh Perché voglio dire una cosa Tutte le cose che dico Anche dopo Quando dico della fanange Che secondo me La spezzano Sono cose che dico io Da profano Cioè nel senso Leggo le cose E mi faccio un'idea Non mi sono andato A cercare roba De altri Non mi sono andato A vedere i video De altri Che ne sanno più De me apposta Perché Non per Non voglio fare il ladro Ma perché non me vado Inficiare La visione mia Come avevo già detto Prima io ho scritto tutto Poi sono andato A veder me Perché avevo visto Un sacco di anni fa 300 Per vedere se ho fatto Qualcosa uguale Non sia mai E no E me sono riletto 299 Per vedere se ho fatto Anche per sbaglio Qualcosa di simile E no Una cosa ho fatto simile Non mi ricordo che Ma l'ho tolta Per farti capire Quindi qua Io dico Non è vero un cazzo Ma non è che non è vero un cazzo Si che sono discendenti Dei Dori Eccetera Però Eracle La mitologia Intendo quello Vabbè Sta roba è del 1200 Avanti Cristo Quindi è successa 7800 anni prima Delle Termopili Perché 1200 Guerra di Troia 480 Termopili Quindi Erano già mitizzati Perché c'era sta cosa De mitizzare E poi proveranno A mitizzare Anche Leonida Ovviamente Perché Ha fatto l'eroe totale Che fanno Lo mitizzi Leonida E comunque Qua ho tagliato un pezzettino C'è stanno Ritrovamenti Fino al 1400 Avanti Cristo Quindi la Sparta Micenea È sicuro Da quello che Si è trovato Dicheno Che esiste Dal 1400 Quindi già Era 200 anni Boni Da Melenao Che stava in giro Ok E quella Era il re di Sparta E stava intorno Al 1200 Avanti Cristo Allora Primo Ma chi è Cristo Secondo Fra un po' arrivo Terzo Quella era La Sparta 1.0 La Sparta Micenea I micenei No I greci antichi I micenei C'è stavano dal 1400 Poi Sono arrivati i dori Che se sono mischiati Con i micenei Hanno conquistato tutto Perché i dori Menavano E dalla fusione Sparta Dorica Ok È andata così La Grecia Vescia Noi Siamo fichi Ma allora tu Rinnechi Elena Di E basta Sparta E di suoi fratelli I gemelli Prende Giorgio No Castore e Polluce Sono famosi Li conosci sicuro Cazzo Hanno fatto pure parte Da Argonauti Che c'era pure un libro De Manfredi Parlando dei Manfredi Degli Argonauti Vè Perché io ho letto Un libro su Argonauti Era nel periodo Che stava un trip Con Manfredi E me sa Che era proprio De Manfredi Che c'è sta Ercole C'è stanno Castore e Polluce C'è sta Il protagonista Chi cazzo era Non era Coso Tu la vedevi Sotto Erpov De Non mi ricordo Comunque De Ulisse Vedi Erpov De Ulisse Può essere No Aspetta Aspetta No Mi sto confondendo Con No De Giasone Mi sto confondendo Con Orfeo Ridice Io ho letto Orfeo Ridice E c'è stava pure Orfeo Tra gli Argonauti E lo vedevi Col po' De Orfeo No Giasone Giasone Il protagonista No infatti Ulisse Nemmeno C'era pure Orfeo L'avete mai letto Orfeo Ridice Però lui fa parte Da Argonauti E in teoria C'è Mo non Vabbè Allora La sapete Allora Ercole lo sapete Come muore In teoria Ercole Che bella la Disney Se sposa con Megara Si è vero Poi Il centauro Rapisce Megara Dopo In teoria Mo non mi ricordo Se c'era un centauro Pure prima Però sto centauro Rapisce Megara E Ercole Lo sfragna Er centauro Prima di morir Fa Guarda che Tu marito Però De metterà le corna E Megara No Ma che cazzo Stai a dire Er centauro Ma fidate Quindi tu prendi Il mio sangue Che è un filtro D'amore Ma che davvero Te dico fidate E bagnace la veste Mo va da ricordo Poi la fanno Sa E dammi retta Che quello Se innamorerà Ma veramente Ma te dico fidate Allora Lei fa così Durante una festa Lui imbriaco Ce stava a provare Non mi ricordo con chi Perché Ercole è l'infame Mette sta veste Che in realtà È velenosa Lui impazzisce E pia frecciati I figli E Megara Un lieto fine Proprio della Disney Li ammazza tutti Poi Se rende conto Fa oddio mio Oddio mio E va a morire A Trachis Se butta nel fiume Diciamo Per cercare De liberasse Mi pare Ho bruciato Ma non mi ricordo Gli danno fuoco Vabbè Comunque moro è là Quindi Tra gli Argonauti C'è stato pure Ercole Era tipo Era tipo Era l'infinity war Della Grecia Gli Argonauti Io te lo dico La mitologia E tutte le religioni Sono un po' La Marvel De una volta Guarda Guarda Ercole spostava i massi Se invece Il dio Quello là Camminava sull'acqua Ma che stai a dire Ma sì E hanno fatto Infinity war Per il vello d'oro Si sono riuniti tutti Si esagerà Per me è così Andiamo avanti I Dio Scuri Non è una bestemmia Giuro Sono due D Perché pure loro erano dei Il Dokana Ma era una cosa giapponese Perché un Pokémon I gemelli leggendari Potrebbero fare una generazione Su una mitologia greca C'era il vello d'oro Anziché la mano d'oro Con le gemme Il vello dell'infinito Argonauti uniti Ah sì Ma te dico Fidate Bravo È così Sto divagando Ma li rinnechi Perché c'era quello De Sparta Quello da Tene E lo vedi Perché quando ci stanno Divinità de mezzo I greci in generale Rivendicano Bravissimi Cioè proprio Mi cugino E se mi Dio E dà la PS6 Lo posso far vedere Va bene Comunque Sto a confondere Lugio Sto a confondere Allora Ah è vero Dopo Megara Che cazzo dico Siccome ammazza Megara Se sente in colpa Se sente in colpa E fa le 12 fatiche C'hai perfettamente ragione Sono un deficiente E poi muore Ecco Bravissimo Infatti Devo stare a dire Che stavano a ricordo E quello è il motivo Perché fai le 12 fatiche Perché Esatto Esatto Perché se sente Perché Sbrocca E poi Bravissimo Bravissimo No no Ha unito le cose C'è una ragione C'è una ragione Per punizione Sì Quello per cui erano famosi Maggiormente gli spartani Era appunto L'essere educati Esclusivamente Per la battaglia Noi famo la guerra Non zappamo la terra Bravo E l'onore più grande Per uno spartano È la morte In battaglia Chiamata da loro La bella morte O morte Bella Per Sparta L'avrà convinto Il ragazzino Sì Siamo fichissimi Posentino altra frase Fomentante Vai Sparta Non aveva mura Perché le mura Erano gli spartani Spoiler Attacco dei giganti Cioè Atenami Meno spoiler Da attacco dei giganti Voglio fa botte Questo è lo spirito Questo È il miraggio spartano Tutto quello che t'ho detto E loro ce la mettevano Tutta Per alimentarlo Sto miraggio Come posso dire Agli occhi degli altri greci Gli spartani avevano Quell'aria da Messo Questo è accuratissimo Veramente Un sacco di ricette Mi ha scritto Ma quanto cazzo è accurato Perché gli spartani Veramente si sentivano così Cioè Veramente bellissimo Aspettate Ma che mi ha chiamato Mi madre Perché mi chiama mia madre Mentre sto in live Porco Giuda Cosa succede Madre Vabbè Vai So E non l'ho perso Ho perso la chiamata Ma se ci dobbiamo attenere Proprio alle fonti storiche Dopo la caduta dei micenei I greci antichi So arrivati Gli imitati Stitori Popolazioni Indo-europee Forti Che usavano carri da guerra Roba che ne avevano mai visto Maston Grecia Quindi le botte proprio Se mischiano cocchieri Maston Grecia Tutte cose Tutte cose Tutte cose L'ho letto La sparta Dorica E cicciata fuori Va bene No Ercole Siamo pechi Il miraggio Chi è? Il dolore Bello però Lo scudo con la lambda Simbolo dei lasci e demoni Carezzini Che so Ma ridaglio un scudo Con sto nome Lasci e demoni Ci ho messo devil Me lasciamo perdere Che paura Sto sempre gli spartani Lambda La L E le odida Loro combattono per la giustizia Guarda volevo metterci un po' dei meme Però ho detto Vabbè però L e le onida Proprio con la L Cioè va dai con la L Ma non Però ho fatto Vabbè Lasciamo perdere Dai Torniamo alla gogerizia Se ne potevo mettere più dei meme Su detta notte Perché a quell'età Che si manifestano i poteri Possiamo vedere l'immagine di repertorio Uno scarrafone strappato a mamma soia Eeeh ma quanto dramma E allora Il miraggio straciano Ma perché Ma allora Ma ma Pure sta cosa no Che si dice che Non lo so I bambini venivano strappate alle madri Ma pure questa è discussa Ed è pure una mezza cazzata Perché in teoria era mezza giornata Almeno all'inizio Prima dei Prima dei dodici anni Era mezza giornata Diciamo il C'erano sti famosi sissizi Che erano i pranzi in comune O le cene Ma non mi ricordo bene Comunque uno Poi Non era così greve la situazione Poi da 12 anni in poi Cominciava a diventare greve Però che tu strappi il figlio Ma poi le donne spartane Erano incazzatissime Non è che le tuite Ne odio figlio mio No Ma che no Ma lo sai bene Ma sta buona Quindi l'hanno un po' fatta Moderna Poi con questa Tutta Bagucata Tutta Tutta A messa in piega Vabbè Dai Me sta fa fa brutta figura Quei rapitori Le donne spartane Mica facevano ste storie Le donne spartane Menavano Anche loro Erano educati E alla corsa Principalmente Ma comunque agli sport La celebre frase Torna con lo scudo O sopra di esso E delle donne spartane Non ho capito Con lo scudo ok Ma sopra lo scudo intendi Stragliato Portato dall'altri In trionfo Tipo Abraragorcix Madonna Peddi sto nome Abraragorcix Che sicuro l'ho detto Pure male Si Ok Ma morto Dopo ne parlavo Del corteggiamento spartano Con onore Mammina Che fai piangi Fermatemi che lo gonfio Portatemi via Sbrigate E da sparta Viene anche l'importanza Delle ferite sul petto E non sulla schiena Perché vuol dire Che stavi a scappare Se no Eeeh Oda Che bella la cucina Beh sta cosa De Oda L'ha ripetuta Sia con Gioro Sia con Barba Bianca Quindi E' fan de sparta Pure Oda Perché la cosa Delle ferite Alla schiena Viene da sparta Se sarò letto Qualcosa pure De sparta Eh Per gli uomini Veri Già ve vedo La dice contro Miuc Zoro Voi ricordate no Nei primi tempi Albarati E poi Con barba Bianca E un sacco De ferite davanti Ma dietro Niente Con le spade infirzate Che gli si infilano dietro Quindi c'hai ferite pure dietro Perché se vedono Che cicciano fuori Però vabbè No Con barba scura Ancora no Però la ripeterà anche Con barba scura Appurio Se Con lupo Pem pem Se Mo ta dico io La gucchè In breve I used to About that L'hai visto Il bebe De Giozzina Vediamo la gucchè Perché ma Immagino la getta Che si fomenta I veri uomini Ok I bambini Venivano divisi In greggi In greggi proprio Venivano divisi I bambini Si chiamavano così C'è una parola greca Greggi A 12 anni Si rasava A 7 anni I capelli Per differenza Dai 7 a 12 C'era l'educazione C'era pure un senpai Diciamo Ma una cosa Norma De Sopportabile Poi Se rasavano i capelli Tutti gli spartani Avevano i capelli lunghi Più fieri E l'educazione Diventava Più cattiva Alla gazzu Fai conto Tutti i gazzu Quando erano Contro spartansi E come gazzu Infatti Cosa I ragazzi Donovan Esatto Subito Lo dico Intrattenevano Rapporti Con i senpai Con quelli Dai 20 anni In su Sainte Nico Non Sì Ma non Non è Non erano le violenze Sui bambini Mo te le dico Gay Gay Ma non è Non è questione di gay In Grecia Quelli con cui avevano Un rapporto Anche ad Atene Da per tutto No a caso Sempre tipo Brad Pitt Brad Pitt e Padroglo No Che nel film Guarda caso E mi cugino Che ha la playstation Se mi cugino Beh oddio Mo non mi ricordo Mi pare pure De sì che fosse Il cugino Ma No Era l'amante Facendo E infatti Era Il senpai Con l'allievo Quello più piccolino Perché in Grecia Andava così In Grecia Era una cosa normale Anzi Mi ricordo una cosa Che avevo letto Da qualche parte Se tu andavi Con un barbaro La gente Le faceva Che schifo Ma non perché Eri gay Ma perché andavi Con un barbaro Con uno sporco Deve andare con un uomo Sì ma greco Pulito Erano razzisti Diciamo Era una cosa normalissima E anche andare con i Ma anche Iolao e Ercole Sì Sicuro Ma perché Erano amici Ma il fatto Di essere amici Non vuol dire Che non puoi Andare a letto Nella Grecia antica Anzi Rafforzava il rapporto Guarda il battaglione Sagro I Tebbani Quelli si amavano Proprio e vabbè Però erano i più forti A Sparta Gli ha fatto un culo Come dirò così Perché veramente Gli ha fatto un culo Così cent'anni dopo Quindi Anche i samurai Ma infatti I giapponesi Gli spartani Con l'onore Mi sono scordato di dirlo Che riassunto Se suicidano L'Arakiri Ci hanno un botto De cose In comune E' vero o no? Pensateci I spartani E i giapponesi I Arakiri Cose Onore Eccetera Comunque andiamo avanti Padro Quello era Mi cugino Sese Non c'è niente Di più divino Di che? De Zeus Ma se io l'ho E' nipote di Ercole Ma meglio Allora ancora di più Ma poi non lo so Però Non ci vedrei Niente De male Perché Era perfettamente Normale Era e tutti I parenti tua Esatto Ma insomma La pederastia Era molto comune A Sparta Fatta a legge E comunque Molto che spiego Allora quindi Allora Funzionava così 7-12 anni Educazione 12-20 A 20 anni Entravi nell'esercito Dai 20 anni Ai 30 Intrattenevi i rapporti Con quelli Dai 12 Eccetera Con quelli però Con cui avevi Sempre un rapporto Senpai Sensei Non a caso Capito Poi Da 20 e 30 Entravi nelle classi De leva dell'esercito Però rimanevi Nell'educazione collettiva E a 30 anni Fine Dell'educazione Poi figliare Plutarco e Agnone Di Tarso Io non te dico niente Può ancora Falla Gugge No Dai 12 anni Potevano indossare Solo una veste Dormivano in paiericci E non gli davano Quasi niente Da mangiare Una veste all'anno Potevano rubarlo Ma Se te becco Punizione Allora non devo rubare No Vuoi rubare Ma non te devi Fa sgama Ci sto io Zitto Zitto Ci sto io Non te fa sgama Non te fa sgama Di fortesta D'ammissione De Naruto Bravo Sparta Questo era anche Un sistema Naruto totale Si sa Chi ruba meglio Comanda Questo è vero Però C'erano delle cerimonie Sul rubare Cioè tutto ero Quello che dico Cazzo Mette dei formaggi Nel tempo Questa m'ha fatto tagliar E sti ragazzini Li dovevano rubare Ma davanti a sti formaggi C'è stava gente Con le fruste A impedirglielo Guarda Senoflatticini Comunque a vent'anni Entra Altro che Onster e Smog E a trent'anni Terminava L'educazione Trent'anni Qua è un pischelletto Del cazzo Cioè a quindici anni Ammazzi i lupi Ma che cazzo Cioè ma Storicamente ha curato Cioè rispetto al fumetto De Frank Miller Perché pure con Frank Miller È così Però che cazzo Dici Porca troia Addoloratissima Poi dici che è il re Ma che cazzo Fai Vabbè andiamo avanti Collettiva E diventa Davi a tutti gli effetti Grazie Perché gli spartani Anche il rapporto Esatto Sai è una cosa In comune col Giacchone Esatto E se fosse così Anche tra chi Rai L Non credo Perché so Coetanei So più amici Tutti pari L'uno dell'altro Quelli Pari Due due Moracine Spar Vabbè Lì Coi diritti Nella società C'erano gli spartani Poi per gli es Allora Andatevene a fanculo tutti Io In tutto Il 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 film Il video Dico Spartiati Perché sono gli spartiati Quelli con i diritti Qua Me sbaglio Dico spartani Ma lo dico sempre Spartiati Cazzo Quando il contratto Con la Rai Mai Ora mi aspetto Il super quark Del muori k E lo faccio su youtube Non mi serva Nel Rai Io non c'ho Io andando in tv Mi fa schifo Comunque Donna dei vecchi Comunque Ho sbagliato Spartiati Una volta Dovevo di spartiati Perché poi dico Spartani Per generalizzare Però Quelli con i diritti Sono gli spartiati Ok Ok Gli spartani Sono Diciamo Un po' tutti Insieme Letteralmente Quelli che vivevano Intorno Gli altri I perieci Potevano essere Anche degli spartiati Che avevano perso i diritti Capito Che non ho più Diritti Sociali Magari Gli spartiati Indebitati Perché i debiti Sono una cosa Veramente Che se portavo Appresso Dall'alba Dei tempi Sono sempre esistiti I debiti E le guerre Per i debiti Chi c'aveva i soldi E chi no Non abbiamo imparato Un cazzo I perieci I perieci I cedemoni Sì Sempre di quel territorio Bravi I perieci erano Nonno schiavi Che vivevano intorno Nel pelo ponneso Ma non erano nemmeno Diciamo De altre città Erano quelli Sulle coste Vicino a loro Questi erano i perieci Per carità Non i messeni I messeni Dovete capire Sono quelli Proprio che Sparta gli ha sempre Rotto il culo Pori messeni Pori messeni Spartani Però i perieci Tu dirai Allora sono trattati bene Corcazzo Perché quelle poche volte Che l'hanno usati Come opliti Perché erano pochi No Visto che c'era una crisi democratica Gli hanno dato Le armi da opliti Che ne so Mille perieci Bravi bravi Vediamo i diritti Spariti Spariti Dopo la battaglia Do sono finiti Ma come Ma i diritti E cose Non lo so Saranno in giro Fa una passeggiata A fondo al mare Ecco Quindi Puri i perieci Puri a stelle Avevano diritti Sociali Esatto Spariti Ma non diritti Politici E dateci pure A noi sti diritti No Uffi Per i perieci Mo quando arriviamo All'efori Te dico pure Un'altra cosa Per ditte Che i perieferi Erano visti I perieferi I perieferi I perieci erano visti Sì bene Ma Gli efori Vabbè Te lo dico subito Avano pure il potere Di manda a morti I perieci Così a caso Senza processo Infatti A una certa Io lo faccio Ammazzare un po' Dei perieci Sì Perché così La morte dei perieci Mi difendo No Mori Va bene Così Quindi E al gradino più basso Gli loti Gli schiavi No Si devono lanciare i bambini Ecco perché non lavoravano la terra Loro L'avevano Ed era lavorata dagli loti Ma non è nemmeno questione De lanciare i bambini Perché Vabbè Un conto so appunto Che poi non li lanciavano Ti ho detto Però il punto è che Ehm Come in tutte le società Ehm Cominciano ad arrivare i sordi Cominciano ad arrivare Ehm La giatezza Per essere spartiato Diciamo Bisognava Ehm Rispettare sempre Più restrizioni Oppure Gli spartiati Che cadevano Sempre più in disgrazia Erano sempre De meno Capito Ehm E quelli intorno Hanno cominciato a fa Questi sono pochi Stanno a cominciare A fare una panna In crisi Mi sa che Cominciamo a ribellare Guerra del Peloponneso 50 anni dopo Tutto a sta pagnotta Ok A 30 anni comunque Eri cittadino a tutti Ma poi la cosa bella Perché cominciano ad arrivare Tutti dei flussi di denaro A Sparta Quale re che non mi viene in mente L'ho letto l'altro mese E gli E la getta A Sparta Cominciano pure A avere paura Che cazzo Ci fanno tutti Sti sordi No bisogna Perché veramente Per loro Era una questione Anche d'orgoglio S Laconico S spartano Nel vero senso Dalla parola S con poca roba Anzi Se uno Ostentava troppo Sfera e basta A Sparta Non piccavano Dopo due giorni Perché non se fa Non se fa Non se stenta Capito Storia c'ho sempre avuto tanto Cioè Storia italiana Ho sempre andato da paura Però non è quello Stegaste Sono cose fresche Che ho studiato recentemente Gli effetti E potevi figliare Proprio in tempo Che tuo padre Ne compiva 60 Perché visto che poi Hai figliato ai 30 anni E andavi in pensione Hai capito C'era un senso Così eri ti davo N'età decente Ma comunque Aspetta na Capito Sta cosa è bellissima Perché lo capisci il ciclo Ha 30 anni figli Quindi Quando tu ne avrai 60 Tuo figlio ne avrà 30 Pronto per figliare E tu a 60 Vai in pensione E puoi O fare il consiglio D'anziani O entrare nel consiglio D'anziani O fa un po' come cazzo Te pare 30-60 30-60 30-60 Cioè Una cosa proprio Tu te le vai dal cazzo Dei Tu Anche se eri vivo Facevi ridita Tu figlio I poteri I poteri Da famiglia Eccetera Porca mignotta 30 anni poi Nemmeno Un'età così giovane E poi erano sempre 30-60 Capito Perché dai 30 anni Potevi figliare E te dovevi sbrigare Figlia Se no Te gorcavano A 35 Devevi avere figli Se no Le botte Se il padre muore Prima che il figlio Diventa trentenne Beh come Leonida Plistarco Quando Leonida More Plistarco era Troppo piccolo Per diventare Re E arriva Pausiana Pausania Non mi ricordo A fare il reggente Capito Poverino Trattato pure De merda Attimo Prima di figlia Fammi riposare Ho appena finito Che ero zio Ma non lo so Vorrei vedere il mondo Visitare Corinto Pausania Ma sono timido I celibi Venivano puniti Servono ragazzini I celibi Venivano puniti Ma sono timido I celibi Venivano I celibi Vano puniti Servono ragazzini Da tirare nei fossi A parte figliare però Agli spartiati Dopo i trent'anni Gli si chiedeva solo Di mantenersi forti Esatto E che volete che faccia Vai a caccia Fai conto Che alla fine Della goguè Nell'esercito Migliaia di lazzarine Che te vengono addosso Andiamo a vedere La prova finale Della goguè Lo spartano Contro le intemperie Azzasolo Spaventato Col vento Che gli sussurra A scemo A cosplay De Saitama Ed il nemico A peladino Lupo Lupo Perché gli faccio Di cocodè Lupo Perché non è un lupo Quindi cocodè Mi stupisco da solo Che cazzo è Che volete Scusate Il bello della diretta È che devo rispondere Perci De merda Mannaggia La pupazza Scusate Vai Guarda 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 Baghera Lupo Sì Guarda Baghera Sotta Bino Gli ho fatto pure Gli occhi vitrei Guarda Guarda Per mezzo secondo Mi sono messo a fa Bene Acidi Ma quasi cita La Cripteia Non le sa Però tutti mi hanno detto Che ho pronunciato Tutto bene Tranne Ubris Che si pronuncia Gli ubris Ma non ho chiesto Porca troia Mi sono anche fatto dire le pronunce ragazzi Si cita quella Oppure cappuccetto rosso Cappuccetto foenichis Non l'hai capita È la veste rossa degli spartani La foenichis Esatto Quindi cappuccetto foenichis Ridi con la cortura Ridi Dalla nonna No E che lago che sai Bla bla Due murubà Bla bla C'è menato Bla 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 Andiamo un po' Piccoli angeli Che parlo io Me li bagno Invece no Combattimento Il nonno d'arta E come ce la farà Il giovane leonida Con una Pallese versione alfa Della tattica Che adotterà le termopili In senatura Pozzarola perché è lupo Comunque qua veramente C'è totalmente Termopili Solo questo Lui solo questo E lui che zaccagna Ha imparato sta tattica Da ragazzino Perché cambiarla Fatality Ma dopo re Il nostro re Luponida No Leonida Ma ha ammazzato un lupo Che in teoria Se sta citando veramente La Cripteira Cioè la prova finale Della goghe Non consisteva Nell'ammazzare un lupo Ma un ilota C'hai capito Li mandavano de notte A ammazzargli i loti E questo Se ricollega In teoria Dopo quando ti dirò Gli loti forzuti Li mandavano A ammazzargli i loti Forzuti Capito C'erano Dupiscioni Con una fava Greca A forma De capitello Proprio Dicheno Ma non è sicuro Perché nella storia È tutto un Dicheno E può essere Preso dalle fonti Erodoto Senofonte Plutarco Eccetera Lo vedi L'importanza Di non frebutare Dic Però è vera L'importanza Di non frebutare Ma se persino Quando studi No all'università C'è il libro E poi c'è tutte le fonti Scritte Perché è importante Dire chi 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 l'ha detto Non è che ti puoi rubare Le cose degli altri Sta salendo la birra Ve lo dico So quasi alla fine Della prima E sto a 20 minuti Dei video Non va bene Che no E può essere I penici fanno cose Questa è la storia Comunque Leonida È uscito Vittorioso E torna a casa Da re Ma perché La govea Sparta La facevano tutti Tranne le re Del trono Sta cosa Veramente Mi fa pisciare Dei risate Ciao Cavernone Grazie per il ride Se stiamo arrivati Dei 300 Director's cut Ve Spiego tutti Gli memi Spiego tutte Le robe Grazie mille Cavernone Adesso stavo Dicendo una cosa Fondamentale La govea Cazzo Allora Quello che mi fa Rosica È che La govea Leonida L'ha fatta Ma perché Non era Il primo genito Quindi Se tu me lo fai Tornato alla goge Va bene Ma da re Ma che Così pare Che la goge La fa solo il re Ma che cazzo Dici Ma per C'è Veramente 90% Curato Cazzo L'unico Che non la fa Perché la goge Aveva lo scopo Di educare Gli spartani All'obbedienza Il fatto che I ragazzini Dovano essere frustati Dovevano Non Capito Rafforzava Lo spirito De sacrificio Il re Non ha bisogno Dello spirito De sacrificio Quindi il primo genito È l'unico Che non la fa Capito perché Capito Qual è il trick Capito perché Fa rosica Che lui torna Da re Perché ha fatto La goge Ma è l'unico Che se fa I cazzi Sua Alla bozzare Guarda come Abbossano Gli spartani Inteso Come non lamentarsi Ma allo stesso Però è figo Che Leonida Sia re E abbia fatto La goge Perché Fa rime E c'è Tre rime Stace Perché Lo rende uno Del popolo Tempo Non abbozzano Diventaremo Lo dico nel video Perché diventare Mai Abbozzano E non abbozzano Sempre questi Dualismi Apparenti Controsensi Bello lo scudo Col divieto Andiamo avanti Questa è follia Questa è tuzia Cioè ho fatto Tutto questo Ma quindi I re erano Dei pipponi Ma no Però è vero Che non hanno Cioè Sì Perché non è che Crescevano Con la sofferenza In teoria Si Porelli Caso E io ho devastato Tutta la fauna Del monte Taijeto Per venire giù Ve dice bene Che Leonida Ha dovuto affrontarla La goge Perché non era L'erede al trono Eh L'erede E poi re Che poi non la spiego Allora Allora Aspetta Aspetta Cleomene primo Lui non era Il primo genito Ma non era Questo il motivo Esatto Perché l'erede Al trono Asparta Allora Prima che L'erede al trono De Sparta Che fa troppo ride Allora Il padre di Leonida Ci ha avuto Si è sposato E fin qui A Prada Fa dei figli Non sono usciti O non sono usciti Maschi Non mi ricordo Allora Sei risposato E La seconda Moglie Fece Cleomene Primo La prima Moglie Se sveglia E comincia A fare Tutti i figli Il primo Cioè Quando sei risposo Ha detto Allora pure io Faccio figli maschi Ma porca puttana Te potevi svegliare Prima No no Sono due mogli Illegali Strike Il primo È il fratello Maggiore De Leonida Che non mi ricordo Chi cazzo è Il secondo È Leonida Il terzo È Nartro Cleomene Mo te dico Il fratello Maggiore De Leonida More da qualche parte E quindi Poi toccherà Leonida Cioè Hai capito L'impiccio Penso Ad essere stato Chiaro Anassa Bravo Si si chiama così Anissandrina Una cosa del genere Il padre De Leonida Erano strani Pure in questo Però basta Che si è capitato Due mogli Prima moglie Non fa figli Se risposa Cleomene primo La prima moglie Ma faccio figli pure io Fa tre figli De cui il mezzano E Leonida Ok Ananasso Non era appunto Il primo genito Come da per tutto Il principe ereditario Ma a parte questo Il re di Sparta Fa troppo ridere Perché non è manco Il primo genito Mo perché Cioè appunto Cleomene era nato Quando non c'aveva i re Di Il padre De Leonida E lui uscì dopo Primo Perché se no E poi se fa un figlio Il principe Quello là È il prossimo Una linea e successione No Non era il primo genito Ma il figlio Nato dopo L'ha scesa Al trono Del padre Cioè Tu sei re Quale figlio Quello sarà il principe Il prossimo re E come si fanno i figli Come perché c'è la regina Elisabetta Perché ho fatto l'esempio Ma lei non ha Le abilità cognitive Ho fatto l'esempio Regina Figlio della regina E figlio Del figlio della regina Che co Il principe pelatino L'ha Sarà erede Cioè Cioè quando more Spero fra mille anni La regina Elisabetta Poi diventa Carlo Anche se io scommetto 9 su 10 Che more prima Carlo La regina Elisabetta More prima Carlo De Becchiaia Che la regina Elisabetta Ma poi coso William Come si chiama Lui è già principe Cioè il secondo Dali e successione Anche se Evviva la nonna A Sparta Non funziona così Sto già spiegando una cosa Sicuro more Carlo Prima Non pettiragliela Spero che campino 10.000 anni Tutte e due Ma La vecchia Non molla La vecchia Non molla Un saluto la regina No Incidente diplomatico More il re Tu Mi dispiace Condulianza No Non Non molla pensione Eredita il figlio E se adesso Fa un altro figlio Mo che il re Ha la precedenza Su quello De prima Ma perchè Ma ve le cercate Le cortellate In questa cosa Perché è andata così Accuratissimamente Tra Clomene e Leonida Non so se Si ha capito Quindi Anziché Normalmente C'è il re Il re fa un figlio Quello è l'erede Il re è ancora vivo E il figlio del re Fa un altro figlio E quello sarà il prossimo Come Da per tutto Di Minghirtera Qui A Sparta era Re fa un figlio Il re è ancora vero Il figlio Il re è ancora vivo E il figlio del re Fa un figlio Quello è uno stronzo Ok Bro il video è chiarissimo Da spiegarlo Spero Enarch Però Voglio enfatizzarlo Quello è un pezzo De merda Inutile Si non nasce Dove era meglio Dove aspettare Scarto E poi arriva Ah non è che dice Sono confusa Quindi che cosa dici Non è chiaro Lo vedi Bro Che tu che mi dici Che mi chiami bro Ma non abbiamo parentele Mi scusi Comunque Poi quando il re More E il figlio diventa re Fa un altro figlio Fratellino minore De vent'anni De quello Stronzo Quello è l'erede Il neonato E' chiaro Esatto L'erede di Carlo Esatto Riportandolo Alla regina Elisabetta Non c'è ancora L'erede di Carlo Quando mora La regina Se Carlo Fa un figlio Quello sarà L'erede Siamo capiti Ah Andiamo avanti Per sonno Poi il caso De Leonida E' ancora più complicato Perché il padre Aveva due vogli Vabbè Comunque questa è la storia Di Leonida Sia nel fumetto Che nel film Ma pure Frank Miller Dice sta cazzata Quindi non voglio Prendere per la Cosnider Per questo Perché pure Frank Vabbè Sarà una licenza poetica Quello che ti pare Però almeno Frank Non ha detto Che il 90% È accurato Non si è avvantato In giro Mamma mia Sono molto fiero Del mio lavoro Vai affanculo E anche nella storia E poi Frank Non si spinge Con Eren Attacco ai giganti I mostri Cazzo Vabbè Ma perché non era Il pretendente A trono Vabbè Plot twistone Scopriamo Che è Aristodemo Delio Nel film E nel fumetto A narrare La vicenda Subito così Ma poi sta cosa Che me spoileri Che Delio è vivo E ha perso un occhio Che nel fumetto Non c'è sto spoiler Ovviamente Perché tu fai Ah che figata Ma che cazzo fai Frank Ma perché Ma perché Ma perché Ma tu mi devi Da un motivo valido Per spoilerare A me il finale Mo in chat Mi ha dato un motivo Ma ma Lui è Faramir Mi avete detto tutti Io Non me ne so accorto Mannaggia A me È invecchiato È una cifra Però vabbè Quindi vabbè Sopravvive Le spole erano così Faramir Senza no Occhio L'hanno voluta mettere inizio Già devo gestire Un buato di informazione Guarda quanto è italiano Faramir Guarda All'inizio Guarda quanto è italiano Guarda il meme di Messi Rifatto proprio Con gli ambasciatori persiani Che arrivano A Sparta Mamma mia Dieci anni dopo Che putenza In realtà Gli ambasciatori Li mandò il precedente Re Dario Nella prima guerra persiana Ci avete messo un po' eh Te credo Sono arrivati in rallenti Dalla Persia Guarda l'epicità Per uno che c***o C'è me fa taglia Guarda Oh Questa è la È la versione accurata Della Della scena Un prato E questi che galoppano E invece il film Così Film Mamma mia La puttura Ma che cos'è Ma chi sei Io sono il cavallo Sono molto fiero Desta traduzione L'ho detta quattro volte Li mortacci tua Maledetti Allora Maledetti brutti morti tuoi Questa è la traduzione Più Accurata Che abbiamo trovato Per i mortacci tua Hai mostrato paura Cavallo cazzarissimo Ha ragione Vado L'ambasciatore persiano Ha un rosario Un po' particolare Continua la tradizione Esatto Tutte capocce D'imperatore Tira fuori Tira fuori le capocce Così Ma è successo nel fumetto Anzi Ho piano per culo Troppo bello Parla sul serio Forse dovremmo dirla Guarda che swag Non si dica che gli spartani Non hanno il senso Dell'ospitalità Sembra serio Sto coglione Vabbè portamolo D'arriva Cioè Ho swag proprio No non è la N-word Necroi È greco I spartani Era meglio se te portavi Una crescia di saponette Scostumati Sparta verrà distrutta Reazione accuratissima Degli spartani Ci stiamo cacando sotto E non dimenticatevi di me Il cavallo Cavallo proprio Ruba la scena il cavallo L'equivalente dei lowrider Finalmente vediamo Leonida Cresciutello Con il figlioletto Tanto bello Plistarco A sto punto credo Successore di Leonida Crepa nel 458 Pur abbastanza Presto Poverino Sì Ed ecco Cersei Mamma mia Non vedi che sto speciale Pare fatto a posto Che poi veramente Cioè io Ci ho pensato dopo Che c'era Cesira Se si è collegato tutto È incredibile Cesira ciao Quanto me sei mancata Più bella di Elena Dove va fa la regina C'è fatto caso C'è fatto caso Io sì Corgo Moglie di Leonida E altro Che te dico Perché te lo devo dire Perché le somiglianze con Cesira Non finì Ehi incestelli Comunque Leonida Da bravo genitore spartano Gonfia come una botte De vino speziale Fai schifo Ma questa non è Sparta Questa è Bibiana Mio rege I persiani Non volevo Ma proprio loro Questa è un discorsetto Di Leonida Questa era scontata Di persiani Era per ride Per mettere la faccina Di Cesira Tutto a posto Faccina di Cesira È quella là proprio Sì Dal figlio Sull'onore No L'onore E l'audacia Ma che dice A parte che è una Fillerata del firme Vabbè Ma tutto il discorso Degli uguali Quello che t'ho detto Messo così Mi pare una cosa un po' estremista Uscirà tutti i messeni Calmino Leonida I messeni perché Vabbè Te l'ho detto Arriva al pezzo Che non dovevano mettere Ma regà Ma guarda che Boris è real Guarda che Boris Guarda che Tu devi studiarlo Qualcuno Qualcuno ha Sicuro ha fatto una tesi Su Boris Perché Senti Combatti con la testa Bacettino Poi combatti con il cuore Ma tu poi fai Gli combatti con il cuore Ma che cazzo Ma io gli ho Strappo d'arpetto Il cuore al nemico Questo gli diriano Spartano No te combatte col cuore Porca puttana Vabbè Oh sceneggiatura Proprio Io ho finito signori Poteva essere un bel Io te lo giuro Non me l'aspettavo Quando ho sentito Sono rimasto de merda Ci sono rimasto de merda Combatti con la testa E con il cuore Così mi vanno in guerra Ah io combatto con il cuore Questo gli dica al nemico Mentre mi sfragna la capoccia Perché combatto Con il cuore Con il sentimento Ma insegnami Difendemi Il cuore Video dove si ridete Questi sei consigli Di mortacci Eva si scherzava Ma si imparava No Lo sopporta tutto Ma da cesira questo Poi da cesira Vabbè Perché Da ieri ambasciata E la presentazione Di un nuovo personaggio Il consigliere Terone Come scusa Terone Da dove vieni Giù da Greta No storicamente Esatto Chi è questo Intendono Terone Io so talmente stronzo Prima che te spiegano Che è Terone Che me sono andato a Prima che te spiego Chi è Terone Che me sono andato a cerca Terone Ed è veramente Uno esistito Era il tiranno Da grigetto Come dico qua Ed era Veramente In combutta Con Persia Che poi Io ho tagliato Un pezzo Dove dico Che qualcuno Se n'è andato Da Sparta E ha fondato Taranto Perché Taranto È l'unica città Spartana D'Italia Fondata dagli Spartani Appena ho sentito Ho mandato Un audio a Barbascura Che Barbascura Mi ha detto Che ne ha pure Parlato da qualche parte E poi ho pensato Visto che ho parlato Do Oristene Che era re di Micene e Tirinto Ma raga ma Tirinto Il nome Tirinto È Taranto Con altra lettera E io ho detto pure A Barbascura Lui è in effetti Non ci avevo pensato È vero o no? Cioè Tirinto Taranto Sono gemellate Ci avevate mai pensato Tirinto Taranto Cazzo Cazzo Stupendo Sti collegamenti De Sparta Poi la storia Era bellissima Della nascita De Sparta De Sparta De Taranto Volevo metterla Però Veniva veramente Ottocento Andate a leggere Perché veramente Era una bella storia Poi pare sia fondata Da una donna Vorrei di cazzate Era una storia Bellissima Porca miseria Il tiranno Da Grigento Era il tiranno Da Grigento Anzi La Persia Ci aveva pure Fatto No 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 Siracusa No Taranto Mi ricordo La pelletta È l'unica città Fondata dagli Spartani Taranto Ma che ci fa qua E poi che vuol dire Consigliere È spartano A sto punto Parliamo un secondo Della costituzione Spartana E della E qua pure ho presa Quelle pinze Perché Sto parlando Della costituzione Spartana Bisogna fare i seri Grande retra La carta Che stabiliva Le istituzioni Spartan No Non partendo Da Terone Parla De Taranto Mark Perché Volevo parlare De Sparta E c'era Il collegamento E si poteva Lega Era una cosa bella Però Sarebbe stata Altra roba Ne ha parlato In un video Barbascura Sì sì Me l'aveva detto Un risponso Che Licurgo Padre Cazzo Licurgo Famosissimo Di che no Abbia ricevuto Dall'oracolo Di Delfi Oppure Da Apollo In persona Sì Tipo Museco E tavole Sì Che sta cosa Che guarda Che voi dite No perché Gli dei esistono De qualsiasi Religione Moderna Ma Le religioni Sono tutte Una frebutata Della roba De prima Guarda un po' Pure qua Le leggi Vengono da un dio Perché se no Le persone Rompono i coglioni Pure il fatto De Gesù Non votò Dio Che ha preso La festa Da Ra Che La reula Era al sole Che La resurrezione Vuol dire L'equinozio Che c'è il punto Più basso del sole E poi il sole sale Tutte cose Quindi Anche qua Anche Licurgo Ha preso le tavole Come un novello Mosè Da Apollo È incredibile Perché Apollo Perché Era uno degli Dei maggiori A Sparta Apollo Carneios Era Amatissimo A Sparta Poi c'era L'oracolo Di Delphi Di Apollo A Delphi E Sparta Aveva un rapporto Privileggiato Apollo Gli piaceva Apollo Gli piaceva Apollo Che cazzo Devo dire Se no L'uomo Mi li rompo Nelle palle Dissento A me non Me sta bene E che Dissenti Cordio Ma che vergogna Ma vergogna T'obbedisco Bravo Sì Sempre le stesse cose Più probabilmente Però Sto Licurgo Che non se sa Nemmeno Se è esistito Sì capito Io mi sono letto Sto libro Che veramente Era Diciamo Diciamo Sviscerava Per questo La gente mi dice No ma guarda Che i ricassini Li buttavano davvero No Sto libro Dicono che può essere Che non sia vero Che li abbandonavano E basta Eppure sta cosa Di Licurgo Può essere Che non è vero Un cazzo Che Licurgo Non sia proprio Ma esistito E che le leggi L'hanno prese da Creta Perché Come giusto che sia Diciamo che Hanno preso Cose che già esistevano E funzionavano Usavole pure noi Cioè Ha copiato le leggi Da Creta Era un bel libro E anche Corfo Sì I Fredbuter Sì Sempre loro Sempre le stesse cose Ti spiega Le cose fondamentali Da Sparta Dalla nascita alla morte Pure quella Era vista con curiosità Dagli altri Greci Perché era mista Aveva elementi monarchici Esatto Poi era fatta Da tre elementi Con il re Oligarchici Oligarchia Governano in pochi Col consiglio Degli anziani La gerosia Dove si poteva accedere Dai 60 anni in su E democratici Con l'assemblea Degli efori Eforemo dopo Dinkleberg Se questo mi dice consigliere Io penso al consiglio Degli anziani Ma non mi pare Anziano Lei Mi porto bene Questo personaggio Non esiste nel fumetto Creato Che poi Terone Non c'è nemmeno Frank Miller Non l'ha mai messo Cioè gli anziani Sono anziani Gli efori Va bene Sono fatti male Ma perché Frank Cioè boh Vabbè Non c'ha senso Storicamente Santo Snyder Va bene Comunque La parte bella Desta storia È come si accedeva A sto consiglio Dei guardatori Dei campieri Dei templi E chi ce lo dice Aristotele Precettala Tutti dentro Butto Pure Aristotele Precettala Aristotele Comunque era un figo Aristotele È stato il maestro Di Alessandro Magno Per chi non lo sapesse E poi Veramente Era veramente Moderno Nella sua Nell'antichità Che come un antico cacciari Sparava a zero Sì e poi Diceva tutte cose Per prima cosa Non gli stava bene Che a decidere Del futuro della città Fossero i vecchi E c'ha ragione Perché i vecchi Che cazzo di prospettiva Di futuro Possono avere I vecchi Cioè è un controsenso Con tutto l'amore Per i vecchi Voglio essere sincero Ma i vecchi Il mondo da qui Ha 50 anni Ma il vecchio Ma È figlio Della generazione precedente Lui l'ha visto Non ci sarà Aristotele Fratio mio Vi è qua Fatta abbracciare E sto paese È governato dai vecchi E questo è un dramma Sto paese Italiano Quando Polibus Si imboccava così Uno dei boomer avanti cristo Schioppa Piccolo angelo E allora Assemblea cittadina Guarda che bello Goso L'elmo Arrivano i candidati E chi riceveva Gli strilli Più forti Di approvazione Entrava nel consiglio Madonna C'è capito Proprio Per vox popoli Cheat Perché anche a Roma Dopo Mi ricordo Quando ho fatto Diritto Romano Anche il rex No Il re O i magistrati Venivano Mi pare Venivano Diciamo Eletti Per strilli Era una cosa comune Che poi Succederà Anche dopo Vox popoli Chi è più amato Vince Sembra una cosa stupida Ma alla fine Ha anche un senso Assumete me Ho sbordato Chi strilla De più Vince Mamma mia Assumi me Io te faccio vincere Qualsiasi candidato Quello Bravo Bravo Assumete lui Sì Quello Quello Amicugino Bravo Vinco io Raga Vinco io Ma te rendi conto Se quel giorno C'hai la raucetine Perdi le elezioni Non è che perdi le elezioni La gente mi ha scritto Ma non è che devi strilla a te Sì ho capito I tuoi diritti Nel senso Perdi le elezioni Il tuo candidato Intendevo Cazzo Vabbè I tuoi diritti Non verranno mai rispettati Aristotele Non posso darti Torto Torniamo all'ambasciata Pubblicità Alefantino Che carino Non urlare che è sera Ok d'arta Non urlo C'hai ragione Perdonemi Cerro Ma educato Stavo parlando io Ricordati che Cercherò di fare più piano E hanno la responsabilità Di ciò che dicono Uomo avvisato Mezzo ammazzato Mi dissocio Forse doveva dirmelo Prima che le sbottassi Ma comunque Questa mi pare Una cazzata Allucinante Questa non lo deve dire Ma ambasciatore Non porta pene Lei è un onuco Lei è un onuco Terra E acqua Guarda Forse Quagsire E acqua terra Ma terra Questa la stavo Quasi a tagliare Perché stavo a parlare Tutto bello Della storia Pokémon Però non esiste Un Pokémon Acqua terra Ragazzi Sono andato a cercarlo Perché io in me Mi faccio bene Non esiste Un Pokémon Acqua terra Perché sarebbe Troppo Sgravo Esiste Terra Acqua Ma acqua terra Non esiste No Terra e acqua No Aspetta Aspetta Mi pare Una cazzata Allucinante Aspetta Cero Ma ambasciatore Non porta pene Lei è un onuco Terra E acqua No Terra e acqua Non esiste Guarda Forse Ma non è uguale Ma come un cazzo Terra e acqua Non esiste Se è uguale Perché non esiste Terra e acqua Esiste un cazzo Adesso mi trovi Il Pokémon Terra e acqua Non acqua Terra Pezzi di fango Terra e acqua Stronzi malefici Cosa cambia Cambia che terra E quello primario Non sono identiche Stronzi Perché non c'è terra e acqua Se sono identici Non sono identici Non cambia la sintassi Cambia la potenza Fidati Non sono uguali Come non cambia niente Ma non esiste Terra e acqua Ma perché non esiste Terra e acqua Non sto calmo No No Non sono uguali Lo vedi Chiamate Uno expert Chiamate 88 Zelda fan Che fine ha fatto 88 Zelda fan Scrivete a Sidonia Online Andate da Sidonia Svuotate la chat Esiste terra e acqua E' uguale No non c'è Sidonia Porca puttana Chiedeteglielo poi Chiedeteglielo Che cazzo ne so E' esperto di pokemon Quello no Perché lui Si che ho giocato a pokemon Non sono la stessa cosa No No Chiedeteglielo su Evriai Poi tornate qua Andiamo avanti Acqua Ma sa che non esiste Come pokemon Lo sai Tu però Medai persian Cerse Vuole un'offerta Di terra e acqua Cerse Nartra Ma cacqua Il dio re Il kami Re Cerse il grande Che poi si chiamava pure il dio re Ma sai Memini cochira Lascia fare Il bello Il bello intelligente Affascinante Si pare Questo Giamma Rotteggiare Navarpoz Come si permette di parlare Questa Questa Donna No Sessista Io so persiano Signora Che popolazione So i sessisti Stanno prima Do svincolo Petroia Ancora E poi Solo le donne spartane Tartoriscono uomini veri Vabbè Ma non vi chiudete Con i pokemon Si le statistiche No non è vero un cazzo Attenzione Ho creato il panico Sa perché No no Sei sub Faccio disinformazione Sui pokemon Chiedetelo a Saitonia Chiedetelo a Che cazzo Mi pare Andiamo avanti Gorgo Forse c'ha ragione La cosa di sto film E che butta ste frasi Cringe a caso Porca Io so benissimo Quello che dico Non esiste Un pokemon Terra acqua La legge è dalla mia E comunque Sono le donne spartane Che avevano almeno Compiuto 18-20 anni Poi non dico Che sono diversi Nel video Dico che non esiste Terra acqua Stacce E non esiste Stacce E un po' C'ha ragione Perché gli spartani Pensavano che solo donne E uomini Maturi fisicamente 30 anni uomo 20 donna Partorissero uomini E donne Forti Che poi alla fine Questo è pure Ehm No Accurato storicamente E c'è solo nel film Ovviamente Nel fumetto No 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 Non dico che sarebbe stato Sgravo Ho detto Terra acqua Non esiste Ma acqua Terra Non dico che sarebbe Stato sgravo Clod Lei appena Mi ha Questa appena Mistificato Io ti devo denunciare Ti devo denunciare Clod Adesso voglio I tuoi dati Lei mi sta diffamando Non ho detto Che sarebbe troppo sgravo L'ho detto qua Non l'ho detto Nel video Io ti querelo Io ti Faccio Piangere Ok andiamo avanti Messa così Ah hai capito Invece così Arterescono uomini veri Uomini veri Ma Marstomp Datte lo un faccia Marstomp Non è terra acqua Famo due passi Mentre parliamo Del vestiario Spartano Beh un riassunto Ti dico poche cose Sembra che Questo Il vestiario Ma no Sì 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 Ma lascia aperto Nel film Gli hanno messo Vesti semplici Eh sì l'ho saputo Narcissa Trono hai letto Ho saputo D-L-L-A-T-T-R-I-C E di Narcissa Che morta Poverina Il tron sig 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 Ah è la emoji Ok Eh poverina C'ha avuto C'ha avuto C'ha avuto Cancro E morta Poverina Una preghiera E un pensiero E mi dispiace Laconiche Ci piace Per adesso Dopo no Ma nel fumetto Vanno in giro Proprio nudi Col satrapino di fuori Eh sì Però sempre Col mantello Eh Poi vanno nei parchi da tene Eh Ma perché sono nudi Franchino Ci stai facendo intento Che poi troppo bello Frank Miller Con la maglietta De Corto Martese De Hugo Pratt Cioè genio Perché Frusciante ha fatto Il commento su 300 Spettacolo Comunque anche questa cosa Me la flasho io Eh Cioè È un bel collegamento Perché io ho studiato Il fatto che Eh Le Le Gimnopedie Erano poco prima Veramente un mese prima Delle carnee E quindi Sono nudi Perché anche nelle Gimnopedie Sono nudi Allora ho pensato Che Frank Veramente le stesse citando Ma magari no Magari l'ha fatti nudi Perché Cioè Diciamo L'ha voluti Ritrarre Come gli dèi greci Come Le statue Che sono nude Perché Richiamano appunto L'eroicità Capito Che stanno festeggiando Le Gimnopedie Ma lo so se le donne Andavano in giro nude Ma Senti sì Ho detto alla me Le Gimnopedie Io No Una festa Dove si danzava E girava Nudi Festa che viene subito Prima Delle carnee E a primavera Ci sono le Iacinzie Esatto Quindi a primavera Le Iacinzie Poi Subito dopo Praticamente Le Gimnopedie Che ne so A Giugno Luglio E poi le carnee Agosto Penso Settembre Perché agosto Settembre E la battaglia Delle termopili Quindi Tutte là Poi D'inverno Se festeggia Un cazzo Non sa Fan cazzo Ste tre Sono le feste Spartani maggiori Voglio pensarla così Che poi le Iacinzie Boh Mi viene in mente Che sia Cioè Sono sicuramente Legate a Giacinto Al nome Qualcosa Non me le so Studiate Però penso Che sia Legato a Giacinto Il nome Giacinto Deriva da qualcosa Del genere Cioè Non so Non so Intanto Il persiano No Le ho studiato Le feste Le feste Le nostre armate So talmente Imponenti Una festa dei fiori Quando bevono Prosciugano i fiumi Ma che davvero Non voglio dire cose Sono a conoscenza Quando cagano Fertilizzano i deserti No Quando si muovono Trema la terra Ma pure la tua Non è male Ma arrivendo a te No Era col calamaglio Per dire Che siamo una cifra Un milione I milioni Tutti i golden buttons Ma va Stai a credere Erototo Beh sì No Perché questo lo diceva Erototo Il fatto che Prosciugassero i fiumi È una città De Erototo Ma quanti erano i persiani Giacinto era un amante Da Apollo Ma guarda caso Apollo amatissimo Dagli spartani Ani Non si capisce bene O almeno non l'ho capito io Qualcuno mi riga C'è chi dice Due milioni e mezzo Come Erototo Mentre Simoni De Diceo Ne riporta Quattro milioni Olè La lega Del pelo Aspetta Riporta Quattro milioni Olè La lega Lega Con la faccia Leoni Da premier Sono molto fiero Di questo logo Sono molto fiero Del peloponneso Non può ospitarli tu Che la lega del penoponneso Esisteva veramente eh Era la lega delle città Con a capo Sparta La lega del peloponneso Esisteva veramente La lega del peloponneso Ma ti rendi conto Noi non uscivo mai Dalla nostra valle Questa pianura verde Bagnata dal fiume Po Eurota Più verosimilmente Siete dai Trecentomila Ai cinquecentomila E butti via Rese Qua non si capisce Perché può essere Che erano veramente Un milione Altri dicono Centomila Ma centomila Ma però non po' pochi Quindi io ho detto Diciamo le fonti Trecentomila Ma forse anche di più Non si Non si Cioè Ci stanno Ottocento fonti Diverse Non si capisce In cazzo Da storia Non si capisce In cazzo Ok Per se Ti chiede solo una cosa Ma può essere pure qua Che mi sono tenuto basso Può essere veramente Che è un milione Perché uno dice due Uno quattro Uno trecentomila Boh De Abbozz No ma non è Un milione Il mondo antico È davvero troppo Per essere verosimile Ma magari non Nel regno deserse Perché il regno deserse Veramente C'aveva tutta Tutta tutto Tutto l'est Era suo Quindi Eh due trecentomila L'ho letto pure io Però Ma io c'ero Guarda Mi sarebbe piaciuto Ci potevo stare Solo che Non mannava C'avevo male Un pochino Al polpaccio Quindi ho detto Regà andate voi Andate voi Intanto non è che Mi perdo niente Quindi Se no ci andavo Ci andavo Ma non ci ho Ci ho avuto a fare No Cinquantamila No Dei So di più No Le fonti Ci stanno proprio I conteggi Io mi sono andato A leggere I conteggi De Plutarco I conteggi De Simonide Però ognuno Conta come cazzo Gli pare Sui greci Più o meno Ce stiamo Anche se pure là Però C'è Due Quattro milioni Troppa gente Non si capisce Erano sette Aia Popo quello Ma tanto siete abituati Tra de noi Ma dall'artre È un problema Ma Cersei Ci garantirà Tranquillità Ancora qui stai Ma che voi Ma togna la vita tua A Eder Mobili C'è tri Cazzo Nel fumetto Non ce stai Che voi Devo aggiungere Fillerate D'intritti C'è proprio Unito a Servono altre Scusa Stan Campanopulos Leonida No Non è greco questo Perché Cersei Ti dà le totto Leonida Si gira De Ge Che il Kronos Si fermi De Ge Ge Vuol dire Mondo Inteso come terra Ho scelto quello Kronos È famosissimo Poi ho fatto Ne servono altre Incazzato Come era lui Incazzato Che gli fa Un altro rallenti Certo che ho ragione San Venis Non esistono Pokémon Primario terra E secondo acqua Ma tu pensi Che facevi di a caso La gente mi dice Che è uguale Ma un altro ha scritto No Perché il primario Determina le mosse speciali È fondamentale Quindi non mi dovete rompere I coglioni Sui Pokémon Io c'ho le carte C'ho tutte le sette base C'ho le promo Non rompete il cazzo Io sono vent'anni Che vado a prendere i Pokémon Hai capito? No Frederick L'ho fatto io nascere Con ste mano Non è vero Che alzacche de Snyder Gli piacciono molto Gladiatore Ma come fake news Ma che cazzo Biona Mi ti rivorti Biona Biona Cuoco e tu Biona Leonida Guarda il suo popolo Ah ma sta cosa Regà comunque A parte le cazzate Sto film Veramente Cerca di acchiappare Le cose degli altri film Con una tristezza Il gladiatore Lui Questo film di merda C'è no Vabbè Simposi Veramente Vuole Cercate Fatte Rivive Le cose del gladiatore Che era uscito Pochi anni prima Ed era andato fortissimo Con ste musichette Ste cazzo De spighe De merda Ma non è che se Mi inquadri Tre spriche Io vado a Grecia Antica E come la tigre Mi inquadri Su la tigre Babba Sta in Africa Non è che mi inquadri Le spriche Sto in Grecia Del 1500 Avan di Cristo Cristo Due volte Cristo Quindi Ma pure il fatto Che le A me non muoverà Nessuno dalla testa Quando vedremo Il pezzo delle ondite Che si gira Con quell'inquadratura Uguale Cazzo ad Aragorn È per farti È per farti Rivivere Capito Le cose del signore D'anelli E infatti C'è metti i mostri Yurucai Una Ma che cazzo Fai No Yurucai Non Non puoi rubà A casa dei ladri Io te vedo Che provi A strizzallocchi All'altra Fanbase Per cercate Fatte Una cosa tua Vergogna De Snyder Vergogna Dei saccheggiato Una serie coreana Andiamo avanti Un prato dal fuoco Di mille battaglie Azi Vedendoli così Fossi in te Guardalo Essere spartano Non è per niente stressante Lo dice Pino 48 anni Apparenti Va Guarda Questo non ce l'ho là Questa madre Attore Gli ha detto Vai a portare due spicci Sennò Te vendo agli Ateniesi Guardalo Non voleva venire Ma che cazzo fate Cetterei Magari i persiani Migliorano la qualità Della vita Parenteleton Dono io qualche talento D'argento E alla fine Guarda Cesira Mamma mia Questa è bella Ha finita Bella E brava Anche hard Anche se nessuno Me leverà male Dalla testa Che Cesira Con Weinstein Non lo so Perché Oh Cioè Il personaggio De Gorgo È proprio Boh Pare che gli hanno detto Motte faccio Fan personaggio Scrivegli un pezzo De sotto drama Ma a me questa Gli devi fare i primi piani Gli devi fare i primi piani Tipo L'aiuto regista De Boris Perché non c'ha senso Non c'ha un cazzo De senso Il personaggio De Gorgo C'ha una sottotrama Sua parte Veramente scritta Corculo Corculo Il finale Della sottotrama De Gorgo È proprio L'anticristo Della sceneggiatura Che uno Lo accortelli Cristo redentore E ti scaggioni Nella scena Dopo Perché questo Va in giro Con i sacchi d'oro Ma come cazzo Si fa Se lo accortellava In faccia La metteva In argabbio Gorgo Perché non trovavano L'oro Ma ti rendi conto Cristo Andiamo avanti Tu sei pazzo E ditemi Che so Sei vero E ditemi Che n'è vero E continuiamo A buttare Giù La mediocrità La merda Pure io Comincio a fare video Porca puttana Doloradissima Con tre iscritte E io Che dico Cazzate una gente Mo guarderà Mo guarderà 200.000 di meno Farò 200.000 view Ma io faccio Il campo uguale Pure io Comincio a fare così Vedo la roba Che ha la mano sinistra Vaffanculo Ma perché devo fare notate Se posso fare come Zack Snyder Che ha già te Dice pure Ero e genio contemporaneo Madonna Cristo Andiamo avanti La birra è salita troppo Mo avrà la seconda Sto ancora una Piccola Tu porti Le teste Degli imperatori Sconfitti A casa mia E manco ce ne regali una Ma solo nel film succede Tu Insulti la mia Oh porca troia Tu insulti la mia donna Stiamo a Arghetto Stiamo a Torbella Monaca Non stiamo a Sparta Tu hai insultato La mia Mugliera Tu così Incevalli A lei Capito E tu fischi Er persian calling Er meo calling Stiamo a questo Tu insulti la mia donna Quindi ti butto Nel pozzo Andate a fanculo tutti Il cane Bravo cane Donna Ma perché ragazzi Insulti la mia regina Quindi è pure un simpatico canaia Non posso dire La mia regina Perché tutte le donne Sono regine Non rotoloni regina Che si associa ai cessi Mamma mia Ma questa è body shaming È una battuta simpatica Per tutti Per tutti Anche gli uomini Quindi per favore Per favore Per favore Simponida Non posso Devo saltare quella parte Mi banna Twitch Mi banna Eh Sì Beh dagli una scusa Allora sì Allora ne pozzo Eh eh Scusa Cesira Ma te manco ce stai qua Stai in tre vignette Nel fumetto Mi dispiace Che poi qua c'è pure Vabbè Dirtelo Tu minacci Il mio popolo Di schiavitù e morte Dai che la schiavitù Noi schiavitù Io ho chiesto terra e acqua Tu millanti scambi pokemon Che non vuoi fare Questa è la cosa più peggio Se non persi Adarmi nomeo Finisco il pokédex opulos Guarda che bello il pokédex greco Mamma mia Devono farlo Devono farlo Poi mi hanno detto E quando ho fatto la battuta Pokémon grecia Che c'era Zeus Che la faceva di Pikachu Per chi se lo fosse perso Mi hanno detto Qualcuno l'ha fatto veramente Pokémon fake greco Tocca a andare a vedere Deve essere una figata E voglio dargli Pure spazio Quindi Dai Amore si Opulos Fattavaro L'angre Ottimo Ora ho capito Pare difficile Questa lingua Lei è folle Folle le dico Questo Viene da Harry Potter Da Da Finnegan Che io una volta Gli faccio di Folle Folle E voglio ripeterlo Mi fa ride Lei è folle Folle le dico Leonida Esce da psicosi Si rende conto Che forse Staffana cazzata One pace è il prossimo Prostima settimana esce Con Gorgo Poi si gira sempre Guarda Gorgo Ragazzi Due Ok la prima volta Ma la seconda pure Questo non fa un passo Senza che la moglie Gni dice qualcosa Amore io ti amo Però così Ma scusa Ma sono il primo Che lo dice Che quest'uomo Guarda solo la moglie La moglie Decide la moglie Gli hanno scritto Io Io devo capire Perché esiste Il personaggio di Gorgo Io vorrei parlare con Lena E digli Eri giovane Hai fatto qualcosa Che non dovevi fare Per avere T'hanno scritto Staparte Perché Perché Boh Comunque Con Gorgo Che gli ha rilimenta Con Gorgo Che gli ha rilimenta Con Gorgo Porco No Un po' difficile Con Gorgo Che gli ha rilimenta Subito le malattie Hanno altri ambasciatori Ma senza accusarla Cioè io voglio essere Molto serio Voglio dire una cosa forte Voglio dire una cosa Fortissima A tutte le donne Che mi stanno ascoltando Donne Se voi avete La gioia Di usare Il vostro corpo Cazzo Come meglio credete Fatelo E nessuno vi deve giudicare Ok Ma dovete essere Voi a volerlo Oh Quindi Se è andata così Però Fagli sta domanda Capito Ma come è andata Via qua Lena sei tanto bravo Dici la verità Comunque Glieda all'ok Oh sbaglio Oh sbaglio Megara Maddalena È bellissima L'avete vista Ragazzi Ma perché Se a moglie dicevate no O risparmiava Raptor No sono sobrio A parte Cazzato Ho avuto una birra piccola Cioè Sto pure a A enfatizzare Però L'ho sempre detto Che le donne Possono fare come gli pare Eppure gli uomini Per favore Vabbè trono Ti pagano Sì mi pagano Le donne Io ho un bonifico Da 3 miliardi Di Persone Di sesso femminile Dalla Cina Allo Sri Lanka Che mi mandano i soldi Per dire queste cose Sì No No Fravigator Perché Non sono simpatico Perché io non voglio Niente in cambio Come la metti Questo frame è stupendo Questo frame è il nuovo meme Cioè hai ragione Non è che io chiedo Il permesso O voglio qualcosa Non voglio niente Non voglio sapere niente Quindi Oh Buttalo Buttalo Anzi no Vabbè sì Così si impara A rispondere Ma gli fa proprio sì Gli fa sì Le ho sim Gli fa sì Gli fa sì Vabbè ne discutono in famiglia Te si è calmato Che sta che a dire Questa è follia Follia Te pare follia Un pochino Eh Dovevo rimanere per sepoli Morirete tutti Eh Stigazzi No rifavola Questa è Pitane Vedi che bella pitane Questa è pitane I miei piccoli Giuocano Poi lui li chiama i piccoli I miei piccoli Giocano E coperta papà No E altri rallenti Come se Grazie a pipi appà Queste sono lenticchie Poverino Leonida Ma è un crimine di guerra Che ammassi gli ambasciatori a caso Sì Leon Mai visto sotto? Leonida Ma è un crimine di guerra Che ammassi gli ambasciatori a c... Eccovi Questo è gravissimo Caso Sì Leonida lo fece davvero Sì E pure Atene E veramente li buttò dentro un pozzo Casomai vi chiedessi Questa è la cosa Una cosa storicamente accurata Leonida le buttate in un pozzo Questa è l'unica cosa Cioè capito Quindi qua storicamente accurato Questa cosa sia sta cosa Oh sto buco Doveva dire 40% storicamente accurato Che non è pochissimo 40% Zac No 90% 40% 40% Vabbè E c'è l'Ade No è un pozzo Quindi hanno inquinato l'acqua Sì Succede Sia nel film Che nel fumetto Che nella storia Ma dieci anni prima Ma alla prima guerra persiana Sia gli Atenesi Che gli Spartani Ammassano gli ambasciatori E non se fa vergogna Perché Bastardi Perché hanno proprio rosicato E l'hanno ammazzato Gli Atenesi Li buttano da un barcone Mi pare De ricordà Li buttano sempre da qualche parte Comunque Prima la prima guerra persiana Bocola Aspetta Risponda a mia madre Pronto Sì 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 Ho portato Jim Sì sì Ho portato giù Vabbè Sì sì Dovrebbe arrivare Forse un'altra cosa Vabbè Dai Ciao 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 Che oggi sono passato Pure a portare Il cane Giù Gimmino No 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 Sta al lavoro Mi madre No non mi sono arrivate multe No 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 Guarda che bel frame Cambio scena In mezzo a un filo Gli efori Siamo agli efori E tra i dissenatori Ci hanno messo gli immortali Foreshadowing Scala robe Che popola Torre cari Neppy nabbi Questo è da poggers I meme di twitch I miei miei I miei zoccoli Di gnu Finalmente Developpa Al cospetto Degli efori Sti vecchietti Go a scabbia Con gli efori L'hanno rappresentati Malino Benvenuto Leonida Ma come cazzo Ci siete saliti Voi fossili Qua C'è il sentiero Comunque Questi sono I cinque efori Letteralmente Che poi so cinque Perché uno Da ogni obai In teoria No Hai detto Ricordi che gli obai So quattro Più una cinque Quindi gli efori In teoria Si Dicheno Che dovrebbe essere Ognuno Per ogni obai Dicheno Però Non si è capito Loro che osservano Gli watchmen Ma who watched Ci ho messo tutti gli watchmen Guarda che bello Guarda che bel frame Watchers Sacerdoti degli antichi dèi Si Magari nascono Così Dicheno Intorno al 755 754 Anche la mano di Dio Antichristo Ma poi Si sono magnati Tutti Che poi c'è sta Tipo Sia nel film No Oppure nel fumetto Gli efori Precedenti Al licurgo Ma non è vero Perché il licurgo È tra l'ottocento E il settecento Avanti Cristo E gli efori Nascono tra l'ottocento E il settecento Avanti Cristo Quindi Precedenti al licurgo Un cazzo Fumetto Scusa Frank Ma Un cazzo Un cazzo Proprio Però a potere Superando pure Il consiglio degli anziani Diventando Magistrati del popolo È vero Dread La legge son loro I guardie Controllavano L'ordine sociale Come ti ho detto La parte democratica Della costituzione spartana Si Intorinano quelli bravi Perché erano la distrazione popolare Tutti potevano accedervi Tutti gli spartani Quelli quei diritti Sovridentati Eccetera Però appunto Dal popolo Quindi so bravi Rimanevano in carica Solo un anno poi Cioè Solo un anno Rimanevano in carica Veramente pochissimo Cioè gli anziani Rimanevano Per tutta la vita Quindi loro Che cazzo potevano fare Invece Odio Odio totale Quanti danni Potevano fare Porci incestuosi E la maddiana Cacciatrice Frank Miller Credeva a Platone Me sa Che diceva Fossero tiranni Alla fin fine Ma quanta cattiveria Bestie Animali Che perfino Leonida Deve corrompere Ah ecco Perché ce l'hai con loro Stai a rosiglia Ma perché io sono L'uomo forte Che sa Quello che deve essere fatto Non alimentare Sti pensieri Di alcuni fan Dice Dice Che vuoi fa Io però non ho capito Sembra che abbiano Invertito Che io ho messo Qualcosa per la pelle Tipo qualcosa Per la crema Che dice Che vuoi fa La crema lifting Che io ho messo Ma no Ma questa è un po' di scemi Io però non ho capito Sembra che abbiano invertito Il consiglio degli anziani Che dovrebbero essere vecchi Ma guarda Terone Con l'eforato Che so giovani In teoria I cittadini Qua non si capisce Però se so giovani Sfreggiati o vecchi Però gli efori vecchi Boh Per Ma qua so vecchi Sembrano Vabbè Storicamente esatto Allora Ecco il piano La persia Il piano con quello De cattissimo Il piano T'arriva per così Ma se noi Non manca qualcosa I soldi Il tributo Che è qua faccia Paga le tasse Sei proprio uno stereotipo Sei proprio De destra No Prosegua I persiani So tanti Ma se noi Difendiamo il passo Delle termopili Ce la potemo fa Non mi hai convinto E se faccio due casette Ancora no E se ti dico Che le nostre lance Le dori So più lunghe Delle armi loro E non ci arrivano Popo a colpicce Quindi Incanalandoli là Easy win Che me dici E le carnee Na fumo quella roba Da centri sociali Dei panini Le carnee La festa sacra Che rievoca La discesa Dei dori Sempre sti dori Guidati da Apollo Carneio Ecco per chi me chiedeva Apollo Apollo Le carnee Apollo Carneios Capito Ma trono Finirai mai Il trono Del muore Mi ha fatto muore Dalle risate Lo finirò Inizierò Dopo Mo voglio fare Una cosa corta Faccio one punch Ma poi Magari Entro aprile Vorrei fare pure Un'altra Death Note Non lo so E poi Rinizio Got Mo vedo Perché dovrei leggere Pure il terzo libro Quindi mo vediamo A otto anni L'hai visto il film Miss Melassa Graves È nostro compito Accertarci Che tutti Tutti Sia cittadini Che re Rispettino Gli usi e costumi E dovemo Falli Che? I costumi E rinfresco Chi ci ha pensato? Il catering Delle carnee Ma so appena finite Leggiamo Va bene magari Valerio Mo vedemo Stiamo tutti a girare Col capitello di fuori È tutto un ponte È tutto un ponte Siete mori solo Più al reddito De cittastate Poste spartane Va bene Ora capisco Perché piace agli estremi Dittatore Ti credi al di sopra Della legge Io morirei per la legge Solo a quella che te pare Eh sì Sparta brucerà Donne e bambini Diverranno schiavi No Peggio Ateniesi No Quindi il piano di Leonide È semplice Incalanarli nelle termopili O termopile Letteralmente Le porte calde Per via delle sorgenti termali Che scurchino E poi infirzalli Quei lance lunghe In tutta sicurezza In tutta sicurezza sul lavoro Ma che bello Dritto per dritto Come? Dritto per dritto E poi Boom Ripeti il piano un po'? Dritto per dritto E boom Cioè dritto per dritto Perché faceva Guarda veramente lo stesso Cazzo Guarda lo stesso movimento Dritto per dritto Cioè ma come Ah le ho Ma vabbè Dritto per dritto E poi Boom Cita Mario Dritto per dritto E boom Che tenerezza che fai Sei simpatico Però no Radical chic In sostanza Yeah Poi mi è piaciuta sta cosa Che l'ho fatta fare una cosa A destra contro sinistra Perché leoni Vabbè Dittato Cioè R Quindi un po' di destra Fori R Litighano Sull'entrare in guerra o no E su quanti soldati mandare Perché un altro compito Degli efori Era scegliere Le classi di leva Ma che dove Facevano tutto gli efori Per la guerra Ecco perché leoni Da qua Facevano un sacco De cose Sti efori Impegnatissimi Quindi Parla qua Segretaria Con chi? L'oracolo Che entri con lei Che tutto muore Pure sta cosa Mo va Dico Ecco l'oracolo Qua per Per censura Chi è questa persona Scusate eh L'oracolo Anzi L'oracola Pardonna signorina Ma stiamo a Delphi Boh Sto pezzo del film Cioè allora Ma pure qua Io ovviamente Diciamo Ho azzardato Perché a modo mio Leggendo le fonti Leggendo che leoni È andato a Delphi E tutto Ho immaginato Che appunto Hanno unito Le Le cose Capito? Come hanno fatto anche In Troi Che hanno unito Il Laoconte Con un altro personaggio Lo mi pare No? Quindi Lo fanno Lo fanno Anche Del fumetto È molto simile Secondo me Umalissimi Di menina Vabbè Vabbè Storicamente Storicamente è un bordello Come nei film presi dai libri Hanno unito i personaggi Ma farlo che la storia è un po' pericoloso E qua hanno unito due appuntamenti I efori che volevano proteggere il peloponneso Perché pure sti efori Sono visti come de merda però c'ha uno senso Loro lo protegge qua Che è un termopili 1.0 Nell'istmo de Corinto Perché questo è il peloponneso Allora difendemo il peloponneso La vedevano più Famose li cazzi nostra Più de destra paradossalmente no E invece Leonida voleva unire tutti E sono andati più su Voleva unire tutti i greci Piazzando i soldati Sull'istmo di Corinto Non è che non voleva un'annanguera Avevano altri piani Difendo i territori di Sparta Sono isolazionisti T'ho detto Uscire dal Padagno Bonneso Padagno Bonneso Invece Leonida puntava a unire tutti i greci Quindi portarsi in avanguardia Per convincere gli alleati incerti A prendere una decisione irrevocata No Quindi hanno unito questo Con il viaggio di Leonida A Delphi Un viaggio inaspettato Perché si Sparta e Delphi Termine tecnico della storiografia modernissima Stavano così A bello reso Veramente comunque L'Orago di Delphi è famosissimo E Sparta Era quello che c'era il rapporto migliore Non mi ricordo perché cazzo Sempre per sta cosa da pollo Comunque Perché amavano Apollo Tutti e due Non mi ricordo Se aveva aiutato a fondarlo Sto Oracle Non mi ricordo Però è un barco giuda Sono un coglione Però Non mi ricordo E poi è bellissimo il fatto Che io non ci stavo a pensare Ma pure qua c'è una profezia Ma te rendi conto Una profezia ovunque Profezie in ogni Pure in Nightmare Before Muori C'era una profezia Ma escono dalle fottute pareti Le profezie Com'è l'oroscopo per domani? Forse è meglio che te siedi Avevano un rapporto privilegiato Perché sì Pure qua C'è una profezia Stupendo Stupendo Ma è bellissima sta cosa Abitatori di Sparta Questa è una profezia vera O la grande rocca gloriosa Verrà devastata Dai discendenti di Perseo Poi la Persia è bellissima Perché discendenti di Perseo Eh è una cosa ovvia Ma avete fatto il collegamento Perseo Persia Vabbè Pure Questo non avvera Ma è bellissima la profezia Verrete distrutti Oppure no Cheat Ma Cristo addio Ma così pure io posso fare la profezia Domani No Bannate i peni Bannate Furer Bannatelo proprio diretto No Timeouttatelo Vediamo se domani Ha imparato la lezione Comunque No Timeouttatelo Tiranno Scusa Comunque Vabbè Bannalo Vaffa Comunque Non ho scordato De tutti No Cioè così son buono pure io Quello che ha fatto Il peni in chat Verrà bannato Per sempre Oppure no Se domani Do un sbanno Bella Bella Complimenti Ma la terra Dei lascia e demoni Piangerà morto Un re della stirpe Di Eracle Perché nessuno Dei due può vivere Se l'altro Sopravvive E quando ogni Stua ambizione Gli verrà Negata Unimo tutto Anche se la profezia Continua Banna tutto Jerry Banna tutto E allora Leonida Capisce Che dovrà Morire Secondo me Hanno voluto unisti I due avvenimenti Sia Frank Che Zack La profezia E gli efori Ma senza dire niente Della storia vera L'oracolo vero Era figo Storia vera Capito So pur sempre Profezie Però è bello Sentire la profezia Vera Perché la profezia Storia vera Sto allargà Però Vabbè Penno spolerà Ma sanno tutti Il finale Qua invece Te becchi Lo stacchetto I veli I velini Il responsone Bisogna pensare Alla guerra Alla guerra Alla guerra Al catering Delle carne Ma vaffanculo Come ti permetti Noi abbiamo anche Il potere Di condannare I re Lo sai Ma siete inutili Mi pare che invece Ti abbiamo fatto Comodo Quando hai deposto Tu fratello Cleomene Ecco Cleomene Volemo dire fuori L'artarini Porci corrotti Quando te pare Vedo l'ora Che arrivi Cleomene Aridaglie Cleomene Terra Il fatto che loro Possano Diciamo Condannare I re Ma devono avere Diciamo Come si dice L'unanimità Sia loro Che gli anziani Gli è tornato utile Quando lui ha deposto Il fratello Perché lui ha deposto Il fratello Anche grazie agli efori Si è alleato Con gli efori Quindi adesso Che si trattano Di merda È un po' meh Cleomene Cleomene terzo Discendente Li sbracherà tutti Nel 200 E qualcosa Che nel 227 Le squarta Cosa hai detto Viva Sparta Ecco bravo Scappa Fifonida Ma la ordino dopo Diranno Ma conviene ordinare la cena Un po' di perieci Siii Gli efori Eccolo vedi Ma andammo a morte Un po' di perieci Siii Perché loro potono mandare a morte I perieci Siii Gli efori No non l'ha ucciso Il fratello Mo ve lo dico Abbiamo capito Li trattano proprio Ve lo dico Nel 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 Pustolosi lascivi e corrotti dai persiani con al seguito terone daie il primo di mezzo che lo buttano in mezzo a caso terone ogni tanto ciccia fuori tanto perché hanno preso statore dominic west o vorremmo usare eh ma è chiaro come siete saliti come? mister t è salito mister tau ma chi ce crede? però visto che terone da grigento era corrotto dai persiani come t'ho detto mi fate pensare che appunto questo è un modo per fattelo vedere voglio essere buono anche se qua è spartano si vabbè capito siccome io ero andato a cercare terone so che è corrotto qui lo vedo corrotto io non lo so jack perché l'hai chiamato terone allora sai chi è terone di grigento cioè boh tra tutti i nomi è proprio terone oppure ha scelto un nome a caso di un re a caso che ci stava bene non lo so se lascia perdere bravi bravi questo è il mister t aspetta mi lascia perdere bravi bravi avevo messo bravi in mezzo alla diastemia che è stato dicendo la diastemia va bene bravi sotto il regno di serse voi corrotti vincerete tutti gli appalti voi e i vostri amici e gli amici chi l'aveva visto quel bravo in mezzo ai denti? non credo pure generazioni è col taglio di luce una profezia però vera a seguire il taglio di luce profezia molto italiana un saluto all'uomo puma guarda che roba ma che fai? ma che te ridi? ma serio jack? qua invece voleva un po' non lo so fa la sinsinnata no sinsinnati però capito perché voleva un po' renderla tipo fumetto però la risata da cattivo cioè ragazzi io mi sono ammazzato dai risate cioè mamma mia che bello è perché lui è cattivo e sparta è brava personaggi sfacce eh alla sin sin mamma mia come la fate semplice persia cattivi sparta bravo cambio scena leonida e gorgo in un momento di sinusia sinusia vuol dire intimità nella camera da letto sinusia in greco film perché si hanno voluto mettere la storia d'amore pure sta a cercare i punti leri guarda qua questa scena del merda dei baci del merda come duroc nudi nudi non c'è niente da fa l'americani de goccio laconico mi sembrava di rivedere death note grazie a tanta lighieri per il primo prime addirittura tante grazie crei lo sceneggiatore eh luna c'è la censura luna contro luna adesso te svelo come diventa sceneggiatura in america sei pronto sceneggiatura fratto trama seria per amore alla seconda uguale blockbusters questo questo stampatevelo mettetevelo in cameretta perché fate i sordi studiate che anche nel fumetto ogni tanto pensa alla moglie per carità ma guarda qua vediamo che diceva che anche nel fumetto una donna forte un'ottima moglie per lui ora è solo un ricordo non la rivedrà mai più non la rivedrà mai più sparta cioè ogni tanto pensa alla moglie ma diciamo che il punto è il fatto che lui deve andare a morire no che la moglie la moglie mi moglie mi mo donna da mi moglie cioè ogni tanto pensa alla moglie per carità ma guarda qua solo per accaparratti il pubblico femminile palesemente con una trama filler de gorgo grazie Antonio Gianni va bene vogliamo parlare aspetta mo parliamo di gorgo sono passato a fare un salutino a rifare l'abbonamento torna a studiare buono studio l'università mi lasciano un po' dai di gorgo parliamo de gorgo caro ti ricordi quando mi hai chiesto in sposa apro la seconda birra non vi prometto niente cifrillissimo quando deposi mio fratello che leomene primo facendogli la grazia di legarlo ancippo e lui si è dovuto tutto vero con cortello che aveva rimediato un lieto fine così ti ho conosciuto povero papino che Zeus l'abbia in gloria aspetta aspetta si gorgo è la figlia di cleomene primo il fratellastolo dei leoni da madri diverse ma sempre il padre e lui l'ha sposata per rafforzare il suo diritto di successione si è sposato la nipote del primo grado ancient family anziché mother family allora come ti ho detto prima erano figli di madri diverse cleomene leonida il fratello maggiore dei leoni da more non mi ricordo dove cleomene regna per una cifra per 30 anni infatti leonida ai termopilici ha 60 anni ha passato 30 anni a vedere il fratello regna al posto suo poi siccome cleomene ha fatto l'impiccico demarato tu lo ricordi poi lo dico leonida lo prende come scusa per complottare con gli efori e lo lega in ceppo apposta perché diciamo cleomene è stato condannato pure dagli efori non è che fa così a caso il colpo di stato e poi cleomene dovrà supplicare tipo uno schiavo per farsi da un cortello con cui si ammazza e leonida può prendere il posto e si sposa la figlia di cleomene perché così può andare in giro ma se ho sposato la figlia del re precedente voletemi bene non rompete il cazzo ok farakiri esatto piuttosto che soffri così dentro sul ceppo capito pesante cesira dove va in cesta ci ha fatto caso ci ha fatto caso zio come marito vuoi mettere le storie d'amore metti le storie d'amore qua non te lo dicono te lo dico io però c'è un po' de natale l'acetemone sto film non è che parla la pancia delle persone coi momenti fomenti non parla la pancia un po' più giù no coprite le grazie di cesirato guardate vergogna sbrigate le formalità si scopre che è gorgo il capo è gorgo che ti buttano un po' così l'amore perché ma che cazzo fate ma pure sta cosa è una cosa che mi ricorda waynstein perché mi ricordo che ci stavano le conversazioni dicevano buttate le scene di sesso perché vogliamo vedere le scene di sesso a me sta cosa mi puzza sta cosa mi puzza sta sotto trama di gorgo tutta sto impiscio pover firma non me pare me pare una cosa strana però vabbè le decisioni revocabilopulos e le leggi e sti cazzi è gorgo il vero kira no quella era un altro speciale leonida abdica dagliele ermo vai a zappare con gli loti pure l'elena ha denunciato un western ma guarda un po' no perché zack le vuole far intendere che dietro un grande lo diciamo tutti e due marzo uomo c'è sempre una grande donna si ma ok una grande donna ma no che gorgo piglia le decisioni per leonida per la quarantesima volta e ammazzamo gli ambasciatori e ce pensa leon gorgo e mo andrò in guerra ce pensa gorgo ma che cazzo stai a di ma che cazzo fate ma gorgo decide tutto gorgo in questo film perché è solo nel film nel fumetto no gorgo salva la persia perché gorgo vanna il marito gorgo va a chiedere le truppe fa tutto gorgo ammazza gli ambasciatori ma che cazzo state a fa un grande sprizzi esatto dard gorgo sprizzi perché non ho fatto sta battuta gorgo sprizzi era così facile sono un coglione sono un coglione uno sceneggiatore cane con dietro un grande pennello con dietro un pennello grande cinghiale che ammazza Robert e dai è tutto un ciclo cinghiale sta per andare alla guerra con i famosi 300 spartani nella loro tradizionale veste rossa grazie a capifanita guardia reale gli hippies i hippies ma come gli hippie ma allora non sono di destra infatti che poi si chiama noi gli hippies gli hippies hippies ma da i cavalli no gli hippies i cavalieri cosa so questa no ho chiesto anche se non c'è uno cavallo letteralmente i cavalieri un corpo sceltissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimo dove appena entravi l'art rispartani esclusi cercavano in tutti i modi di prendere il posto tuo pure questo mi ha ricordato mairo accademia te lo ricordi che i primi tempi c'è stavano le altre classiche c'è pure quello là che te te costringe a fare quello che vuole lui che tutti cercano di più perché voi siete la classe più fica è tipo mairo accademia noi dobbiamo prendere il posto vostro provocandote facendo te sparite notte a sparta se non mori in battaglia mori de stress so forti gli spartani perché si mettono nella merda da soli nella copros se uno sbaglia tutti non magna niente cibo fino alla fine del viaggio per nessuno si allenano in modi in cui il muscolo non se ehi vuoi fermarti spartano no signore sto benissimo così lo vedi sono proprio abituati capito a morire ammazzati rigenera combattono nudi ma perché così vivono gli uomini perri fa sbender fa sbender adesso me ne so cioè non me ne ero mai accorto ma nieto cioè ma i col fassbender si questo è il primo film de fassbender ora è proprio al top ma ha iniziato urlando cose cringine che però il re ha prova bravo mo parlo con Ridley Scott da fammo fa tutte cose co alien magari eeeh e poi in questa occasione però leoni da scelse e tutti i uomini che avevano che poi boh qua c'ha 30 anni ma pare che c'è una 47 grazie a Lady Scarlett avevano già figliato per evitare si questo è il primo film de fassbender il primo cioè almeno quello che c'è nella filmografia ha iniziato tardi e ha 30 anni a fa firme la distruzione delle loro famiglie non so che cazzo che leoni da già sa e questo è vero storicamente esatto bravo bravo finché non inquadrano un minorenne questo ha figliato si a desimposium desimposium ma mi disse zitt attacco un titan me lo chiedono questo è il mio figlio Astinos 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 chi cazzo è nella storia vera non esiste nel fumetto si lo nominano un figlio del capitano ma boh ma cos'è la fine ma a sto punto metti wiki Stelio e chi è Stelio qua veramente non mi ero accorto che Fassbender era Stelio ci ho voluto lasciare il pezzo Stelio Stelio è un soldato de Sparta quello che rappresenta so io lo vedi che io faccio scrivere perché dopo me ne so accorto no e quindi so io Stelio si entra un po' tutti noi quello fallace ma che si impegna e poi diventerà decisivo uno che nelle prime pagine del Stelio se è un buffone aspetta la punizione lo gonfiano fumetto i compagni lo chiamavano affettosamente sterco merda lo chiamavano merda ti piace il soprannome che gli ho trovato merda erano mesi come lo cercavo è una faccia merda ne conosco pubblicità ma è bullismo bellismo bullismo i bullidi sapevo dei molossi i molossi esistono veramente i molossi erano una popolazione che abitava qua e me la ricordo anche perché sempre in alexandrosa de manfredi tipo il cognato era il re dei molossi quindi i molossi esiste veramente esisteva veramente io ma questi chi so saccheggiamoli si vabbè questo è il figlio del capitano artemis che è st'attore comunque è pure il secondo un comando lui fa sempre il secondo sempre l'anno ma sta battuta fa sempre il braccio destro purellino non è un artista fa sempre il braccio destro non è un artista sta è un arto è un arto è un arto dai questo è bene vado a fa culo sta non capita l'arte questa farina è su forse no vabbè namo aspè e dai però stiamo a metà riassunto magari a metà ma cos'iamo partiti noi chi ferma il re il consiglio degli anziani che so tutti i anziani e lo vedi tranne Terone ma por voi mi dite questa è giovane ma questa è la bodyguard lo vedi che è vestito da questi so gli anziani questi so tipo gli accompagnatori lui sta in mezzo agli anziani so tutti i anziani non mi do te romper cazzo lui pare il portavoce ma che cazzo ma allora falli tutti più o meno giochi tutti i vecchi di merda con lui in mezzo giovane che deve parlare au au ma se devi far il consiglio degli anziani far il consiglio degli anziani porca mignotta i tizi in fondo sono due bodyguard se vede lui ma non so anziani Cristo Dio con Giuda Giuda uno tipo tre lui sta in mezzo pare il capo il badante guardalo non c'entra proprio un cazzo guarda sui bodyguard se vede questa è nudo ma te pare assembramento ma chi questi ma siamo tutti homoioi sono tutti vecchi con lui in mezzo congiunti e dove andà aspetta aspetta vento ma chi questi ma siamo tutti homoioi homoioi vuol dire uguali ed è quello che si chiamavano sempre loro eguali congiunti vai c'ha l'autocertificazione leonida leonida è nato il 540 avanti Cristo ed è vero grazie a morca se è il primo prime a sparta risente a sparta in via sparta 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 questa è sparta ok e dove andate ma andiamo a fare una passeggiata di centinaia di chilometri alle termopili sembra un bel posto se fanno un bagnettino fuori legge alla rupe ah bei tempi quando i re spartani potevano attaccare chiunque volessero e se glielo impedivano era considerato sacrilegio ho letto sta cosa mi sono pesciato sotto delle risate potevano attaccare cioè era veramente considerato sacrilegio possiamo attaccare chiunque è un nostro diritto sacro che spettacolo ma in tutto questo dimmi che dice leotichida leotichida non so di chi parli io sono il re forte l'unico è stato un piacere kai re no no parlavo un po' di lui e chi è tu lo conosci non mi sovviene tutti alla rupe leotichida è l'altro re di sparta perché i re a sparta so due ve l'avrei dovuto dire prima ma non posso mettere tutto all'inizio più scrivo più ho paura di quanto sta in effetti ma donna quante informazioni che palle dobbiamo imparare divertenti no no il secondo re non c'è nemmeno nel fumetto infatti quando l'ho letto mi sono tagliato la diarchia infatti sono due re ed è stupenda sta cosa poi ho cercato di mettere diciamo le informazioni un po' spalmate all'inizio è il pezzo più pesantello diciamo perché dico tutto con dieci minuti di regazzino che accarezza però ho cercato un po' di spalmarle nella vecchia la colia i-a-i-a vige pure la diarchia i-a-i-a oltre che la gerosia ma che due video l'iroi vergogna l'iroi questo rimanda anche ai dios tutto partì dai gemelli euristene che discendevano da eracle si si ci stiamo a credere e che fecero partire due dinastie gli agiadi gli agiadi quelli scialli ah scialli in cazzo è la dinastia dell'e-onida e gli euripontidi che vivivano dall'ampolla all'acqua del fiume eurota mi sono biglianze che cominciano a farmi paura però i nomi delle dinastie non derivano da loro infatti euristene e progle ma dai figli agide euriponte ma perché ma è una gioia sono tragedie beh infatti vabbè ma perché presumo che appunto boh le dinastie sono partire dai figli che sono diventati due famiglie diverse quindi non lo so perché però vabbè e quindi leotichida degli euripontidi che dice ma che cazzo te ne frega gli euripontidi de uno stammuti che il predecessore suo demarato in persia s'è dato demadato perché tu fratello cleomene ha cospirato contro de lui per questo la lega d'anceppo hai conosciuto tu moglie la scusa per cui leonida è diventato re e ha potuto legan sceppo cleomene e poi sposasse la figlia è perché cleomene ha diciamo cercato de soverchiar potere dell'altro re euripontida capito quindi lui leonida ha fatto no lo faccio per voi però però non è vero un cazzo e quindi capito è scappato con la picca fra le gambe è ora di andare alla guerra posso chiedere un ultimissima cosa se poco devi perché siete nudi è il costume per etermi la foinichisso bello il costume spartano guardalo siete nudi è il costume c'è esiste sto costume non so perché costume per etermi la foinichisso ok ma do sta l'armatura si lo farò riassunto quella famosa degli opliti greci volete morì certo che si non ho capito fa caldo si è agosto mettetevi l'armatura e l'elmo ma guarda che capelletti che barbetta sembra un dio greco una statua semovente un'opera d'arte mobile sono nudi perché come v'ho detto ricalcano diciamo il mito sono tutti mitizzati come nelle statue come gli dèi che sono a petto nudo guarda che barbetta sembra veramente un dio greco capito sembra veramente una statua quindi è per questo che sono nudi secondo me frank miller l'ha voluto di far così capito però un'armatura cristo santo poi mi pare si chiamasse la panopila quella famosissima degli opliti cazzo però vabbè richiami richiami è il momento dei salutissimi con cesira gorgo nell'unico pezzo in cui ce sta pure nel fumetto hanno fatto un pochino di whitewashing zitti perché questa non mi pare proprio uguale a cesira mi sembra un po' più ma boh c'è c'ha dei tratti molto particolari c'è i trecine va bene marito mio marito mio nipote mia figlio nipo pro nipo cugino contiguo mio loro si vorrebbero dire tante cose ma non ci staresti spazio per le smancerie a parte no il figlio gli è dal casco mettilo ho capito e va bene tutto guarda ma se gorgono gli dice la frase fica famosa d'uo scudo che t'ho detto prima che la dicono pure nel fumetto infatti torna con lo scudo sopra di esso si mia signora donne spartane veramente mi incazzo dove va spartano actung ah ecco bravi spartano gli fa proprio così condolino con la zanna richiamare il lupo che lui sconfisse che alla gora mio padre compro regà rene non giocate coi miei sentimenti ritorna con il tuo scudo o su di esso bravi bravi ma sempre strascicatissimo va primo piano del figlio c'è dove lo metti i chiamati l'assistenti sociali cartaginesi non è così simpatico nel fumetto capito tratta bene la moglie ma non è c'è pensa duort tre no che ogni volta stronzatine e poi frase ora è il momento di una shit di leonida lo scopo della donna spartana vera eh è sposare un uomo valente e generare figli valenti devi sfornare shit vera per sparta ma vammori ammazzato siiii dai che siamo arrivati a battaglia siamo arrivati un'ora è volata un'ora e mezza di live ma va a quanti rallenti mamma mia che swag ammazzate che figlio che cringe a me ste cose mi ringiano guarda ho capito una cosa invecchiando da ragazzino vedevi ste scene e facevi ah che figata poi vedi che so degli uomini nudi con la musica figa e tu dovresti tipo dire è cringe ragazzi se tu rientri nel mood del che cazzo fate cringi l'anima della cosa tipo troppo sparata c'è non so come devi sentirlo dentro tani ovunque acropolis c'è la vecchiaia però solo i due acropolis now sono mortati nelle famiglie con dei diritti possono definirsi spartani man mano di gollum come a smentire questa affermazione chi li seguirà mentre marciano lobby gremlin può essere chi li seguirà marciamo per la nostra libertà ma solo la loro marcia leggi asterisco sempre e io marciamo no ok cammina cammina i 300 spartani seguiti dagli iloti e perieci quindi erano una millata no 300 si incontrano con le altre forze greche fresche fresche dai caserme poco oro poco legno citazione job empire più solo del peloponneso però vabbè no senza forze perché da quello che dicono tegea mantinea è tutta roba del peloponneso quindi questi sono quelli del peloponneso non so gli altri greci poi se beccano con gli altri greci a sto punto perché da quello che dicono tegea mantinea è tutto del peloponneso è tutta roba della lega del peloponneso anche se la lega la fanno un po' dopo mi pare si si il pifferaio perché c'è stava anzi indovino personale c'hanno i musichieri si si il pifferaio è storicamente esatto cioè quelli che sonano alla tegea mantinea tespia focea tebbe eccetera in tutto più gli spartani tutte le forze greche proprio dovevano essere sui 7000 numero magico per mille di cui circa dicono dai 7 ai 10.000 però io ho voluto mettere 7000 perché è quello che ho trovato più di cui 4000 del peloponneso appunto quindi sono spartani cioè sono spartani sotto il controllo di sparta roba loro ambulanza ne so ma gli spartani puri sono solo 300 e gli altri 6.000 spicci non so contenti l'ambulanza per tutti i despiesi ma noi siamo da municipio livello 3 costamo una fracca di cibo di oro non vuol dire niente ah si tu arcade è bestemmiato dall'arcadia la smetti arcadia nooo eh no è una terra arcadia arcadia scusa scusa l'accento che lavoro fai vasaglio e tu scultore e tu streamer spartani streamer qual è il vostro mestiere fate come abbiamo provato bravi capito no no a u è un mestiere vedi in camera di commercio un po in o i che ma di commercio o i che ma di commercio grazie a bruno per gli undici mesi no non è patrick herres no no ridi cazzo ridi che ho chiesto le parole in greco apposta se no ho perso tempo o i che ma è un'altra che ho chiesto tutte le altre greche che hai visto sinusia po qual è due mesi per un video è il vostro ma ne varsa la pena guarda le views in 10 giorni 6 e 12 aspetta refresh 6 e 12 7 e 95 vediamo quanti sono 6 e 14 2000 views in più da quando inizia dalla live ma che ne sai grazie a tutti e dagli the rallenty eh tutti mi hanno detta uoro uoro me l'hanno detto sempre ecco perché non l'ho diti son due un video un video dritto per dritto dopo vedi te inizia la fine e fai oh no che lo divido perché me lo chiedeva prima meglio il film di Death Note o il quarto film di Harry Potter innanzitutto il film pergione di Harry Potter è il sesto non è il quarto e poi forse Death Note perché veramente è in offesa vera pure il sesto però è una bella gara buonasera bella sta pubblicità sempre rallenty non è un film è una pubblicità guarda quanto è una pubblicità acqua di giove Giorgo Spartani è un pene a tutti è veramente la pubblicità di tranne il re e quando te sbagli perché moi persiani so di meno e può essere che non mori no ma che cos proprio il contrario guardali i miei piccoli angeli tutti felicini pensano di avere solo lui solo il re un misto di dolcezza amarezza nei suoi pensieri mentre saluto Bruner89 per il Prime sciocchi poveri miei piccoli sciocchi pensano davvero che abbiamo qualche possibilità mamma mia le occhie a collo qualche possibilità Leonida dai Leonida dai cambio scena fillerissima del film con Gorgo ma perché ma poi la vedi quanto cazzo la mettono Gorgo c'è qualcosa che non va che poi c'ha le zinne boh divise tipo Mosè guarda ma non è per fare un po' di scena con Gorgo ma perché c'è i pettorali va va ma le zinne ma ma vabbè boh quanto apprezzi sullo schermo ma lei io l'amo ma ti pare che è una bellissima donna ma si scherza però e fa ha finito lei c'è i pettorali pure Gorgo c'è i pettorali c'è i pettorali pure Gorgo no deve difendersi dalle cospirazioni no 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 gli intrighi i tradimenti no non ho letto tutto Dragon Quest ma perché eh avevo smesso di comprarlo però vorrei tanto leggerlo perché mi piaceva tanto daiki zan tutte zan legge zan farei un meme dei dragon die daiki zan kuretsu zan c'era la terza quella del cielo forse quella del cielo era la kuretsu zan e poi c'è legge zan che è quella del parlamento andiamo avanti furono affrontati con indomito coraggio oh dove c'è stacce zira cospirano esatto DTL zan un pezzo delle ombre rubato ad Ardo Giovanni e Giacomo insomma Gorgo deve parlare consiglio per dare una mano al marito senza sapere che c'è bisogno Gorgo le forze le vogliono mandare però prima devono finire ste carnet non sta cospirando nessuno no no abanslash senti che hai tirato fuori l'abanslash ma io lo leggevo un mare di tempo fa tu mi dici abanslash abanslash mi si apre un mondo in capoccia blado eh ma non c'ho fame sto bevè la seconda birra non c'ho fame quindi per adesso no io lo so non ce lo dicono un pochino di frasi fatte no pax va fatto rite anziché no vax mi avete detto lo so contento che la libertà non viene regalata che il gioco elevato dei tributi mamma mia bloodborne martedì iniziamo bloodborne temi il sangue greco antico cortesia ecco l'accampamento persiano momentano orlondo con tutti i suoi mila milioni di uomini e bestie e gente bizzarra il più grande circo della storia ma non vinceremo mai che cazzo abbiamo festeggiato a fa ieri moriremo tutti guarda come ride ride lui michael discorsetto sulla bella morte bravi meno male che ce l'hanno messo un po' della bella morte che te fa capire l'ho messo speriamo che uno di quelli riesca a farmi secco ho capito che so le vostre leggi ma deve essere brutto vive così eh il greco si rende conto che sta andando in guerra con gente che popoclinicamente non sta bene tendenze suicide aggressività voglia di isolarsi no invece è bello per il rispetto e la persia bu ricordavolo la persia bu l'onore no l'odore dell'onore tolti i filler torniamo al fumetto con altro ambasciatore persiano che va a far visita agli spartani e vedono i ricognitori persiani totali tranne qua o vedi solo che così pare una vendetta è la seconda volta che pare una vendetta capito con il ragazzino perché loro inchiodano le genti non è corte i gemelli diversi cioè capito prima gorgo così così gli danno scuse così lo spettatore non si fa un'idea diciamo pura gli persiani sono strossi oppure cioè poi è diverso proprio il sentimento perché nel fumetto tu vedi che gli spartani fanno paura cioè capito gli spartani squartano le persone arrivano i persiani vedono che quelli che hanno mandato sono squartati ma non per un motivo e si cagano sotto quindi ti fanno vedere che i persiani sono cattivi no che sono cattivi per i picca l'ambasciata arriva mentre i greci ricostruiscono il muro focese una fortificazione che già esisteva per stringere ancora di più il passo storica barriera leonida lo fece ricostruire davvero avete imparato pochi poracci dov'è il resto dell'armata di ricognizione boh se sarà persia se sarà persia sta dentro al muro no egli dice pure più o meno la frase i focesi hanno costruito il muro e noi spartani abbiamo messo la malta la malta hanno sfrattato un sabbo 89 comunque dubito fortemente che leonida l'abbia fatto ricostruire così boh però siete meglio voi è chiaro avete visto leonida l'abbia fatto ricostruire così però c'è anche lo spartan c'è anche lo spartan perché ce li metto sempre è meglio voi è chiaro please stop e i persiani barbari che schifo ma inchiodate la gente come quadrucci barbari e c'era solo quell'arbero la visti artrite tutte rocce in arbero e mo barbari pretendo di vedere il vostro comandante allora ti devo mandare e plot twistissimo qua mi accorgo che Stelio è Stelio è lui Stelio Michael Fassbender Sterco a me aspetta Michael Fassbender sterco a me non so chi l'ha notato ma io al posto della ho messo la lambda solo perché somigliava anche se avrei dovuto mettere qua la lambda attenzione per i dettagli particolari braccino please stop ti stai lamentando caghettino abbiamo un caghettino qua ragazzi vai dal tuo patrone e digli che qua troverà uomini liberi a combattere e basta ne parliamo dopo perché voi andavanti nel film ma basta non sono i uomini liberi e allora noi faremo le cose brutte a tutti i vostri parenti conoscenti discendenti ascendenti ma a voi no ma a voi vi uccideremo azz paura eh si ma non si può discutere con voi come cazzo vi si minaccia allora ce ne andremo e vi daremo l'oro no no le nostre frecce oscureranno il sole come un'antica eclisse e attenzione frasifica storicamente esatta allora combatteremo nell'ombra chi è berserect proprio le punchline degli spartani signori non puoi vincere manca ho parole bella frase bella ma la dirà fra un anno di Enece nella battaglia di platea perché m'ha fremputato sarebbe affascinante pensare che Stelio sia di Enece di Enece non lo so ma qui moro qua io dico sta cosa pensando la perché ci stanno delle similitudini perché Diecene sarà uno dei più forti nella battaglia di platea come Stelio però qui Stelio muore ma un sacco di gente mi ha detto guarda che in realtà Stelio è diciamo ispirato a Denece però Denece sta in una battaglia di platea però vabbè io ci posso anche sta che Stelio sia Denece però io l'ho immaginato apposta perché c'ha delle somiglianze però qua more Stelio ed è boh vabbè sono tutti o quasi quindi no ultimissima cosa te voglio dire cosa te lo fa pensare questo demo di Elio che te l'ho detto racconta storie racconta che durante le olimpiade bella sta storia da Plutarco la stavo per tagliare perché però no ho voluto mettere pure questa perché è una bella storia Elio ma ok un vecchino malandato cercava posto il vecchino de Tebbe come se fosse sull'autobus e va da tutte le delegazioni greche di Tebbe di Atene di Corinto ma fanno tutti i vaghi e quando si stava avvicinando alla delegazione spartana prima che lui potesse proferire parola vide che tutti gli spartani si alzavano per cedergli il posto e allora il vecchietto che stava palesemente fingendo di essere malandato perché comincia a strillare come fosse a Posteopolis una città vera tutti i greci sanno cosa è giusto la host è quella di Rem quando racconta grazie a Zoro 8 9 2 3 metà anno mamma mia grazie si avvicinava al monomagico è vero è quella quando racconta anche le cose di Gelos è quella di Rem ma solo gli spartani lo fanno mamma mia Stelio poi spart cambio scena leoni da ancora qualche giro siamo arrivati a fialte le budella attaccano meglio della calcia e non ti devi preoccupare il muro è finito e i persiani possono passare solo da là sicuro che non c'è sta qualche sentiero che convenientemente ci agire e finisce a schifio magari ma no oh guarda se veramente sopravviveno non si preoccupa ci stai sicuro wow che ficcata vergogna cupi non può succedere patrone finalmente scopriamo chi li stava seguendo tutto questo tempo lui e fialte nel piccolo ancelo che è un wannabe spartano notice me leoni da sama rupa aspe e fialte spiega che c'è il sentiero aridaglie sempre il sentiero è il peggior nemico di leoni da suoi sentieri questo comunque è il sentiero di Anopea lo vedi i fucii si stavano qua c'erano questi hanno girato pipipipipipipipipipipi e le hanno fregati qua piccoli angeli Anopea Sul monte Eta Quindi è meglio se ci mandi te spiesi a dargli un occhio Segue quindi Spiego un malocchio Mi chiamo Efialte Mamma mia Cioè l'ho usata a 30 secondi Ci ho messo mezz'ora a fare sta stronzata Con pure il sim Cioè Efialte e Nick Porca troia Eh sì Un figlio di Sparta No Efialte è uno della zona È un incrocio tra Gollum e Agor Esatto O Eraclea Esatto Che non è una specie di granchio sembra ma no La città dove Di che no Sia morto Ercole Eracle Che aggiunge poesia Che spettacolo sta cosa Dove Eracle L'avo di Leonina Ma guarda che veramente Eraclea Chi lo fa morì Cioè Fatevi servì Nel film La storia si ripete Siccome è traditore Lo rendono proprio un calendos Dottor Oikos Dottor House Oikos vuol dire casa Scopio dei sindrome Ma credo perché Frank Miller Stia richiamando la calocagatia Ma qua pure me non vento Cioè nel senso L'ho studiato E quindi Sembra questo Perché veramente Per i greci era una cosa importante Più appari bello Più appari giusto Per questo anche magari le statue Erano tutte così belle Un'altra mezza birra No Aspetta Scappo ciao Capito E quindi sono tutti brutti Anche perché magari sono cattivi No? Sono anche Ehm Riportati fisicamente Brutti Cioè la concezione per i greci In sintesissimo Te lo dico Che il bello È anche Bra Calos Kaiagatos E poi sta cosa del Che mo dico Sono molto fiero Dessa altra battuta E il brutto È Cattivo Calos Fai Kaiagatos Calos Fai Kaiagatos No Non è così mai In sostanza L'abito non fa il monaco Stuca Di sento Ecco perché gli efori E fialte I persiani So strani E invece gli spartani Va che belli Famo che è per questo E no per le accuse De razzismo Gli hanno dato Accuse de razzismo A Snyder Ehm Mo vedremo perché Lo sto film Ma vabbè Comunque Più che brutto E cattivo A me fa pena E fialte Ma guarda Poverino Vabbè Alla nascita Appena m'hanno visto Rube Mai qualcuno Fu più degno E basta Poi ci hanno ripensato Volevano fa un film Su di me De e fia Pure de fialtman Sono molto fiero Di questa patta De fialtman Altman Ma mio padre è scappata E mio padre Mi ha insegnato A menà E ora Eccome qua Fammi menà Siamo a voi C'ho più motivazioni Per voler morir De te Potrò un leonida E fialte E fialte Se mi dici De notte sfondo No Vediamo Interrogazione No settimio No Ti chiedo L'affondo Posso andare al bagno Opla Oplita Ma che affondo Che c'ha Potevi usarlo Cazzo Visto che poi farete Come cazzo Vi pare Bravo Bravo Ura Ciao Grazie Skipper Non lo scuderò Non l'ho studiato Te lo faccio io Lo spieghino Sulla falange greca Era uno schieramento coeso Con gli scudi Che proteggevano tutto Sì che poi nel film Dicono Lo scudo protegge Lo spartano Alla tua No Lo scudo protegge A te Dal Dal collo Al ginocchio Tipo Non devi proteggere Quello accanto Non ha No Almeno da quello Che so io Però boh E le lunghe lance A infilzare Tutte cose E gli opliti spartani Che si consideravano I veri opliti E ormai ha capito Che tipisodio Ma poi la frase Non è epica Sì ha senso Per carità Valerio Perché devi stare Compatto Ha senso Tutto il discorso Però non è che Devi proteggere Solo quella Devi proteggere a te Poi proteggi In pezzo De quella a sinistra Ok Ma No Devi proteggere a te E lo scudo è grosso Per proteggere Tutto il corpo Esatto Giosef Però non perché Ogni spartano Protegge il suo compagno Quelli sono i tebbani Quelli sono Boh Vabbè Grazie a Ophelia Conte l'epoca Dei riassuntini Ma le 19 Però non resta ersici Ophelia tranquilla E lo so che faccio Un mareo del cazzo Dai Però Lo so Mi dispiato Che dovevano rimediarsi L'armatura da soli Erano l'unici A quello stato Ho capito Ma Una sorta di divisa Allora more hai frecce Ma non è un problema De Leonida Un'enorme massa Di rosso E bronzo E oro Rifondoro Che paura Quindi Tu sei tanto caruccio Per carità Ti applichi Magna Fai proprio Sarebbe una massa De bronzo E rosso Con buchetto Non c'è Lo stesso Un patto Psicologico Ma anche io Posso essere Adesso Ho pure ricaricato No No Ma Iro a goghe Così doveva finire No Non tutti Possessi un roi Tu sei nato Sfigatello E mi dispiace E finisce così Nel fumetto Nel film Che deve aggiungere Roba senza senso Leonida gli dice tipo Lo offende proprio All'acqua Si il nostro Adam Sandler Come un ilota Qualsiasi E c'è ragione Film Offendi lo spirito Spartano Quello che rimane Da fare ai fialte Poi alle emoji Dei fialte Io ho sempre Ingrossato l'occhio Destro Vabbè L'occhio sinistro Alla Rupe Bravo A canna Poverino E lui Se butta Poi lui si suicida Cioè lo vedi Nel film Non te lo fanno vedere Lui si butta E Leonida Fa pure Poverino Povero uomo Cioè Perché all'inizio Che possa riposare in pace Non è così infame Si autoesclude Non ha il Cioè fa qualcosa di drastico Prima Non è che se incazza Così random Factor Flette i muscoli Ed N Citazione a 2,99 Per cui mi ha chiesto Ratman Non vedete i video Bastardi Perché Eccolo qua Ratman Odo Però sopravvive Mannaggia l'Iburgo Niente Ha flettuto Poi ha riflettuto E rosica Così si incattivisce Una costruzione del personaggio carina Qua invece cattivo subito Fantasma dell'opera totale No cazzo Quello è sempre Gerard Sempre Gerard Butler E poi Fantasma di Sparta Citazione pure Per farvi contenti Kratos Non ho citato Pantheon Nel League of Legends Mannaggia Fantasma di Sparta No si Durava mezz'ora la guerra Si ingollumizza proprio E fiat E fiat Forse c'era Gollum No ci hanno ingiustamente Rifiudato Su Mairacademia Mica andata così Amo dei persiani A godessela Ma chi fa O spione Non è figlio di giurone Vanellate a testa giù Quando volete fillerà C'è tempo Per costruire un personaggio Vi maledico Dei Maledico te Padre Maledico te Madre Che la devi di voi Proprio sbrocca Maledico voi Gli spartani Un po' di più No va bene Vi maledico tutti Cioè capito Se incazza col mondo In eterna trema Suoi poteri forti Si I persiani Che si stanno muovendo Per il primo giorno di battaglia Aspetta Che si stanno muovendo Siamo arrivati Per il primo giorno di battaglia Sei emozionato Un pochetto Prima del primo giorno di battaglia Siamo arrivati al vivo Vado al bagno un attimo Tu che No Stembire non mi stanno a fare tantissimo Mi stanno a levare la fame Più che altro Apprezzate la girazione del crato Sono contento Torno subito Cazzi vediamo che c'ho da mangiare Sto mangiando qualcosa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Casco però nudi. Ma il petto sempre in fuori. Ah, perché sono forti i muscoli. Mi scrivo palestra. Domani su Atti Cazzon compra pesi. Vai. Perché Vin Diesel è lì. Varagon. Se potevano mettere una cannottiera a sto punto. Ma mettite un'armatura, una bacca, un tovagliolo. Sì, pura asottana. E andiamo a far cosplay del battagno di agro. Ah, ma è bella merda. Siamo meglio noi. Ma ti stai riferendo all'armata tebana composta da 150 coppie di guerrieri che si chiamavano. Grazie a chi si è abbonato mentre ero al bagno. E quindi combattevano alla grandissima per difendere il partner. Quello. Si batte... Non puoi dire ste cose. Xenofobi. Ah, no. Siamo spartani. Gli xenofobi fa paura come nome. C'è un sacco di popolazioni che non conoscevo, eh. Conquistamoli. Sì. Al ritorno dai bullidi. Perché erano quelli di prima. Vabbè, andiamo avanti. Comunque il battaglione sacro lo istituiranno fra cent'anni. E vi faranno un culo anfiteatro. Madonna, vedi da sta roba. Messeni, Corinto, Atene. Però è vero, il battaglione sacro. Durante... Non mi ricordo... Forse è quello che è per un neso. Hanno spaccato i spartani. Gli hanno fatto del male proprio. Madonna, eh. I gay. Ma un culo così gli hanno fatto i gay. Quindi... Ma poi è bellissima sta cosa che erano... Poi si... Li citano anche in Drifter, tra l'altro. Il battaglione sacro, no? Lo citano anche in Drifter. Quelli menavano perché devono proteggere il compagno. L'amore davi da loro? Te pare che non menavano? Dagli ed addi a Ragonnata. Noi forse moriremo. Eh, non lo dovete a Dio Eros, sì. È tutto domani. Per Sparta! E Frodo! Guarda qua è uguale. È uguale al Signore Dall'Anelli. Per cercare di farti rivivere quei emozioni, ma tu non sei al Signore Dall'Anelli. Sta buono! Che tristezza, trova un'identità tua! Così. Ma indovina che succede? I persiani continuano a voler patteggiare! Deponendo le armi! Eccone una! Bella! Piccola... Cosa risponde? Cosa risponde in realtà Leoni da secondo? Sailor Plutarco. No, Sailor Plutarco è un po' troppo. Ti avrebbe un po' di rispetto. Mi frega niente. Alla richiesta di consegnare le armi... Altra frase. Molon Labè! Famosissima. Ho capito. Molon Labè! Olon Johnson. Olon Johnson. No. Significa... Venite a prenderle. Il primo viecce della storia, veramente. Molon Labè! Venite a prenderle! Viecce! Questo è il primo viecce storicamente riportato. Signori, ma questa è proprio la storia vera. Va bene! E via con le botte! Quello che lo spetta... Guarda è bello Fall Guys Thermopyla Edition. Con la buco della... Va bene! Faccio vedere i memi. Come le diapostive? Faccio vedere i memi. Il remedio è venuto a vedere! E te lo giuro! Se isoli ogni frase delle onida... Takeshi Gaston! È una frase fatta! Non cedete loro niente! Ma prendete da loro tutto! Tutto tutto niente niente! Tutto tutto... Gli ha detto tutto tutto niente niente! Ma veramente gli ha detto... Ma te rendi conto... Potere eh! Scrive una cosa del genere! Sbudellamenti vari! So tutti eroi! So tutti forti! Sì sì! In cosa consisteva in realtà? La famosa tattica spartana? Infilzare la gente! Quei lanci lunghe no? Quindi l'altri non arrivavano proprio a prenderli! Report spartani! Quelli gli corrono appresso! Gli spartani si girano! E continuano a infilzare con le lacce! Poi si riritiravano! E quelli gli arrivano appresso! Così eh! Veramente! E tagli è così! Storicamente riportato! Infilzamenti! Stiamo a far kebab! No! Morti famiglie spezz... Ci metto pure Tidus e Kira! Perché tra le risate... A parte che so io che faccio... Ahahah! Cinque o sei volte! Ci stanno pure le risate dei Kira e dei Tidus in mezzo! Perché ridono! E mi piacciono le risate loro! Ci le butto sempre in mezzo! Ok? Passate! Ed errori storici ovunque! No! Ma questo è brutto! Questo no! Perché sti stronzi? Spezzano a falange! Pure questa è una cosa che dico io studiando! Perché non è una falange manco per niente! Quindi... Secondo me... Non è una falange sempre da profano eh! Ehm... Schieramento coeso un cazzo... Ma dov'è? Ma loro fanno bocca... Ma stanno tutti per cazzi loro! Ma manda i fialti ad affondare! Così vincevi la guerra! Se devi fa così... Ma ma... Andavano malissimo! Ma la gloria! Ma tu devi stare al posto tuo e al posto... Come i guardiani della notte! Ma il... Seconda cosa per cui Martin... Fan di i persiani! Uno! Noi non seminiamo! Due! Guardiani della notte! Come i pers... Come gli spartani! Pubblico! Mai rallenti! Ma fin diesel! Non è vero Witch! Leonida muore... Il terzo giorno! Ma è uno dei primi... Che muore! E gli altri cercano di richiapparsi il corpo! Vanno tutti sopra una montagnola... Alla vicino! E li squartano tutti! Non muore il primo giorno! Che cazzo dici Witch? Vuoi venire a parlare con me della storia spartana? Dopo che ho studiato le peggio cose! Witch! Ma con chi crede di stare parlando? E allora andate! Come che c'entra Vin Diesel? Vin Diesel è il patrono della gente... Con le cannottiere che ci crede... E va contro il mondo! Vin Diesel era così! BAM PII! POPO! A NU! 0,5 secondi di colpo! 40 minuti di lui che lo guarda! E poi... Che ha capito? Lo swag senza... Poi hanno finito di fare a botte... E si rimettono in falange! Ma che cazzo fate allora? Lo swag in giro! Ce l'hanno Xifactor questi? No! A colpa mia Witch! Ti rispettavo prima... Ti rispettavo... Do l'hai letta quello spoiler storico che sei venuto a dire qua? Ti rispettavo quando... Eri fedele alle tue idee! Grazie a Sirio Camillo! Arrivi dici! Spoiler... Inaccurati! A prima notte è morto Leonida! Ha senza senso! Ma che cazzo fai? Ma meno male che io so le cose perché sono colto! Andiamo avanti! E allora che famo? Alla rupe! Non in asca! Non meno! Fai una live tua e fai di meno! Io faccio di più! Con il 300 milionesimo rallentino... Basta spigne che cascavamo pure noi! Sarebbe spiacevole cascare! Non male dai! Ma non è finita! Osho all'eclissei dei frecce! Profezia avverata! Mo è finita! No! Porelli! Colpa mia che me preoccupo! Ma che te ridi? L'aveva detto Dienice! Che avremmo combattuto nel Londra! Questo pezzo porco giuda che lui deve ridire la frase! Ah regà! Come ha detto Dienice l'aveva detto? Eh l'ha detto apposta! Che cazzo dici? Che cazzo fai? Ma sta zitto e muori! Fra dieci minuti di film e basta! Andiamo avanti! L'ho detto io! Sì! Le parolacce le dico! Non serve ribadirlo! Che fai me spieghi le battute? Sei la vergogna della nostra stirpe! Era per ricordarli i vecchi sì! Secondo round! Splitte splatte! Pori cavalli! E Leonida dice solo cose del tipo... Quest'oggi non moriranno a Sparta! Non sono un critico anzi sono iscritto al tuo canale ti prego non mi buttare dalla rupe ma immagina un film con questi che stanno nella fanange! E storiche corrette diventerebbe un giramento di pollici! Ma perché? Ma tu li vedi nella fanange che soffrono e muoiono ma che? Allora, per non girare i pollici Dobbiamo mandarli a fare i Vin Diesel A fare i Fast and Furious AC Con le bighe Devono fare i fichi con la lancia Che lui tira la lancia La sua unica cazzo di arma E poi rimane così all'avventura Va bene Cristo Dio, no No Un secondo prima ti spiega la falange Caccia e fialte E poi va in giro per frate Ma che cazzo state a fa' Ci avrebbe senso il tuo ragionamento Se cinque secondi prima non gli dicesse Affiarti e fia, mi dispiace Ma tu non puoi venire con noi perché dobbiamo sta' chiusi E tu non puoi sta' chiuso Quindi vacci a tradire e poi Brigitte, ma scusa, ma scusa Sodici te Almeno nel fumetto capisci i suoi pensieri È serio, non è saltato C'è da dire però Che il piano dritto per dritto Boom Funziona Eh sì Dai che me sto fomentando Andiamo da gorgo Gorgo e di storia Madonna qua che bello Che bello Che bello Cioè, allora il rallenty Lei che fa la spesa Il rallenty Non c'è un cazzo di motivo Per fare il rallenty Deve beccare il vecchio di prima Che l'ha beccato senza rallenty Però lei deve vedere la città Deve far capire che Ah, ma noi stiamo difendendo Questi bei Boh, mercatino di merda Quindi, boh Vabbè Senti pure lei Mentre fa la spesa Minutaggio veramente Una buona spesa Può cambiare il mondo Non ci fossero i rallenty Che a copp Ma era sotto sapere due Qualcosa di serio succede No, perché c'è rallenty Ecco perché Il vecchio che ci acciggia con la fontana Bene, bene Ma che co... Ste cose mi fanno taglià Tu ghiacchiere di circostanza Insomma, tu fio inizia la gogè La gogè Pure il vecchio è pompato, va Sta tutto un tiro Ma respira Tra due giorni parlerai a consiglio Per convincerli a manna tutti da tu marito Dai Usali per fare i giochi del muori Così t'alleni E porta il terone dalla parte tua Tralasciando che sollefori Che devi convince Sono loro che scergono quanti Ma poi sono stati gli efori Ad annar contro a tu marito Cioè, ma con gli anziani Quindi Boh Vabbè Guardati mannà Ehi rallenty dove lei pia l'acqua Arriva terone Stavate parlando di me? Che me pare Pierce Brosnan In Mrs. Doubtfire Singolo rampante Ma che vuole fa? Gli vuole rubà la famiglia a Leonida Ma che triste Ma stai a vedere che stai sotto trame Proprio, cioè Stezza Ma che vuoi? Indovina No, ti prego E invece sì Vai filler Torniamo sul campo di battaglia Con sterco che si esibisce Andatevelo a vedere Andatevelo a vedere normale Lui che zompetta Quanto cazzo fa ride Guardalo E poi per te era subito Stanco Guardalo Che prova da toni Ma che cazzo fai? Fa spendere le prime armi Perché ti disonori in questo modo? Indovina Vogliono batteggiare Eh sì Questa volta è il re in persona Che te vuole vedere Non c'è andà E se t'ammazzano Quei vigliacchi Barbari Schifezzini Bleh Chiari Leonida Così tutta la Grecia Siamo venuti a Cersei Guerra Ah Ti tengo d'occhio Leonida Ecco finalmente L'incontro tra i sovrani Quale sarà tra questi? Secondo me Cersei sei te Ecco E qua sbaglio Dico Cersei Vabbè Perché lui è il re di Spar Veneratemi Ma comunque C'è scritto Questo qua è Cersei Ma questo qua è Voldemort E questi sono i babbani No Spartani Non voi loro No no Lui è il re Dei re De tutti i re Fante cavallo e re Ma questo l'hai trovato a termine Su un cartone Con carici No me li socio Ma guarda Ma perché l'avete fatto così? Perché Copriti Prima Scostumato Lui è diverso È strano Ma che vuol dire? A grotta alla fronte E' un eye piercing È cattivo No? E il mondo non l'hanno rovinato Quelli con i tatuaggi Eye piercing Il narghile è molto arabo Ma quelli con le picche E lo sai chi ce sta insieme a Cersei? Storicamente esatto Proprio lui Ebbene sì N'ha capito? De Marato Il re Euripontite Nelle generazioni precedenti Scacciato dal fratello De Leoni Da Cleomene Il predecessivo Allora ve lo ripeto Aspetta Cleomene e De Marato Erano i due re Cleomene Cospira contro De Marato De Marato Scappa a Persia Leonida Coglie l'occasione per dire Stronzo Hai cacciato l'Euripontite Adesso io mi ho il posto tuo Te lego a un ceppo Lui si suicida Lui sposa la moglie Arriva l'Otikida Ma lui fa un po' come cazzo Gli pare l'Otikida A bozza Ok Ehi Da Tu ricordi De Madato Esatto Che si era sfuggiato in Persia E ora Se vince Serse Magari mi ripio Sparta Anfame Leonida Bello Leonida Vieni con me Ci sta bene sempre Però soprattutto Perché è persiano Il tappeto persiano Possiamo E' veramente un principe arabo Può condividere le culture Guarda tutto quello che c'è da sapere su De Noi Lo trovi spatasciato sulle scogliere Arrogante Per me non siete niente Ma questa è la voce di Thanos Con le sei gemme Bastante Attenzione qua Non è saggio mettersi contro Ed è pure la voce di Ryuk E io non me ne so accorto Sono un coglione Perché La voce di Ryuk E' meno modificata Non me ne so accorto E' sempre lo stesso doppiatore Pensa pure i meme con Ryuk Lascia fare Hai visto Tony Stark? Sì? No Io sono Ineluttabile Ah sì? Io Sono Sparta E' uguale Basta che ne riconosco più chi e chi Potresti veramente scambiagliere voci Tanto i personaggi sono quasi uguali Te faccio un firma D'onore e mezza Conquistatori che ci credono Noi siamo uomini liberi E' uguali Pronti a morire Per la madre patria Il tuo è un popolo di schiavi E mo basta E mo basta però Eh? I buoi di Gerione che dicono cornuto al scinghiale di Rimanto Vogliamo parlare degli iloti? Gli idioti I loti I soliti loti Va bene Ma perché dovremmo? Ho tardato a parlare di loro eh? Ma tanto so gli ultimi Chi se ne frega No morelli Gli iloti Come ti ho detto Erano gli schiavi degli spartiani Eh si Schiavi ma con qualche differenza Stagisti No Differentemente dagli schiavi normali Quelli comprati Erano le popolazioni assoggettate durante le guerre Tipo i messeni Che continuavano ad arare i campi Che stavano là vicino i messeni Ma non più per se stessi Bensì per gli spartani E di che no Che ci fossero leggi apposite Tipo eforo Per impedire di venderli fuori dai loro territori d'origine Altri contestano questa cosa Ma quindi erano trattati un po' meglio? No Perché è storicamente riportato citte Che li trattassero popo de merda Tipo Li facevano un briacà E li portavano a cena per tagliasse A cena con un cretino Con un faulos Con un cretese Faulos cretino Però capito Come era a cena con un cretino Li portavano Per fare l'imbriacà Ogni anno li frustavano Così Per rifrustavano a caso Sto berretto Alla Texas Ranger All'Arcadia Ranger Il loro messia è Chuck Norris Che appunto Li associava le bestie Ma la cosa più What the fuck Era che se un ilota Dimentava troppo muscoloso Lo facevano secco E punivano anche il padrone Dell'ilota Perché Eh non hai visto Che cresceva troppo Babgra va bene E magari mandavano Gli spartiati Giovini A ammazzarli questi De notte E non se non lo fa Beccà ovviamente Come quando rubavano il cibo Se se facevano beccà Se se beccavano Erano puniti Anche se avevano ammazzato Un ilota Perché Magari da ribelli Siamo noi quelli forti Che vanno in guerra Muriga Cioè Sparta Voi Nei campi Ah la schiavitù Sempre le stesse cose E questo l'ho messo Sia per il meme Sia per il fatto Che è Mr. Candy Che c'aveva le schiavi No Sempre le stesse cose Doppio meme Doppio Quindi falla finita Che Ciro il grande Da noi l'ha abolita Anni fa Che c'ha il simbolo De sakura Però si Ciro il grande L'aveva abolita La schiavitù Quindi loro erano Un popolo libero Contro un popolo Che aveva gli schiavi Che era Sparta Cioè proprio Non c'ha senso Schiavitù È il contrario Di quello che dici Il film non dice questo Ha Noi siamo bravi E voi bui Serse comunque Continuo friglie Tutte cose Tutte cose La Grecia Ah Diventa mio Come qua Proprio Gripis Totale Il regno Più grande Altro che Farconi Alla Persia Leonida rinuncerà Al suo ultimo Centimetro La sua risposta È Questa è Fulvia Questa è Maria Sì No avete capito Che stiamo fuori Peggio degli Efori No Perché vi piace Mettervi nella Merda da soli Eh siamo Entup Dimmi Serse Tu sangue Azz Non ho capito Anche un Perché glielo dici Anche un diore può sanguinare Cioè proprio Madonna Non so di cosa parli T'ho riconosciuto Paolo Quando ho riconosciuto L'attore Che era quello De Nicky e Paolo De Lost È È Nartro Mi ha preso un corpo Il roll ice divino È troppo bello Hai visto Lui gira proprio gli occhi Lo devo usare per me Non è un buon motivo Per invadere gli altri popoli Finito l'incontro Leonide è contento Perché ha scoperto Il difetto fatale Di Serse La Hubris La Hubris La pronuncia Mi sono scordato di chiedere questa Hubris In teoria Come cosa dico qui Hubris Che ha nuova Toyota Toyota Hubris Per una guida D'addio La Superbia La Superbia Meme Seven Deadly Seeds Vabbè Che poi lui è il sole Il Dio Re Vabbè Voi parlate De Superbia Apposta perché La conosciamo La riconosciamo Serse È un po' Buonasera Entusiasta Stelio e Astinos Best Duo Sitcom Zistuzzicano Sì sono Migliori amici Ti spona un chitonisco Sparti Chitonisco Se è tunica Per domenica Forse Se te che non sei buono Forse Te sta a montare un po' Troppo la testa Ora che poi Forse Non ho fatto una caposciata Ora che posso Forse avete rotto i coglioni Con sti filler Scusa Preparatevi per stanotte Perché stanno arrivando I famosi Gli squali Stanno arrivando I figli marcali I 10 Christopher Lambert Sempre e comunque Senza anima Sei di Senza anima Senatori davvero C'è pure gropp Ma chi Qua Comincia a ceder firme Qua il firme comincia a svacca Totale Che cazzo sei? Il persieren Il gigante smarmellatore Il persieren Qua comincia a entrare mostri Nani Ballerine Se vede benissimo Ma filtro blu Ok Zack L'armata migliore della Persia È arrivata davanti a un muro di persone morte Che poi gli viene tirato addosso dagli spartani Totale degli immortali presi Uno Che manco grepa Vabbè immortale Invece no Attenzione Regà Incredibile Non so immortali Che crepano I lattatori Gli immortali Un nome che incude timore Peduscene Puri i nabbi qua Gli menano L'artri greci Fammo vedere un po' pure loro Gli immortali Che figura di merda I piccoli angeli A sto punto liberano Se fanno mena pure Dai peloponnesiani Ma chi è? Mai visto nel fumetto Nella storia Ti devo veramente dire Non è mai esistito Te lo dico Non è mai esistito Piano piano sta diventando Un film soprannaturale Ma guardalo Poi piate per culo e fiarte Nel maraspa della battaglia Infatti Scopriamo che non è L'unico brutto brutto Attenzione La maschera degli immortali Si eleva Rivelando Qualcuno Che schifo Che non ha avuto cura Pe niente Della sua pelle Vabbè ragazzi I dissennatori Veramente Pure gli immortali Sono mostri Ecco le accuse Del razzismo Al film Perché nel fumetto Hanno maschere Questa è tutta cosa del film Adesso in poi Cioè Il gigante Il gigante Non c'è nel fumetto E manco sto fatto Che so dei mostri Qua tutta lunga Boh Schioni de tutto Io sono leggenda Io sono storia Io sono storia Non leggenda Morda Hanno messo gropp Per far un po' di casino E per dar un po' di gloria Random a Delio Che si Sì è vero Pure gli elefanti Sono troppo grossi Salva il re Con lo spot Da gillette Va Ciao Delio Combattimento Che non si capisce Ma come perde l'occhio È davvero È Zod L'immortale È l'immortale Il manga Lo colpo Poi vede Fa una faccia Alla gazzu Proprio Come fece Grazie Ma non abbasta Mio re Guaruda Basci Trono avrei bisogno Da tua benedizione Ti do la mia benedizione Ora ragazze Mi piace Mi noti i ricambi Spero succeda Però ti devi far notare Vai Parla Ci pensi lei E ci pensa lui Trattamento Ned Stark Madonna di socio No Banna 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 Botte varie Il rally di dopo Poi mori così Il gigante Arrivederci Serse Comincia ad avere La strizzettina Cheat Di Odo Rosiculo E Giorno 2 Siamo al giorno 2 Serse Gli emanna Tutterci Quindi Diciamo Che Allora Per chi non l'avesse capito Leonid è contento Del difetto Fatale Di Serse Perché Parlandoci Ha capito Che Serse Non aspetterà Il giorno dopo E lo attaccherà De notte De fretta E loro Si sono preparati Per attenderli Quella notte Che storia Degli immortali Capito E mo c'è il giorno 2 Non intrattiene C'è pure Hai visto Serse Froggo Giallo Un rinoceronte So contento Che letto Berserk Già Ma che cazzo C'ha qua Gli elefanti Che ci stanno Anche nel fumetto Vabbè Anche se nelle termopoli Non credo Ne abbiano portati Mai L'elefanti Li useranno I persiani È vero Ma dopo Almeno dalle fonti Ma i rinoceronti Questo comunque Un pochino Impensierirà Gli spartani Come di socio Sta a manna la madre Regà Non si dice Siamo nel 480 Avanti cristo Non ce ne frega Un cazzo Ma no Sono bestie stupide Goffe Che Come si E ciao Ma poveriti Infatti vediamo un po' Sì sì In effetti Sono un po' Troppo grossini Questi elefanti Sono mammut Infatti Cosa Piange Poveriti E raino pure Per il rinoceronte Ego i bombaroli Ma so tutti Capitan Laconia Vabbè Pure in sezione D'anelli Gli elefanti Non erano molto Eh Sono olifanti Esatto E dopo una sequenza Degna De Willy Il coiote Questa veramente Oh oh E passa oh Questa veramente È una scena De Willy Il coiote Con la bomba Che rotola E questo fa Le faccine Ma che cazzo Metti Le cose comiche Mentre muore La gente Ma verete Qua Zack Snyder Ha proprio smarmellato E la gente Lo difende pure Ancora Bom Risolta pure questa I can do this all day Perché C'ha sempre più A sempre di otto Lo singolo Disappointed E punisce I suoi generali E il boia È questo Un saluto al maestro Lo dico subito Oddio Ragazzi Pietro Smusi E Pietro Smuti Smusa Zack Basta Quello più normale C'ha la gobba In sto film Non ce n'è uno sano Sia fisicamente Che mentalmente Sto molto bene Ma chi è Citrancio No Un saluto al maestro L'uomo granchio Chiamate Saitaba Urgot Chi è sta gente Gli spartani Tutti i mostri Tutti i mostri Tutti i mostri Ma te pare una falange Guarda lì Stanno proprio Ognuno Sembra ognuno Una torretta Una tower defense Mattina una bomba Per uno son morti Ma come cazzo Ma questi Ma manca Assassin's Creed Arrivati a sti livelli E poi pare che Sono rimasti in quattro Ma dove stanno i pezzi Ma dov'è la gente Poi qua non c'è nessuno C'è lui contro due persone Ma veramente Non ha un cazzo di senso Dai Ma ancora che mi è stato A di qualcosa Li mortacci Vabbè 20 minuti De rallenti E pirouette Dopo pure Astinoss 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 Con la manina Che poi lo ammazza Martellone Quello è uguale a martellone Questo Ennesimo trattamento Ned Stark So pigri Tre in dieci minuti Tre morti Decapitati in dieci minuti Pure una scrittura Come crepa la gente Tutti i decapitati E' morto Che culo Volevo morire in battaglia C'avevi ragione Sei meglio te Ha Finita la sitcom Il capitano To kit personal Piccolino Poteva morire Veramente c'è morto C'è morto proprio E ho capito De sto film Che alterna Pezzi Pari pari al fumetto Popo copiato Con fillerate Strane Sovrannaturali Finte parità Dei sessi E' un po' strano Il mio ragazzo Guarda Cedric Totale Accuratissimo Ci vogliono tre persone Per fermarlo Ci sei Il secondo giorno Perché guai E' lui che spessa La fanange Però vabbè Perché è spaccato Da Dal dolore Rompe le righe Lo vedi Perché Non se fa Capito Però vabbè No Fino Lo fermano E torna Tra le righe Capito Comisce così Un po' Impresa male Con l'orso Che fa Bonjour dal buco Nella capoccia Di Astinos Mi dissocio Per la cattiva Quindi staccamo Su Black Phillip E' lui Gli piacerebbe Ai Fialte Cerse Orfei E Fialte E' venuto a proporre Il curriculum Corro E' Fialte La gente Non è impressionata Solo un po' De Rucca A gobba Noia Questi stanno Peggio De lui Qua me so accorto Che ero uguale A So Però non me so accorto De Rucca Mannaggia Ma è pure La voce De So Me ne so accorto Adesso Ecco Pure i meme De So Bene Però c'è da dire Che i persiani A quanto vedo E' una gobba O sei felice Di vedermi Ma per cortesia Accolgono tutti I freaks Tutti i reglietti E anche se li vogliono Dipinge malissimo E se Se convince Si alte Coi piacenti E beni Il diavolo Intanto Lo accetta E Fialte sarà stronzo Ma alla fine E' pure un poveretto Sembra quelli The Dark Soul Che sputano I vermetti Se la suicidasse E' sopravvissuto Saranno stati Gli dei a voler Non c'è tra ieri Zeus E Fialte è bravo E Fialte E Fialte E vaffanculo Go Devo No A fine del gioco No Don't do it I'm a Fergie Comunque Scena parapara Questa può parapara Guarda pure la cosa Pure l'inquadratura De Fialte che si inginocchia Quindi Dagli De Filler So contento E te è piaciuto il diavolo E si sposà Tardi a 20 anni Stavano anche tardi Tardissimo 18-20 anni A 21 Zitella Ma prima No E com'era il corteggiamento Com'era Ah bellissimo La ragazza tipo Sparta Per essere desiderata Dal Battere Guarda questo è tutto vero Masculo Si doveva rasare a zero Coprirsi con un mantello E attenderlo De notte Su un pagliericcio Si doveva fare il cosplay Si Di un ragazzino spartano Durante la boge Prima te sposasse Sempre Donovan Loro facevano Cioè si travestivano dai ragazzini Che Con cui trattenevano le relazioni Prima te sposasse Le donne spartane facevano così Con i fidanzati loro Ma Questi Stavano così Quei ragazzini Mi dispiace Rovinarvi gli spartani Ma Così è Sempre per qua Storia Dalla pederastia Era una sorta Di rituale Prematrimoniale Che romantico Ma il fatto Che si sposassero E figliassero tardi Per generare spartani Forti Secondo loro Era mal visto Dagli altri greci Perché le donne Si sposano A 14 anni Qui 14-15 anni Io metto Il meme a rabbia Ma perché Ad Atene Le donne si sposavano A 14-15 anni Coprimenti 15-15 Andiamo avanti E che facevano Fino ai vent'anni Oltre ad allenarsi Negli sport E fa forte Ste donne spartane Lavoravano a maglia No Cucinavano Che coso Ma ci sono gli loti Che facevano Socializzavano Cioè capito Le donne spartane Per essere Nel mille avanti cristo Stavano avanti Fino a vent'anni Almeno Potevano Ghiacchierà Erano Libere Svergognate E avevano fama Di essere Bellissime Come Elena E c'è Ed è vero Quindi tornavo a Gorgo Riuscirà a portare Terone Dalla parte sua Perché Streamavano Esatto Voleva solo Partecipare All'assemblea Volevo avere Il potere di farle fallire E fanno La grande tristezza La grande tristezza Ma che te devo dire Sì quello è il logo Facebook fatto con la lettera greca Ho pensato a tutto proprio Non è successo da nessuna parte Ma non è questo il problema Fosse un filler carino Il punto è che non è che io Ma voglio manco piacchi i filler E che sti filler Sono proprio Non te lasciano niente Sono proprio inutili La trama di Gorgo Alla fine manco Le mande armate Cioè Proprio Cioè Non è come Game of Thrones Che la politica C'ha un ruolo importante Ed è Strutturata bene Qua A Cortella 1 Casca ne monete Per Per scagionarla Vabbè va Sotto trama è Pare una telenovela Manco dici Una telenovela No Pablo Tu mi hai tradito No io ti amo No però me la devi dare È una telenovela Che ha costruita bene Ma vedi Andiamo avanti Sopporta l'umiliazione Per il marito Così questo va Dalla parte sua Forse mandano armate prima Ma le manderebbero comunque Torniamo Non glielo dite Seconda notte Tutti riposano Ma che siamo arrivati 50% Un più De comfort Rast Meme su Rast Aristodelio Purtroppo Ha perso un occhietto Sempre più Gazzu style Ti stai mica lamentando Ma io de astino Penocchietto Ma ancora per poco Perché stiamo al punto De svolta Del film Fumetto Storia vera Tutto è perduto Perché i persiani Hanno scoperto Il sentiero Di Anopea Grazie a Rorturo Grazie Troppo buono Per colpa Di E Fialte Figlio di un messeno Ma un scepo De la capitale Uno come Talos Qua l'ho uscito Talos Dello scudo di Talos E la getta nei commenti Ma l'hai mai letto Talos Si che l'ho letto L'ho uscito Cazzo Talos Uno bravo Cazzo Vabbè Ecco Manfredi Un salutino a Manfredi Che il nostro Martin Alla fine E allora Leonida Magna la foglia Fregandogliela Black Panther Capisce Perché Black Panther Magna la foglia Oh Mannaggia Ce stavano a credere Ce stavamo a credere Ti sono vicino Si finalmente crepamo Yuppi Ma questa è follia Cosa vogliamo fare Crepare Adesso devi cercare il pericolo Io sono il re Leonida Io rido in fascia al pericolo Che spazio Capito Nel film hanno messo 800 filler, non hanno messo i Tespiesi, cazzo, che poverini. 100 morono tutti. Nel fumetto, per esempio, ci sono i persiani che aggirano tutte cose con i Fialte, incontrano prima loro... Che poi li chiamano Tespiani, ma in realtà la pronuncia corretta è Tespiesa. Tespies, Tespiesi, coraggiosi principianti fanno del loro meglio, ma morono. E Fialte cerca pure di esapparli. E Fialte fa pure... No, ma non c'è senso a ammazzarli, poverini. Capito? Sempre perché c'è un buonismo. Non c'è ragione, lo vedi? Non è proprio così merda, ma manco bravo. Non è monodimensionale. Invece no. Buu, Fialte, buu! E allora morite, eh. Dicheno che siano rimasti anche 400 Tebbani. I Tebbani non si capisce. I Tebbani dicono che o gli hanno voluto levare la gloria, oppure veramente erano stati ricattati, oppure rapiti, oppure se ne sono nati all'inizio del terzo giorno, dicono... Non si capisce. Si è che erano stagi, oppure che se ne sono nati poco prima, poi hanno tradito, quindi boh. Ma giustizia per i Tespiesi, Spartani! E chi c'è? Lo Stato e la legge ha controllato ogni aspetto della nostra vita. Dalla nascita, alla crescita, alla bar... Grazie a The Razer 2 per il Prime! E' tempo di dire a quelli che considerano sta storia di destra! Che è vero, cioè, sto film piace molto a quelli, no? Nazionalisti, eccetera. Però gli Spartani... Mo te lo dico. Che noi, in realtà, siamo sempre stati... Comunisti! Pugnazzati proprio. Per gli Lodi, vabbè. Per la madre Sparta! Partigiani Spartani! Mattelli Rossi triunferà! No! Però un po' sì. E lo sai chi lo pensava, questo? Che so comunisti! Che io l'avevo scritto, perché, appunto, c'è stato tutte queste cose in rosso, il fatto che erano tutti uguali... Cioè, pensi che so comunisti! E l'hanno pensato prima di me. Quindi, meno male che condivido queste idee con gente seria, però... Spartigiani bellissimo, Marsh! Spartigiani è bellissimo! Prima del battaglione finale, parliamo un attimo di Sparta nella politica. Io ho fatto la battuta, ma poi sono andato a studiare e l'hanno già pensato, vedi, in un frebuto. Chi lo pensava che avessero ideali del comunismo? Robespierre! Influenzato da Jean-Jacques Rousseau. Ma poi lui, a sua volta, influenzò le gente... Cioè, ma te ne dimenticate questo, andava in giro ai francesi a parlargli di Sparta. Per la rivoluzione, ma che spettacolo! Per la rivoluzione francese, collegamenti Sparta-Francia... Allora, è vero! Sono comunisti! No! Perché lo sai che pure i... No! Quello là... No, YouTube, sta buono! Colui che non deve essere monetizzato, diceva che gli spartani erano il più luminoso esempio di stato a base razziale della storia. Non è che ha proprio porto. Che è verissimo! Quindi i tedeschi sono discendenti degli spartani! Così. Però questo è un po' a caso. Citte! Sì, lo gismi è curatissimo! Perché siamo fichi! E i dori? Basta con questi dori! Sono scesi nel pelo ponneso! Dal Nord! Conservando intatta la razza... Perché capito? Cioè, Hitler diceva che... I dori scendevano dall'Europa e quindi erano i conservatori della razza ariana, capito? Perché dall'Europa... Cioè, vanno tutte cazzate per buttarla al mulino suo. Razzariana! Che cazzo c'entra la sorella di Silente? C'entra! Perché per il bene superiore... Va bene, basta! Quindi sta storia non è né di destra né di sinistra. È storia! Lo so, Michi, l'ho detto, a Guerra del Peloponneso, dopo... Che sta superando il lutto molto bene. È nella fase, non me lavo. E rimpianti. Non ho mai detto a mio figlio quanto l'ammazzi. L'amassi! Orba so tre ore e benze che stavo in live, oh! Andai lasciate la... Evidente scherzando! Atos, Portos, Aramis, Artemis! Pensavo davvero! No, scusa, era pittire a tempo su... A birra non mi ha fatto niente, ragazzi. Questo è molto spantano! Film, perché me tagli i tespiesi? Ed Elio! Un'altra volta! Molte di... Che poi me fanno tagliare? Perché prima, appunto, dicevano tutti... Eh, mo piange quello perché more un amico loro e tutti appiagni. Ipocriti! Ipocriti! Perché? Per il pezzo strappa da... No, please, no. ...dagli occhi che me va contro i valori spartani. Ragazzi, abbiamo una mambo lettina! No, adesso si piange! Va bene. Ma io sto cercando i caricalli, sti ragazzi. Avevo fatto la faccia da pazzo e tutto. Così che è presa male. Presa male? Io non vedo l'ora di raggiungerlo per dirglielo! Ah, ok! Bravo! Forse... Forse è un bene che schioppino qua questi... E infatti... E' facile sentirsi vicini che... Ho anticipato le battute su Elio e le storie... Elio. Io questo l'ho fatto prima di LOL. Basta un tubo. Di Nutella Biscuits. E già citavo Elio. Io so... Predico le cose. Subito ho mandato via. Ma no! Poco prima del pezzo della scopertona del tradimento dei Fialte... Il re aveva chiesto a Delio... Un'altra storia! Cosa di raccontare un'altra storia! E che palla! Una di quelle che caricano... Che faccia ribollire il sangue ai soldati! Una storia forte! Tesa! Vai Delio! Delio e le storie tese! Delio e le storie tese è bella! Dai! E lui decide di raccontare la storia... Della battaglia di Maratona... Famosissima! Proprio quella! Perché la grande vittoria dei... Però che Sparta fa una figura de' merda... Non lo dicono! Sparta è arrivata dopo per il plenunio... Lo dico! Cioè... La battaglia de' Maratona... Famosissima Sparta... Boh! Greci nella Prima Guerra Persiana... Dieci anni fa! Dei greci! Tranne noi! Che siamo arrivati a battaglia finita! Sempre per ste cazzo... Sì, il tema d'Oli Pechino Max, bravo! Perché non potevamo partire... Before it was your cool, esatto! Ma che sia dei lupi mannari! Ma quello della goguera o zio de' Leonida! Questo non lo dicono nel fumetto! Che a Maratona hanno fatto una figura d'esterco! Chissà perché! E dopo gli chiede... Apposta per tutti sti pezzetti delle storie... Che ti fanno capire... Capito perché è Delio che alla fine... Che qua te lo spoilerano a inizio... Che racconta le storie? Perché piano piano nel fumetto... Te racconta sempre una storia! E poi alla fine scopri... Che è tutta una storia pure questa! Oddio! Però... Ah non lo spoilerà! Doti di affabulatore... De' andare a raccontare in giro... Quello che hanno fatto! E che stanno per fare! Se no... Che cazzo ho famo a fa... Una colonna greca che cade nel deserto... E nessuno la sente! Fa rumore! Sì! Sta cosa dell'albero io non ho mai capito! Ok che è una cosa filosofa... L'albero che cade nella foresta... Fa rumore se nessuno lo sente! Sì! Non è che il rumore è dato da qualcuno che lo sente! Poi ci sarà un piccione... E uno scogliattolo l'avvicina all'albero... Che sente che casca! Che cazzo dite? Filosofi! O chi per voi? Fa rumore sì! Non è un petercazzo! Ma nessuno lo sa! E chi se ne frega! Fa rumore uguale! Uno che salva il mondo ma nessuno lo sa! L'ha salvato il mondo! Sì o no? Io non ho capito! Comunque! Ok! Ma tu devi andare in giro a di che è caduta! Ma voglio morire pure io! Mi dispiace! Grazie a Mareci che a quattro pari l'ho convinto con la storia del... Perché è tutto al contrario! Ma così faccio vergognare Otriade! 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 Uno spartano durante la battaglia dei campioni... Pure sta battaglia dei campioni potete pure non metterla! Però Otriade mi piaceva troppo per non metterlo! Ma senti che nome clamoroso! Una battaglia avvenuta tra Sparta e Argo! Dove ambo le parti hanno schierato i migliori trecento... Trecento poi veramente! Sembra un Termopili 1.0! Sempre trecento... Trecento! Ma guarda un po'! Soldati! Botte botte! Otriade è l'unico spartano a rimanere in piedi! E rimanendo l'unico vivo! Che farà? Si suicida per la vergogna! Piccolo angelo! Ha fatto metà del dovere suo! Se doveva suicidare e seppellirsi da solo per non disturbare! Comunque puoi sempre suicidare dove hai consegnato il messaggio? Ok ciao! Otriade perdonami! Poi la battaglia dei campioni si chiamava perché era il meglio del meglio! Che spettacolo! Todemo diventa il prototipo del cattivo spartano! Esatto! Lo dico dopo! Leonida è pensieroso! Questa volta sarà... Almeno sta volta! Niente! Non sa cosa preparare per la colazione! Prodo Nero! Pietanza tipica di Sparta! Mamma mia che schifo! Una zumba con dentro sangue di maiale, aceto, sale e una cosa proprio... Non ne passa... Pure da magna faceva schifo! Niente! Una vita proprio... Mamma mia! Te credo che volevano morire una certa! Te credo! Perché continuate a far veder male a sta maniera? Ma per gli anziani era meglio dell'ambrosia! Veramente! Dicevano che buono! Abbuffatevi! C'è una storia famosa di Encuogo... Oppure... No! De Marato? Un re persiano si era fatto preparare il botonello e ha detto che è schifo! E mi pare De Marato! Ma ha detto... Eh... Per assaggiare questa cosa... Cioè per godere di questa cosa... Deve essere cresciuto come uno spartano! Cioè gli ha detto... Non sei buono praticamente! Che sta... Greve proprio! Che vedremo nell'Ade! Sìììì! Ma come si mangia? E che ne so... Vedi Trippa Device? Trippa Device... Va bene! Mi raccomando voi! Non andate a casa! Che famo l'after nel valore! E DAGLE! E DAGLE! Un brancino nei campi lisi che sto favo mancare! Cambio scena! Ridaglie con Gorgo! Hanno tagliato i testpiesi per mettere i fillerini forum! DAGLE! Siamo arrivati alla fine della sottotrama! Che gli anziani! In teoria so 30! Anzi 28 o più i due re! Qui me parlano di più! Non lo so! Non so 30 mai! Vada col discorso! C'è se capisce che è sta roba proprio! Non parlerò da ministra! Regina! Ma da mamma! Iniziamo malissimo! Io sono... GORGO! Sono una donna! Sono una mamma! Lo so il cinico lo so! Grazie 10! Con EUS! EIS! Con EUS! Vabbè! Dobbiamo entra in guerra con la Persia! C'è la luce incorporata! Non chiedo mai come è stata la luce divina! Vedi? C'è spettacolo! C'è guarda! Fai i meme! Zack Snyder! Fai i meme! Sì! Appena finite i carnet! Mandiamo tutti! Davvero? Eh sì! Questa è! SPORTO! No! Questa è la luce! Questa è la luce! ANGELO GRECO! Vabbè i meme! GORGO scopre che la storia vera manda in vacca tutta sotto trama sua! MAZZA! Quanta ha detto Terone? Che avete fatto quando vi siete visti? Eh? Contagio? Fai tu uso! Ma è ancora qui la regina? Ho sentito un GORGOGLIO! E allora GORGO? Cioè ma che cazzo pensava Terone? Ma allora perché Terone gli ha detto sì dammela? Perché me la volevo far dare e poi la sputtana? Ma... Ma che cazzo fa pure Terone? Cioè non c'ha senso niente! Si esibisce nel mai rotter cazzo più mai rotter cazzo della storia dei mai rotter cazzo! Eh ma ma rotter cazzo! No! Santartemide! Sono tutti squilibrati! Ho fatto male! No! Ma mannaggia Zeus fa l'inizio firma no? Che poi non lo zaccagna io lo appoggia il coltello guarda! Ma che cazzo fa? Quando stavate da soli no? Davanti a tutti! Se risparmiavamo... Cioè lo ammazza alla fine lo ammazza poi no? Vabbè tanto bene è finita la sottotrama! Sto teatrino! Io devo andare a far Trono del Moria coso? Te sei un coglione! Ma non è vero! Ma era proprio Rains of Castamere va! Ti mando i miei regali! Grazie semplicemente Dax per il ride! Ce sirano una bozza dal settor dicimila avanti roll! Si è! Dovunque va non ha bozza! Ci ha fatto caso? Ci ha fatto caso? Agli anziani serve riposo tutti sanno! E sta confusione gli è da fastidio! Ah! Vedi a da troppe libertà le donne in gioventù? Dovremmo rivederla sta grande retra! Se importi le leggi da creta! Te creto! Fortunatamente! Convenientemente! Con la saccagnata! Questo pezzo è troppo bello! Corgo taglia pure un sacco contenente! Questo pezzo ti fa capire quanto cazzo è scritto di merda! C'è non c'è una goccia di sangue e ci stanno le monete! C'è ma come cazzo si fa a scrivere una cosa del genere e difenderla? Io ti a coltello cascano le monete così sono libera dalle accuse! Le monete persiane che non si sa perché ti porti sempre a presso! Non esistono le banche evidentemente! C'è ma veramente! Te oro persiano! Che terone si portava sempre a presso! Così so accortellano! Scagiona l'attentatore! O gliel'hanno data 5 secondi! Ma poi che vuol dire? Potrebbe aver cambiato le monete! Non vuol dire un cazzo che ha la borsa delle monete! Prima! Non lo so! Ma come cazzo le scrivete queste cose? Ma io te... Traditore! 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 Traditore tutta un po'! Traditore! Te l'ho detto! Questi rispondono ai rumori forti e basta! Comunque complimenti a Gorgo! Brava Gorgo! Arrivederci! La secondaria! Far lavorare Lena Hedy! Ma come non hai capito già di ne si che era complice? Bah! Andiamo al terzo giorno di battaglia! L'ultimo! Complottava! Complottava! E gli alte indica il sentiero! Sta lì! Bravissimo! Oro e donne a volontà! Ma è stato facile! Questo ha fatto le fiate! Sono lì ad aspettare! Siamo arrivati a capolini a bus! Sono fatti in pelle! Pure con l'eyeliner va! Perché bisogna andare cura... Io qua ho detto eyeliner te lo giuro! Però se sente agnagnere! Non lo so perché! È il microfono che è andato a... A pitane! A pitane! ...di incontro alla morte! È vero eh! Si pettinavano e tutto! E serse... È vero! Prima d'annacotra la morte! Loro si pettinavano! Si curavano! E uno gliel'ha andato a di assersi un esploratore! E lui ha fatto ma che cazzo di gente è! Che se pettina! Prima non ci credo! E invece sì! Perché loro... Ce tenevano... A morire con dignità! Venendola a sapere... Ci rimane così! Leonida! Dimme! Indovina! Non ci posso credere! Patteggiamo! Embè! Questi mi hanno preso per dormammo! Ma quante volte devi rifiutare uno? Serse sei uno stalker! Gli stalker stanno in Asia minore! Già li ho soggettati! Anche gli stalker! Eccoli là! Ciao! Una foto! Leonida non riesco a smettere di pensarti! E Fialte cerca di metterci una buona parola! Almeno qua... Te lo fanno vedere un pochino! Che cediene agli spartani! Ma io così vedo solo il signo! Almeno all'ultimo te lo dice! No! Però all'ultimo così! C'è... Non me dà la gioia! Della corruzione! Del cambio! C'è non te fa capire che Fialte è uno bravo! C'è non bravo! Però è uno che... Combattuto! Formazione a Sercio! Alla dai! Ma qua fanno la... La testugine romana prima dei romani! Boh vabbè! L'ora! Ormai lo sai! Viette di terre! Tadami i sordi! Sarei generale della Grecia! Ma tu! Dacci l'ultimo centimetro! Devi solo abbozzare! Una volta! Veloce! Teni ginocchi! E subito su! Oh! Fa finta di cascare! Ti vergogni! Famo girare i mortali! Leonida! Davanti alla disfatta totale! Stavolta! Ce pensa! E che fai? Te ne privi? Te ne ultimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimo! Te che è? Rallentire! No che non te ne privi! Minutaggio! Ripensa a quel giorno di 30 anni fa! 50! E oggi come allora Non è la paura Dominarlo Ma quando mai È l'irrequite La gioia Spiralmente Si muore E proprio quando è il momento Di salutare l'oscura signora Come una vecchietta amichetta Leonida si leva l'ermo Il Kratos Il Kratos si chiama L'ermo Butta lo scudo con la lambda Simbolo della sua città Quasi come Kratos Che richiama i suoi antenati Esploratori Esploratori Dopodiché Si rivolge a De Fial Te piace Niente Che tu possa vivere per sempre Bellissima Per gli spartani Non è che ti dicono Li mortasci tu Magari mori E ti dicevano Vivi a lungo Per loro era l'offesa peggiore Vivi a lungo Vive Rekt Il contrario De magari mori Te piace in corpo Da quello che abbiamo visto Per Leonida Per tutti gli spartani E la disgrazia Più grande Facciamo schifo E Fialte E Fialte Leonida Per la prima volta Nella sua vita A bozza In ginocchia Ma come Ma che delusione Ma va bene così L'utopia è sempre più vicina Prez de San Fa il prez de San Guarda Io in San Stelio Non sterco Stelio Allora so io Cos Flashback de Gorgo E dai In mezzo all'azione Alla trecentesima volta Guarda Guarda il gladiatore Ma guarda Spiga ovunque Cioè proprio copiarlo Per cercare Acchiappate quel pubblico Perché è nato forte E un po' rifà Se vede Zack Se vede E si amano Sì ho capito L'incesto è bello Questo stai facendo intendere Contento te Zack Affanculo sta scena È abbastanza soddisfatto Arriva Stelio E boh Bordello Ennesimo Abbasciatore Morto Era l'ultimo Mamma mia Ma raga C'è cascato ogni volta Noi siamo famosi Per mettersene a merda Ok Ma pure voi È una gara Chi vuole perde E vincerò Guarda che faccia Guarda Guardalo Guardalo Adesso lo do colpire Devo mirare bene Sembra quello là De De colorato Che Il cameriere Che faceva Non mi ricordo Come cazzo Si chiama Ma che faccia Fai Gera Ti ammazzava Gerardo Spartano Era il rimedio Un giro Va crepato La netta Face Si è levato Tutta la roba Per essere Più sciolto Quello ti faccio Un pampero Sì è lui E puntare Dritto Alla testa Del Che cazzo Di battuto Ti faccio Un pampero C'è Ma stiamo Ma Ivanzina Docet Un pampero Vabbè Vabbè Era questo Il piano Fin dall'inizio Dritto 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 E boom Guarda che faccia Incazzatissimo Tutti gli anelli E questo pezzo Potrebbe avere Molteplici significati Riassumibili In Boh Ma quello ammazza Perché ci mancava Solo che ammazzasse Tutto questo Ovviamente Nella storia vera Non succede mai Nel fumetto Ma te pare Il trono del muore Andiamo a morire Anzi Altri spartani Sopravvissuti Cercano di ricchiappasse Il corpo Ma fanno tutti Una fine barbina Potrebbe significare Il piccolo Contro il grano Perché il re Era riportato in città E tutti gli onori Capito Ma invece Morti tutti Alla Davide e Golia La fiondata I pochi contro i molti Come verrà ricordata Sta battaglia E proprio le guerre Grecia-Persia Oppure che la piccola Grecia Ha ferito la grande Bestia persiana Con arancia Poco il di tutto questo Alla fine Con il metalupo L'inizio della fine Oppure Boh Te l'ho detto Boh Leonida ferisce Cerze Anche un dio Può sanguinare E Cerze Da dio generoso Quale è Abituato a trattare I corpi dei re avversari Con tutti gli onori Ed è vero Nonostante la rivalità Lo decapiterà Qua ha rosicato Infilerà la sua testa Qua ha sbroccato proprio E' entusiasta E così gli spartani Cominciano a cadere No Manca il sangue Mi fa uscire Non vorrei contraddirla Ma mi pare proprio Desimplice Qua era proprio Mario prega totale E il re Urla E ride La volontà della D E qual è la D Decedere Mi pare giusto Con lui muoiono Tutti 300 spartani Piccoli Ecco Svelata La vera identità Mi pare giusto Con lui muoiono Tutti 300 spartani Sotto il casco C'è sempre stato lui Ragazzi Io ho parlato Con la Ubisoft Che cazzo Xbox Signor Bill Gates Mi ha confermato C'è lui sotto il casco Si è spaccato Durante la morte È morto anche lui Ed è lui Non è Lillo Mi dispiace È Maghillo Non è Lillo Vaffa culo Come vaffa culo Magalli mister No vergoglia E 700 despiesi Tutti 300 spartani Tranne Aristodemo Come abbiamo visto E un altro Se uno sopravvive Pantine E indovina Pantine Ormai puoi intuirlo Nartro che si suicida Poverino Si suicida Per una vergogna Perché io non valgo Pantine Dimmi Abbiamo fatto una cazzata A venire solo in 300 Sopravvive uno in due Cominci a pensarlo anch'io Sai Ah mo ve pentite Delio e Pantine Siamo stati 310 311 Avemmo strapinto Ah C'hai raggio Il pensiero Va alla moglie Il pensiero No che strilla C'hai capito aspetta Il pensiero Va alla moglie Il Regina mia Moglie Amore mio Sii forte Addio Tale vi dar cazzo Invece lui Urla Ma che cazzo Fai Grazie Andrea Bova Adriana Si No che strilla Guardalo Guardalo È pazzo Guarda Guarda la faccia Guarda cose Che solo lui Vede Ma che cazzo La follia Dove internarlo Adriana Parla da solo La psicopatia È completa Lo vedi Guardalo Guardalo Folle Avvistava Madonna 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 De 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 Derfi Ale Dove Voi Aiutato Non Frecciato Perché Ci pensano Altre Che Sina De Frecce Fa Troppo Ride L'omega Della Sua Vita Addio Leonido L'omega Poesia Gli angeli Cosa È SPARTA E Adesso Se divertimo Adesso Parto Dalle Tradizioni Belle Perché Morto Un re A Sparta Tutti I Componenti Della Società Laconica Ma Tutti Spartiati Perieci Loti Glieloti Pure Questa Si riunivano In migliaia E una volta Riuniti Cominciavano Allegramente Appiasse A pizze In faccia Si percuotevano Il volto Non ho capito Se da soli Se piavano a pizza O tra De loro No Da soli Sarebbe ancora Più divertente E si lamentavano Si piavano a pizza Oh Questo re Quanto era bravo Così Per ogni Re morto Cioè Ma Fa troppo Ride Ripetendo Ad altavone Quanto è stato bravo Sto re Non ci sarà mai più Un re bravo Come lui Ammazzava sempre Non mi invento niente Così facevano Che bella Sparta Mi ha fatto troppo ride Ma qui dobbiamo Essere tristi Morte di Leonida Alla Platoon Cambio scena Gorgo Aristodemo Gli ridà il ciondolino Ma è veramente La zanna del lupo Che aveva sconfitto Eh si Non ne frega niente Ma chi frega Gladiatore gladiatore rally So you're approaching me Con rally The world Vabbè Gli occhi del cuore Arriviamo Piccolo Jonathan L'ultima scena del film Dove in teoria Ancora sanguina lui Ha fatto 800.000 km Ancora sanguina dall'occhio Sopriamo che è Delio Nel film ce l'hanno spoilerato Ma è Delio Che racconta Tutta questa storia Ecco perché Ti ho spinto Anche su lui Perché è importante Perché tutto il film Era una delle sue storie Tese Bella timore La più tesa ormai Quella delle termopili E la sta raccontando Ora a noi Come fossimo Uno degli opliti Eh si Nella battaglia di platea Non è l'assemblea Basta con sta assemblea Si cita anche L'iscrizione Che c'è ora Alle termopili Dove hanno eretto Una statua In onore di Leonida E soldati E dice Che qui 300 spartani E i loti e tespesi Sono morti Osservando le leggi Morti male Bello è anche L'epitaffio di Simonide Diceo Vattela Che lo lo mette Però ho detto Ho tagliato Perché stavo a fine Dice tutta una cosa Incredibile Vanno dove la legge A cercare E adesso Con un esercito Di 10.000 spartani Siamo alla fine 5.000 E 5.000 opliti per 10 E un mare Dei loti Al seguito Come al solito Ma ok I numeri sono giusti 10.000 Qua sono giusti 5.000 E 5.000 Però sono 10.000 Non tutti spartani Però Preupliti si intende Ma ok Sono 40.000 in tutto Ok Assemble Oggi persiani Persian war Ok Persian war Solo il triplo De noi Ciao man Siamo pure usciti De casa Daie Sbrigamosi che fra 50 anni Se confiamo tra de noi Nelle guerre del peloponneso Ma solo una cosa Che c'è Perché dovremmo credere a te S'è scappato Qua lo tra C'è Agazzaro Ancora vivo sei Abbi la decenza Di porre fine alla tua vita Perché Aristotelo Come pantine Nel fumetto E capitano Ma quando mai Sì L'hanno pure promosso No No Nella storia vera Verrà schifato Dagli altri spartani Perché Perché sto fatti così Stai scappato Fanculo Ma mi ha mandato il re Quisquilie Questo è un controsenso Questa è Sparta E a platea Aristotemo Delio C'è more pure lui L'ultimo dei trecento Un lieto figlio Morti tutti Ricostando il mio onore S No Perché non morirà Accanto ai suoi compagni La bella C'è capito Boh Vabbè Ma andrà volontariamente In giro per la battaglia Come hanno fatto prima A cercare una morte gloriosa Quello che t'ho detto prima Che non se fa Ma leoni dell'altri L'hanno fatto Non è vero Vedi che sei bugiardo Però alla fine moro dai Così non vale E così sparta Quindi lui more Andando in giro Cercando dei falleroi C'è more Ma lo ricorderanno Sempre come una merda Perché Se staccato dalla falange Non se fa Non se fa Per quello che mi diceva prima Però sarebbe venuto un film Troppo Ma è così che funzionano Negli spartani Ma poi non mi pare Perché alla gente È piaciuto sapere Che Ah vi dintedi Staccato dalla falange Perché se no Se ne ha merda Perché poi E la storia vera C'è Vabbè Ta vinse Insieme a tutta la Grecia Contro la Persia Devi fare l'auro 2 Esatto tirando Aveva fatto proprio Se beccamopulos E aveva lasciato Qua se se già non c'era più S'era rotta il cazzo Da guerra Aveva fatto Lo sai che c'è A me non me ne frega più niente C'è Se era tornato un Persia Ha lasciato la gente Che ha preso pure le pizze Alla fine ha fatto Lo sai che c'è Vaffanculo Quello pezzo di terra Che è la Grecia Morite tutti C'è Morite come me pare Ammazzate tra di voi E si ammazzeranno Tra di loro Mercito E Mardonio Scemore Sti persiani Comunque il so boni Erano solo tanti Fu una vittoria Platea Platea Scusate Ma veramente Lo sai quanti sono morti Degli spartani Venuti qua 91 5.091 Su migliaia Cazzo era meglio 90 La paura Cifra tonda Pure questo è colpa D'Aristodemo Vedi Che è voluto morire Bu Delio Bu Se no 90 Siamo arrivati E lo saranno Ancora Finchè non andranno In crisi demografica E quelli del fello Polizioni Se li porteranno contro Poi arrivano i Macedo Di poi i Romani E che te lo dico a fa Esatto Poi c'è stare Alessandro E Sparta Comunque Diciamo che qua E un po' dopo C'è avuto il picco Della gloria Poi dalla guerra Del Peloponneso Poi i Macedoni Poi i Romani Comincerà Sempre più a Contare un cazzo Piccoli angeli A fine Oh Che bel video Grazie È stato il riassunto Che mi ha preso più tempo Nello scriverlo Due mesi Al gabbio Due mesi Editaggio E ci ho messo 15 giorni A prendere tutte le fonti E a scriverlo Ma più che altro A scriverlo Per le fonti Quindi veramente Ci ho messo È un mese qualcosa Editarlo A fine E vedo che sta andando bene Vediamo se siamo Abbiamo superato E 615.000 views Vediamo un po' Sì Mamma mia Come viaggia Oh Ares Non mi sento tanto Vabbè Sì vabbè Tornato Aspetta Dobbiamo vedere la fine Superquark No C'è YouTube Piccolo Angelo Non serve Superquark Mo' finiamo il video 5 minuti ve leggo E ve salustio Vorrei andare un po' Editando Manca il sangue Vediamolo Non vorrei Due round De sacrificio Aspetta Ecco qua Però De solito Ci metto pochissimo A scrivere Un giorno Ci metto un giorno Due a scrivere Io de solito Stavolta pure la parte De ricerca Quella m'ha preso Un video Ogni due giorni Non editassi Come edito io Lascia fare Però Devo editare È stata Abbastanza Distribilizzantina È stato veramente Un esperimento Il più difficile Che abbia mai fatto A una certa Le più difficile De una TV before muori Che dovevo cantare E detto Dovevo inventare Le canzoni Qua dovevo cerca La roba Ed era troppa E infatti All'inizio Ho messo un botto Di roba Ho cercato Di dividere La per tutto Il video Poi E spero Che sia Fruito Abbastanza L'alba Di un impero Non credo Che pensavo Fossero troppi E forse Lo sono state No Valerio Magari la fa la prossima volta Non c'ho la forza La reazione Forse no Ma è stata la mia prima volta Siate buoni Eppure lo speciale Quasi quasi Vabbè famola 300 Una storia da prendere Con le manovre a tenaglie Con le manovre a tenaglie Te l'ho detto Può essere vista da più punti Però alla fine È una bella storia De sacrificio Del bene comune Esatto Questa mi è piaciuta a me Il fatto che uno Si sacrifichi Ma non per Deve essere di destra Il sacrificarsi Per la patria Anche in attacco dei giganti No C'è la gente Si sacrifica per le pixie Se gli fa il discorso Fatelo per la vostra famiglia Questa è una bella storia Che non è Né di destra Né di sinistra Ehm Il sacrificarsi Per il bene superiore Io c'ho sempre visto questo A parte le fomentate E magari Ti avvicina la storia vera Sto film o fumetto Come ha fatto a me Adesso Per fare il video Magari no Comunque a me È sempre piaciuto Col gigante E sto contento di averla Se da anelli lo faremo Spero vi sia piaciuta pure a voi Grazie che me vedete i video Grazie che me seguite De notte Per strada Come i fiali C'è la scena C'è la scena Attenzione Mica è finito Mi seguite come fiali Ah oh C'è nessuno È ancora vivo È ancora vivo Ha finito la guerra Ha vinto sens Vero Tirami fuori di qui Dio re Dai te prego Aiutami Grazie a te Michelle Muttatemi una lucetta Almeno Lo faccio Signore Si Chi è Di Cagliopolis Piacere Di Cagliopolis Me lo ricordo Perché ve l'ho detto Che ho fatto Sei mesi di classico E mi ricordo Di Cagliopolis È una delle prime cose Che ho studiato Che dovevo fare la versione De greco Sto Di Cagliopolis È famoso Questo contadino Quindi Ci ho voluto mettere Ho voluto citarlo A fine video Di Cagliopolis Che ce fai qua Ma niente È un nome vero Greco antico È famosissimo Chi ha fatto il classico Lo sa No ho fatto l'artistico Questa è Carta Però ho fatto un po' Il classico Da quanto stai qua Dai inizio Sei mesi Perché poi La scuola mia è esplosa Sono scappato di tutti i professori Allora me ne sono nato Artistico Amici mia Perché ero un decisore Artistico e classico A questo punto me ne è arrivato Lascia fare Seconda Andava pure bene Mi sono perso la prima Va bene Qua è il memino Che sta lì da tre anni Da anni E qua c'è il pezzo finale Ho finito Non ci posso Qua ho finito Di Di fare Cioè di parlare Che ho tipo parlato Per sette ore E mentre stavo A chiude Ho finito Non ci posso Cre E se è chiuso Mentre è E ci ho voluto lasciare Va bene Regà Siamo slayer Ma prima Magari Se vediamo Frusciante Vi è piaciuto il video Ditemi qualcosa Prima di andare a dormire Si è andato bene il video Sono contentissimo Spero vi sia Un sacco Una cosa che voglio dire Che io appunto L'ho caricato Avendoci anche un po' De paura Perché non è che L'ho fatto controllata Nessuno Legge Mi sono solo fatto Dire parole E non volevo dire Cazzate E nessuno mi ha detto Niente Anzi Pure i classicisti Mi hanno detto Che bel video Che bel video Quindi so contento Che ho controllato 800.000 volte Tutte le cose che dico Le hanno dette altri Nei libri Platone Plutarco Eccetera Se no fonte Quindi non è che Devo solo Sta attento Ma Poteva pure Andare Una merda Perché io non ho studi C'ho il diploma C'ho Una scuola privata Da programmatore Quindi So contento Che sia andata bene L'esercito Di Tebb So contento Quello è Il battaglione sacro E' uno dei battaglioni Più forti So contento Vattene a cercare Anzi Si è stato monetizzato Quindi C'ho pure E' campato Un po' Si è colpa Di caverna Di Platone No di Platone Due ore De video Regà Non penso Che farò mai più Due ore De video Magari si Magari il prossimo Anno Più bello Il video Del film Ah grazie Capolavoro Che è troppo buone Signori Ci vediamo Fra 40 ore Magari ci vediamo Prima frusciante E poi Due tre puntate Dei demo slayer Va bene Grazie mille Grazie per tutto L'amore Il supporto I sub Eccetera Il feste Rivia Al mai Ci vediamo Dopodomani Vado di dare One Punch Man Ok Sono troppo 40 ore No Mi raccomando Martedì Se inizia Bloodborne E poi Domenica 25 12 ore Su Minecraft Perché ha vinto Minecraft Va bene Ciao a tutti Ciao 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 Tante care cose Sì